Benvenuti a tutti nel video di Le Inchieste dedicato al delitto di Via Poma. Voglio iniziare subito con il dire che questo è stato in assoluto, almeno fino ad ora, il caso che ho trovato più complesso e complicato da raccontare. Per approfondire questo caso, infatti, sono ricorso alla lettura di numerosi libri che vi presenterò nel corso del video, ma anche di articoli di giornali dell'epoca, cioè del 1990. Non è un caso, infatti, se ancora ad oggi, cioè a 32 anni da questo orrendo delitto, non c'è ancora un colpevole e la vicenda non è stata per nulla spiegata. In realtà, però, di persone sospettate di essere l'assassino di Simonetta Cesaroni, la ragazza tragicamente uccisa, appunto, il 7 agosto del 1990 a Roma, sono stati numerosi, ma tutti quanti, alla fine, sono stati prosciolti da ogni accusa. Nel 2011, pensate a 21 anni dal delitto, è stato condannato a 24 anni di carcere quello che allora, nel 1990, era il fidanzato di Simonetta Cesaroni, ovvero Raniero Busco. Raniero che però è stato poi assolto in appello e assolto in Cassazione. Vedremo tutto quanto nel dettaglio come si è svolta questa vicenda, che vi dicevo, veramente complicata, uno dei gialli più complicati in assoluto nella storia della Repubblica Italiana. Vi dicevo che è stato molto complicato per me preparare questo video, tant'è che la scaletta del video l'ho rifatta più e più volte. Quando pensavo di essere pronto per registrare, finalmente, venivo a scoprire qualcosa che ribaltava completamente tutto ciò che dava ormai per certo. Come vedremo, appunto, i personaggi che entreranno in questa vicenda, che hanno sempre fatto parte di questa vicenda, sono numerosissimi e molto, molto misteriosi. Sembra, infatti, che in questa vicenda molte persone abbiano mentito, anche perché dicono diverse persone, tra loro, cose molto contrastanti riguardo a uno stesso fatto o a un medesimo momento di questa storia. Quindi una di queste persone, ovviamente, sta mentendo. Perché? Per quale ragione? Per quale motivo? Faremo alcune ipotesi e vedremo, appunto, nei dettagli come si è svolta tutta questa vicenda. Ma partiamo dall'inizio. È il 7 agosto del 1990. Simonetta Cesaroni è una ragazza di soli 21 anni, romana, che lavorava come impiegata, ok, presso la Reli Sass, una società che faceva capo a Salvatore Volponi. Quindi Volponi era il datore di lavoro di Simonetta. La mattina del 7 agosto, Simonetta si vede con il suo capo Volponi perché devono mettere giù il piano ferie e soprattutto perché Simonetta, il pomeriggio di quel 7 agosto, avrebbe dovuto concludere un lavoro presso gli uffici di Via Poma. Come avrete sicuramente capito, chi di voi non conosceva già la storia di questo delitto, Simonetta Cesaroni si recò il pomeriggio del 7 agosto in Via Poma, dove trovò la morte, e da qui prende il nome il caso, cioè il delitto di Via Poma. Si recò lì perché aveva stabilito con il suo capo che per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, all'incirca per tre ore, cioè dalle 15.30 circa alle 18.30 circa, Simonetta avrebbe dovuto svolgere un lavoro di contabilità, cioè inserire i dati contabili del AIAG, cioè l'associazione italiana Alberghi della Gioventù, quella che veniva più comunemente chiamata da tutti Ostelli della Gioventù. Questa società, l'AIAG, aveva i suoi uffici proprio in Via Poma, numero 2, Roma. Quindi Simonetta viene mandata dal suo datore di lavoro in questi uffici per fare un lavoro quindi per un'altra società diversa dalla Rely per l'AIAG. Il presidente dell'AIAG, cioè degli Ustelli della Gioventù, era allora l'avvocato Caracciolo. Vedremo anche lui come entrerà in questa storia in modo misterioso. Quindi la mattina di quel 7 agosto, Salvatore Volponi dice a Simonetta di andare in Via Poma 2, agli uffici dell'AIAG, e di terminare quello stesso pomeriggio il lavoro di contabilità che svolgeva in quegli uffici, perché Caracciolo aveva così richiesto. Simonetta rientrò a casa poi, quindi alle 13.30 per pranzare. A questo punto, durante il pranzo, avviene un evento subito molto molto importante per questa storia. Perché infatti Simonetta va a rispondere al telefono oppure va lei ad effettuare una telefonata, questo la madre e la sorella non lo ricordano con esattezza, ma la cosa importante è che Simonetta rimane al telefono per 15-20 minuti, quindi un tempo abbastanza lungo per una telefonata. E la sorella ricorda che dopo quella telefonata Simonetta non era, diciamo, di umore molto felice, molto contenta, era un po' turbata. Fatto però tardi, tant'è che Simonetta non riesce a terminare il pranzo, perché deve uscire, sono circa le 14.30, deve uscire perché deve appunto recarsi in Via Poma a terminare questo lavoro molto urgente. Quel giorno Simonetta non aveva la macchina a disposizione perché al mattino, quando lo usò per recarsi alla Rely, dove lavorava appunto al mattino per incontrare Volponi e programmare il lavoro del pomeriggio, ecco, quel mattino la macchina aveva fatto un rumore strano, quindi Simonetta chiede al padre di portarla nel pomeriggio dal meccanico, e così il padre farà. Siccome però deve recarsi in Via Poma al pomeriggio per finire il lavoro, chiede alla sorella Paola di accompagnarla alla metro, quindi decide di andare in metro quel pomeriggio. Le due escono di fretta circa alle 14.30 e verso le 15.00-10 arrivano alla fermata della metro. Simonetta è talmente di fretta che dimentica la cartellina del lavoro in auto, la sorella Paola la richiama indietro, Simonetta torna indietro, prende la cartellina, saluta la sorella Paola, scende nella metro e scompare nel sottosuolo di Roma. Sarà l'ultimo momento in cui la sorella vede Simonetta. Simonetta quindi prende la metro, diciamo intorno alle 15.00. Il percorso della metropolitana da lì a Via Poma è circa, ha la durata circa di 40 minuti, quindi noi, calcolando anche il tempo a pievi dalla fermata a Via Poma, possiamo essere sufficientemente certi che Simonetta Cesaroni entra nell'edificio, nel complesso di Via Poma, intorno alle ore 16.00. Cosa sappiamo a questo punto di quello che fa Simonetta al lavoro? Simonetta entra negli uffici dell'IAG di Via Poma, come faceva tutti i martedì e i giovedì pomeriggio, e abbiamo detto che quel martedì 7 agosto Simonetta doveva terminare il lavoro. Quindi abbiamo assolutamente la certezza che Simonetta fosse di fretta, cioè doveva terminare il lavoro in tempo. L'analisi del PC che utilizzava Simonetta in Via Poma per lavorare, sappiamo che lo accese quel pomeriggio del 7 agosto alle 16.35 e che aprì il programma di contabilità che usava per inserire i dati degli ostelli alle 16.37. La prima cosa che ci dobbiamo chiedere quindi è che cosa fa Simonetta dalle 16 alle 16.35 quando accende il computer? Ci ho pensato a lungo e alla fine sono giunto alla conclusione che probabilmente Simonetta in quei 35 minuti aveva preparato tutti i documenti che le servivano poi per inserire i dati di contabilità nel PC. È un lavoro che certamente poteva richiedere all'incirca 30-35 minuti. Quindi Simonetta prima prepara il lavoro con tutti i fogli diciamo cartaceo il lavoro cartaceo che poi andrà a inserire nel computer. Per esserne certi dovremmo essere sicuri che questa era l'abitudine di Simonetta cioè prima preparare il lavoro e poi accendere il computer perché questo chiaramente varia un po' da persona a persona. C'è chi appena arriva in ufficio accende il computer e poi prepara il lavoro chi invece prima prepara il lavoro e poi accende il computer nel momento in cui gli serve. Perché faccio questa premessa e parlo di questo perché alcuni ipotizzano che invece Simonetta accese il computer 35 minuti dopo circa il suo arrivo in ufficio perché in realtà non era da sola come sarebbe dovuta essere quel pomeriggio perché tutti gli impiegati dell'IAG se ne vanno alle 15 dagli uffici e poi arrivava Simonetta che faceva il lavoro di contabilità. Quindi sarebbe dovuta essere da sola come sempre. Qualcuno invece ipotizza che quel giorno il giorno del delitto Simonetta non era sola. magari era già in compagnia all'arrivo di quello che sarebbe diventato il suo assassino e che accadde qualcosa che fece ritardare l'inizio del lavoro a Simonetta. In ogni caso però possiamo ritenere che Simonetta era tranquilla intorno alle ore 16.37 quando avvia il programma di contabilità. E perché lo possiamo dire? Perché alle 17.15 Simonetta si blocca interrompe il lavoro di scrittura dopo aver inserito soltanto tre dati. Perché Simonetta si blocca alle 17.15? Perché non riesce non è a conoscenza di un codice che le serviva. Difatti alza il telefono e chiama la Berrettini che era la responsabile amministrativa dell'IAG. La Berrettini appunto è lei a dire questo cioè dice Simonetta mi ha telefonato intorno alle 17.15 perché le serviva un codice. quel codice però io non lo conoscevo lo conosceva la Baldi che era la capo ufficio diciamo della contabilità. Simonetta chiamò me perché non aveva il numero della Baldi ma le avevo lasciato il mio numero proprio quella mattina perché siccome bisognava chiudere il lavoro di contabilità quel pomeriggio io le avevo già detto precedentemente guarda ti lascio il mio numero se hai bisogno di qualsiasi cosa chiamami. Questo è vero perché sull'agenda di Simonetta abbiamo il numero della Berrettini e non della Baldi quindi Simonetta chiama la Berrettini anche se la Berrettini non sapeva il codice perché non aveva il numero della Baldi è la Berrettini che le dice ok aspetta un attimo che chiamo la Baldi mi faccio dare il codice e ti richiamo e così avvenne intorno alle 17.20 17.30 quindi la Berrettini richiama Simonetta dopo aver parlato con la Baldi e Simonetta risponde quindi Simonetta alle 17.30 è ancora viva e la Berrettini dice mi sembrava molto gioiosa tranquilla come al solito dalla voce non ho percepito alcun motivo di preoccuparmi diciamo per questo dicevo che possiamo ritenere che in quel momento quando sta ancora lavorando Simonetta sia tranquilla non percepisca alcun pericolo i codici che la Baldi dichiarerà di aver dato la Berrettini per Simonetta sono due IDSU e DELO IDSU stava a significare istituto per il diritto allo studio universitario e DELO era l'acronimo di DELOLLIS un ostello che si trovava in via DELOLLIS Simonetta ringrazia la Berrettini la Berrettini dice che sente Simonetta battere a macchina quei codici che le dettava le due si salutano ma a questo punto proprio in quel momento accade qualcosa di cui non siamo a conoscenza e che dovremmo sapere sarebbe molto importante sapere che cosa accade per risolvere il mistero di Simonetta Cesaroni qualcosa è accaduto sicuramente infatti proprio in quell'istante quando Simonetta riaggancia il telefono con la Berrettini perché quando la sorella ora vedremo come scoprì purtroppo il cadavere di Simonetta negli uffici di via Poma la sorella la Paola sarà portata proprio dove lavorava Simonetta alla scrivania sarà fatta sedere lì dalla polizia per tranquillizzarla ebbene la sorella dichiarerà il pc che usava Simonetta era acceso era all'interno del programma di scrittura e ho visto lampeggiare la scritta DELO proprio quel codice che le serviva per quell'ostello dell'Hollis in via dell'Hollis quindi Simonetta non conclude di inserire quel dato per il quale aveva chiamato la Berrettini quindi qualcosa avviene immediatamente dopo la seconda telefonata con la Berrettini perché Simonetta si interrompe di nuovo e non finisce di digitare quello che stava facendo la perizia sul computer utilizzato da Simonetta dirà che Simonetta utilizzò il computer per 33 minuti di lavoro quindi con i tempi diciamo siamo sufficientemente certi di ricapitolare i primi momenti di quel pomeriggio di Simonetta in via Poma in questo modo arriva all'incirca le 16 prepara il lavoro accende il computer alle 16.35 lavora per 33 minuti difatti si blocca più o meno intorno alle 17.15 perché non riesce a inserire quei codici fa le telefonate le viene dato il codice ma non va avanti a lavorare dopo quei 33 minuti come dice la perizia sul computer perché non riesce a ultimare l'inserimento di quel codice qualcosa accade Simonetta quindi dopo le 17.20 circa le 17.30 non darà più segnali di vita l'ultima a sentirla a sua voce telefonicamente è la Berrettini a casa iniziano a preoccuparsi già intorno alle 19.30 cioè l'orario solito in cui arrivava a casa Simonetta da via Poma all'inizio i genitori siccome era andata in metro quel pomeriggio dicono ma magari ha fatto ritardo la metro è successo qualcosa si è bloccata ci metterà sicuramente un po' di più oggi a tornare a casa iniziano però ad avere un po' di sospetti perché Simonetta era una molto metodica in questo cioè anche se ritardava di 5 minuti avvisava sempre a casa invece non telefonò inoltre quella sera i genitori non lo sapevano ma Simonetta si era organizzata con alcuni amici per andare a mangiare una pizza doveva recarsi alle ore 20 presso una pizzeria di Roma e alle 20.20 non vedendola ancora arrivare una dei suoi amici telefona a casa e chiede di Simonetta dice ma dov'è Simonetta che doveva venire con noi a mangiare la pizza il padre dice guarda non è ancora rincasata come viene ti faccio richiamare i genitori ovviamente si agitano ancora di più non ha avvisato nemmeno loro del ritardo ma neanche i suoi amici con i quali aveva un appuntamento e questo è totalmente fuori dal comportamento solito di Simonetta oltre il padre Claudio Cesaroni inizia a pensare che altra cosa strana è che Simonetta non abbia chiamato nel corso del pomeriggio per chiedere se il meccanico aveva riparato l'auto del resto le serviva la macchina quella sera per andare in pizzeria e come riferire al padre quando la macchina era dal meccanico Simonetta telefonava sempre per sapere se era pronta e quindi doveva passare a prenderla ma di Simonetta ancora intorno alle ore 21 di sera nessun segnale e così la madre preoccupata manda al padre a cercarla e anche la sorella con il fidanzato in motorino le chiede di andare avanti e indietro per la strada che dalla fermata della metro porta a casa loro per cercare la sorella mia moglie cominciava a preoccuparsi aspettavo una telefonata o qualcosa che mi dicesse dove stava Simon il tempo passava vuole che la mia sorella mio nipote tutti non si ricevevano telefonate né da mia figlia né da nessun altro non sapevamo dove sbattere la testa eravamo preoccupati all'eccesso dopo il momento io ho cominciato a telefonare agli ospedali tutti gli ospedali i possibili ospedali che trovavo sulle pagine di ero poi alla fine ho telefonato tanto alla questura quanto ai carabinieri e anche lì sempre risposte negative la preoccupazione a casa Cesaroni sale sempre di più Simonetta non si trova sono ormai le nove di sera e allora la madre dice a Paola chiama Volponi il datore di lavoro di Simonetta magari gli ha dato un lavoro in più da fare e sta facendo tardi per quello ed è talmente indaffarata che non ha avuto tempo di avvisarci la sorella Paola prende il numero di Volponi che era in possesso dei genitori ma non riesce a prendere la linea perché il telefono di Salvatore Volponi alle ore 21 di sera circa 20 e 30 tra le 20 e 30 e le 21 Paola chiama numerose volte e tutte quelle volte lo trova occupato ricordate questo dettaglio la mamma di Simonetta non può più aspettare e dice guarda Paola Volponi abita qui vicino a 500 metri magari al telefono guasto vai a casa sua chiedigli se sa qualcosa di Simonetta Paola e il fidanzato vanno a casa di Volponi gli suonano e sono all'incirca le 21 e 30 Volponi gli apre la porta e rimane un po' sbigottito si chiede ma che cosa sta succedendo Paola gli dice che Simonetta non è ancora tornata a casa e Volponi dice ma come non è ancora tornata a casa Simonetta ah tra l'altro avrebbe dovuto chiamarmi intorno alle 18 e 20 18 e 30 per dirmi che era finito il lavoro e quindi potevamo stare tranquilli che la contabilità di Caracciolo era sistemata Paola gli dice no non è ancora rincasata pensavo che tu gli avessi dato un lavoro ulteriore lui dice no no doveva soltanto terminare quel lavoro ma non mi ha chiamato per dire che l'ha finito a questo punto alla sorella Paola sale davvero l'angoscia Simonetta era una molto precisa sul lavoro se non ha chiamato nemmeno Volponi per dirgli come stava andando qualcosa deve essere sicuramente successo allora Paola gli chiede Volponi ma portami agli uffici dove lavora mia sorella perché la famiglia non era conoscenza dell'ubicazione degli uffici dell'AIAG cioè di via Poma era conoscenza soltanto dove stava la rally di Volponi dove lavorava al mattino Simonetta ma qui Volponi dice qualcosa di molto incredibile e che a molti pare sospetto cioè dice io non ho assolutamente idea di dove si trovano gli uffici dell'AIAG perché della gestione della contabilità per l'AIAG si occupava il mio socio Bizzocchi non io però in via Poma ce l'ha mandata lui cioè Volponi Simonetta è credibile che non sapesse appunto che l'AIAG dove si recava Simonetta aveva i suoi uffici in via Poma 2 la sorella Paola è un po' spazientita gli sembra poco collaborativo Volponi gli chiede allora di telefonare a Caracciolo il presidente dell'AIAG in modo di farsi dire dove sono sti benedetti uffici Volponi alza il telefono telefona a Caracciolo ma non risponde nessuno perché Caracciolo è in vacanza in campagna e quando si ritirava nella sua villa di campagna dopo vedremo tutti i particolari relativi a questa storia Caracciolo non voleva assolutamente essere disturbato e non aveva nemmeno il telefono nella sua villa di campagna si sono ormai fatte le 22 passate e la sorella Paola continua ad essere preoccupata Volponi non sa come aiutarli a un certo punto ha questa idea Paola prende le pagine gialle le apre e cerca uffici dell'AIAG a Roma e trova l'indirizzo finalmente via Poma 2 chiede a Volponi di accompagnarle Volponi acconsente e chiede a sua volta al figlio di guidare quindi queste quattro persone il figlio di Volponi che guida Volponi Paola la sorella di Simonetta e il fidanzato di Paola si recano in via Poma in auto la sorella Paola riferirà durante l'interrogatorio che Volponi indicò la strada al figlio da seguire con diciamo sicurezza senza mai avere un dubbio su girare a destra a sinistra o che cosa fare e quindi gli sembrò un po' strano visto che Volponi gli aveva detto di non sapere dove erano gli uffici Volponi risponderà dicendo che non sapeva che gli uffici erano in via Poma ma sapeva dove era via Poma a Roma perché aveva lui degli uffici vicini a via Poma e quindi conosceva l'ubicazione della via ma non sapeva che erano proprio lì gli uffici dove andava Simonetta questo fatto comunque rimase molto sospetto anche agli occhi degli inquietenti per lungo tempo il gruppetto di quattro persone arriva quindi in via Poma 2 alle 23.20 del 7 agosto arrivano lì al cancello di via Poma 2 suonano al citofono ovviamente dell'ufficio degli ostelli magari Simonetta risponde dice che cosa sta succedendo ma Simonetta non risponde di Volponi scavalca il cancello per aprire agli altri tre il gruppetto entra nel cortile centrale del complesso di via Poma a questo punto Volponi si defila dal gruppo ok il datore di lavoro di Simonetta i tre lo cercano e vedono che Volponi sta parlando con una donna questa donna è la portiera di via Poma 2 cioè è la moglie del portiere di via Poma 2 Pietrino Vanacore la moglie di Pietrino Vanacore con cui sta parlando Volponi si chiama Giuseppa De Luca quando i tre raggiungono Volponi che sta già parlando da qualche secondo con la portiera questa appare molto restia nell'accompagnarli agli uffici dell'AIAG dice che non è assolutamente autorizzata a fargli entrare e poi dice che non ha nemmeno le chiavi per aprire allora la sorella Paola dice vabbè se non ci vuole aprire almeno ci porti su che suoniamo il campanello perché non vorrei che mia sorella si fosse sentita male doveva tornare a casa invece so che è venuta qui a lavorare e non è ancora tornata la portiera non dopo ancora qualche resistenza consente finalmente ad accompagnarli su al terzo piano dove stavano gli uffici dell'AIAG una volta sotto il palazzo i quattro passano il cancello esterno e devono convincere la portiera che non vuole farli entrare dopo alcuni momenti concitati salgono in ascensore e si trovano così di fronte il portone dell'AIAG chiedono alla portiera di accompagnarli al piano dell'associazione italiana alberghi della gioventù sono molto preoccupati perché la ragazza che lavora lì non è ancora tornata a casa e non riescono a trovarla la portiera dello stabile Giuseppa De Luca sembra seccata la portiera si oppone dicendo prima genericamente di non avere le chiavi e poi invece insomma che ha un ordine tassativo che nessuno può salire su i quattro insistono e così la portiera prende le sue chiavi e li accompagna al terzo piano della scala B arrivati alla porta suonano il campanello ma ancora nessuna risposta la sorella Paola prega la portiera quasi in ginocchio di aprire quella maledetta porta la portiera che aveva detto di non avere le chiavi a un certo punto le tira fuori e apre la porta una volta aperta la porta degli uffici con quattro mandate dice però mi avete messo l'ansia l'agitazione ho paura entrate voi vedremo poi successivamente altri dettagli su questa storia con la portiera di quei momenti concitanti molto interessanti e molto particolari per questa storia li vedremo poi man mano durante il racconto i quattro quindi entrano lasciando la portiera fuori e si dirigono negli uffici dove lavorava Simonetta è tutto buio accendono quindi le luci ma di Simonetta nessuna traccia la cercano negli uffici subito all'entrata dell'appartamento a un certo punto però Volponi Salvatore Volponi il datore di lavoro decide di andare a cercare anche degli uffici un po' più nascosti sulla sinistra arriva all'ultimo ufficio sulla sinistra che era quello occupato dal capo ufficio che si chiamava Carboni apre la porta e si trova di fronte una scena Simonetta Cesaroni infatti è a terra morta colpita con 29 pugnalate il corpo di Simonetta è appunto disteso con le braccia all'indietro le gambe aperte ed è nuda Simonetta porta soltanto un reggiseno abbassato verso il basso e un corpetto adagiato sul ventre oltre a due calzini bianchi per il resto è completamente nuda e dei suoi vestiti non c'è alcuna traccia ci sono soltanto le sue scarpe riposte in un angolo della stanza in maniera ordinata slacciate e riposte in un angolo Volponi dice subito di portare via la sorella Paola per evitarle la visione di quella scena orribile ma non c'è nulla da fare la sorella vuole sapere che cosa è successo inizia a urlare si libera da tutti quelli che cercavano di trattenerla apre la porta vede la sorella morta comincia ad urlare a quel punto riescono a riacciuffarla e la portano fuori dall'appartamento la portiera apre e il gruppetto perlustra nell'oscurità le stanze il primo a svelare la porta dell'orrore è Salvatore Volponi ma la sorella Paola è lì subito dietro la scena è terrificante ho intravisto la sagoma però non ho visto in che condizioni era mi hanno portato via quindi chiaramente c'è stato un attimo da provare una sensazione incredibile di vuoto proprio chiedevo cosa era successo che gli avevano fatto ma è viva chiedevo l'impressione che ne hanno ovviamente gli scopritori del corpo ovvero la sorella il fidanzato Salvatore Volponi il figlio di Volponi è un'impressione drammatica sul corpo ci sono i segni di 29 colpi d'arma bianca la portiera resta fuori l'ufficio è deserto luci spente finestre chiuse solo il rumore del condizionatore è acceso nel buio riescono a individuare che c'è un'altra cosa che è accesa ed è il computer dove lavorava questa ragazza però della ragazza nelle prime stanze non c'è traccia resta solo l'ultima sala era la stanza del direttore che era in ferie e quindi era stato chiuso con le tapparelle chiuse per cui era il buio il primo ad entrare è Salvatore Volponi il datore di lavoro della ragazza scomparsa lo segue Antonello il fidanzato della sorella di lei entro Antonello nella stanza e vide il disastro accese la luce e gli apparve questo corpo martoriato è il corpo della ragazza scomparsa Simonetta Cesaroni 21 anni Paola la sorella di Simonetta comincia a urlare disperata non vide tutto lo scempio ma comunque vide il corpo della sorella e si disperò Simonetta Cesaroni è a terra a pancia in su con braccia e gambe divaricate sul viso lividi e ferite sul corpo i segni di 29 coltellate inferte alla giugolare al cuore alla carotide al ventre e al pube una violenza e una puntualità nel colpire determinati punti del corpo che dimostrano una rabbia e un impeto fuori dalla norma Simonetta indossa solo un paio di calzini bianchi un corpetto e un reggiseno sollevato sopra al seno le scarpe sono state slacciate accuratamente e deposte poco lontano in modo ordinato non una goccia di sangue su quelle scarpe e anche intorno al cadavere di sangue ce n'è poco ascono tutti a quel punto dall'appartamento riscendono le scale rientrano nel cortile centrale del complesso di via Poma per chiamare la polizia la portiera non è con loro arriva la polizia effettua i primi rilievi effettua le prime fotografie porta via il corpo di Simonetta l'autopsia effettuata dal medico legale Carella Prada dirà che Simonetta Cesaroni ha ricevuto appunto 29 coltellate due delle quali sono state mortali una alla carotide ed una al cuore Simonetta Cesaroni però dirà Carella Prada prima di essere pugnalata 29 volte è stata colpita con un pugno o uno schiaffo molto forte alla tempia destra probabilmente Simonetta a causa di quel colpo è caduta ha perso i sensi quindi era svenuta quando ha ricevuto le coltellate l'assassino si è seduto a cavalcioni sul corpo della povera ragazza stringendole i fianchi con le ginocchia tanto da lasciarli degli ematomi e a quel punto l'ha colpita violentemente per 29 volte con un'arma da taglio con la mano sinistra siccome Simonetta Cesaroni ha ricevuto il colpo alla tempia destra e le pugnalate dice il medico legale sono state effettuate con la mano sinistra si presume che l'assassino sia mancino l'ha colpita appunto con la mano sinistra di fronte quindi il colpo è arrivato sulla tempia destra di Simonetta è caduta e la pugnalata Carella Prada nota anche due lesioni sul seno sinistro sopra il capezzolo sinistro vedremo successivamente in particolare durante il processo appunto quando fu accusato il fidanzato nel 2011 Raniero Busco di aver ucciso Simonetta ecco vedremo come queste due lesioni queste due discontinuità come le definì Carella Prada saranno così importanti per adesso cioè nel 1990 al momento del ritrovamento del corpo e dell'autopsia quelle due lesioni vengono rivelate ma non gli viene data alcuna importanza rilevante professore sulla base delle lesioni da lei riscontrate attraverso la perizia sul corpo di Simonetta è possibile ricostruire la dinamica del delitto beh è possibile ricostruire una dinamica quella che io mi sono rappresentato attraverso lo studio delle lesioni sicuramente il quadro lesivo è stato un quadro estremamente rappresentativo nel senso che le 29 coltellate che la povera Simonetta ha avuto erano concentrate sostanzialmente al viso al torace addome e al pub quindi un quadro lesivo sicuramente indicativo e diciamo anche eloquente sotto certi aspetti e sicuramente lo stesso quadro lesivo poi ha rappresentato talune alte caratteristiche per cui possiamo ricostruire anche la posizione rispettiva di Simonetta e dell'assassino e quindi una posizione di Simonetta sicuramente supina con l'assassino che le incommeva diciamo e procedeva a ferirla più volte ecco ma lei dice in posizione supina quindi si presuppone che Simonetta precedentemente abbia subito dei colpi delle in questo ambito va inquadrato sicuramente la tumefazione che Simonetta aveva all'emivolto sinistro all'emivolto destro anzi mi perdoni e che era l'espressione di un'energia contusiva piuttosto violenta energia contusiva traduciamo vuol dire un pugno di un colpo contundente diciamo che poteva essere rappresentato sicuramente da una mano aperta come a dare uno schiaffo uno schiaffone un ceffone o un marrovescio forse ecco ma quel tanto da farle perdere di senso da obnubilarla comunque se non proprio a farle perdere di senso e obnubilarla e farla cadere in terra e poi incombere immediatamente su di lei e procedere al ferimento professore ecco ma Simonetta praticamente è stata colpita mentre era ancora vestita oppure è stata colpita quando era già senza abiti secondo me è stata colpita quando era praticamente nuda o comunque aveva quei pochi pochi vestiti che io ho rinvenuto al momento del sopralluogo e poi che ho descritto in autopsia eccetera e sicuramente perché diciamo anche la posizione la la morfologia delle macchie di sangue eccetera è una morfologia che presupponeva sicuramente una situazione di libertà di vestiti ecco ecco ma per esempio all'interno delle ferite non sono stati trovati lei eseguendo la perizia non ha trovato frammenti di abiti qualcosa perché ecco anche questo anche questa è un'altra riprova che Simonetta era nuda sicuramente è un'osservazione sicuramente sicuramente acuta quella di dire appunto se non c'erano pezzi di abiti indubbiamente pezzi di abiti non c'erano la cosa che nota immediatamente la polizia è giunta sul posto è che per le 29 coltellate subite dalla povera Simonetta c'è pochissimo sangue intorno al corpo di Simonetta infatti non c'è non ci sono chiazze di sangue c'è soltanto una pozzetta di sangue molto esigua per il tipo di ferite riportate che si trova dietro al collo di Simonetta quindi la polizia pensa immediatamente che qualcuno se non l'assassino stesso ha ripulito la scena dopo il fatto quindi lei ha perso molto sangue ha perso molto sangue io ho inteso poi interpretare in maniera molto approssimativa la sua perdita di sangue in grosso modo 3 litri sotto la testa di Simonetta c'è una gora di sangue la polizia inoltre afferma che la porta non presenta segni di effrazione quindi i casi sono due Simonetta ha aperto al suo assassino e lo conosceva oppure l'assassino si trovava già all'interno dell'ufficio dell'AIAG di via Poma quando è arrivata Simonetta Simonetta Cesaroni aveva in dotazione le chiavi di quegli uffici ovviamente siccome arrivava quando tutti gli impiegati erano già andati via come abbiamo detto ebbene quelle chiavi non saranno ritrovate sono state portate via dall'assassino insieme ai vestiti abbiamo detto di Simonetta perché sarà ritrovata soltanto con i calzini con il reggiseno e con il suo corpetto appoggiato sul ventre e le vengono portati via tutti i gioielli che aveva quel giorno cioè una collana degli orecchini e un bracciale mentre le viene lasciato l'orologio al polso sinistro probabilmente gli investigatori pensano che i gioielli siano stati portati via per simulare un tentativo di rapina finito male perché simulare? perché secondo gli inquirenti e anche secondo lo stesso medico legale che ha fatto l'autopsia Carella Prada quello non è un delitto a seguito di una rapina ma è un delitto a sfondo sessuale a far pensare questo oltre al fatto che Simonetta è stata ritrovata praticamente nuda a far pensare questo sono appunto le zone in cui Simonetta è stata colpita dal suo assassino cioè che sono principalmente zone sessuali il seno il ventre e anche la zona pubica oltre a quelle zone Simonetta è stata pugnalata molte volte agli occhi e al viso l'interpretazione delle lesioni subite da Sirionetta come dicevo all'inizio il quadro lesivo è estremamente rappresentativo era soprattutto un'interpretazione topografica perché queste lesioni occupavano il torace e addome quale espressione della volontà di uccidere nello stesso tempo un altro gruppo di lesioni interessava gli occhi gli occhi c'era una concentrazione di lesioni a livello orbitario e una concentrazione di lesioni a livello pubblico è evidente e più che evidente che la concentrazione di lesioni a livello oculare poteva avere un significato di silenzio testimoniale di è chiaro di non testimonialità e quello al pub sicuramente aveva un significato di ordine sessuale iniziamo a parlare ora di un argomento che ritornerà molte volte nel corso del nostro racconto cioè le tracce di sangue che sono state rinvenute sulla scena del crimine la polizia nota immediatamente molte tracce di sangue sulla porta dell'ufficio del capo ufficio Carboni cioè dove è stata uccisa Simonetta che quindi come abbiamo detto non era l'ufficio dove lavorava Simonetta in via Poma ma è esattamente dalla parte opposta cioè l'ufficio dove lavorava Simonetta era entrando nell'appartamento era in fondo a destra l'ufficio dell'amministrazione l'ufficio di Carboni invece era in fondo a sinistra quindi esattamente dalla parte opposta dell'appartamento viene subito ipotizzato che Simonetta è stata chiamata con una scusa dal suo assassino in quell'ufficio oppure l'aggressione incominciata negli uffici di Simonetta e lei è fuggita di là per tentare di scappare oppure ancora Simonetta sentendosi minacciata da qualcuno nel suo ufficio aveva tentato di allontanarsi avendo timore spostandosi quindi nell'ufficio più lontano la cosa che balza subito agli occhi che risulta evidente è che Simonetta non ha subito violenza sessuale quindi si tratta di un delitto sicuramente sessuale dice il medico legale ma non è stata violentata sessualmente quindi probabilmente il suo assassino è stato rifiutato da Simonetta il suo approccio è stato rifiutato e per vendicarsi quest'uomo misterioso che viene subito definito Mister X la prima colpita al volto facendola finire la terra e perdere i sensi e poi l'ha pugnalata con un'arma che probabilmente ha trovato lì negli uffici risulta però molto strano che Simonetta è stata ritrovata appunto nuda e ci si chiede subito Simonetta si è spogliata di sua volontà perché era con un uomo e poi è successo qualcosa oppure Simonetta è stata uccisa mentre era vestita ed è stata poi spogliata dal suo assassino anche le scarpe che alcuni dicono sono riposte così in maniera ordinata in un angolo stiamo vedendo nel frattempo che racconto anche alcune foto quelle scarpe sono state messe lì così in modo pulito e ordinato perché se le tolte lei cioè Simonetta era consenziente all'inizio di avere un rapporto con questo uomo misterioso e poi è successo qualcosa però io ritengo invece che questo sia molto molto strano e che invece sia stato appunto proprio l'assassino o qualcuno che ha sistemato la scena del crimine dopo l'omicidio che ha riposto lì le scarpe ed il resto anche il corpetto che viene ritrovato non dove dovrebbe stare cioè indossato nella parte superiore del corpo a coprire il seno sopra il legge seno ma viene ritrovato appoggiato dopo l'azione omicidiaria chiaramente sul ventre quasi a coprire quelle violentissime pugnalate che la povera Simonetta aveva ricevuto sul suo ventre dunque secondo me Simonetta non si è spogliata di sua volontà ma è stata minacciata a farlo da qualcuno che poi le ha tolto tutti i vestiti e li ha portati via probabilmente perché quei vestiti contenevano tracce del sangue dell'assassino che probabilmente come vedremo si è ferito anzi sicuramente si è ferito durante l'azione omicidiaria e quindi contenevano sicuramente comunque tracce del suo DNA e che quindi questo assassino ha portato via ritorniamo ora alle macchie di sangue quelle numerose macchie di sangue che sono state trovate sulla porta sia sul lato interno che sul lato esterno dell'ufficio dove è stata trovata morta Simonetta abbiamo detto che la polizia scientifica stacca quella porta perché lì pensa di trovare le tracce che consentiranno di arrestare l'assassino e va ad analizzare tutte queste tracce di sangue cioè sulla facciata della porta che sta all'interno dell'ufficio sono rinvenute macchie di sangue gruppo A sulla maniglia Simonetta Cesaro era di gruppo 0 tutte le altre macchie che vediamo in questa immagine che ora vi mostro quindi esclusa la maniglia tutte le altre macchie sono di Simonetta Cesaro il sangue è stato analizzato è gruppo 0 e appartenente a Simonetta sulla maniglia invece abbiamo un gruppo A appartenente a un uomo DNA maschile ecco perché abbiamo detto fin da subito che l'assassino di Simonetta è un uomo sul lato esterno della porta invece venne rinvenuta una traccia di sangue che è quello sbafo il famosissimo sbafo sulla porta di cui si parla molto di cui si sente tanto parlare e su cui a lungo si è discusso vedremo poi perché riguardo a questo caso al delitto di via Poma perché quello sbafo sulla porta è sangue di gruppo 0 tuttavia già nel 1990 gli scienziati notarono che quella traccia di sangue di gruppo 0 era una traccia mista cioè era risultata di gruppo 0 ma erano presenti più di più DNA cioè più del solo DNA della vittima era una traccia mista il problema nel 1990 è che non si poteva dividere i DNA cioè se avevamo una traccia mista purtroppo non si poteva scindere la traccia cercando di capire quindi quali erano i due DNA andando ad escludere quello della vittima cercare quindi di estrarre quello dell'assassino in questo caso quindi riguardo le tracce di sangue sulla porta dell'ufficio dell'omicidio nel 1990 si dice sono tutte tracce della cesarone del suo sangue sia all'interno che all'esterno quindi anche quello sbafo eccezione fatta che quelle sulla maniglia all'interno dell'ufficio perché sono tracce di gruppo A quindi non di Simonetta se non sono tracce di sangue di Simonetta sono sicuramente tracce di sangue lasciate al suo assassino che si è ferito avendo utilizzato un'arma da taglio per ucciderla oltre che sulla porta la polizia trova delle tracce di sangue su un telefono il telefono che viene trovato macchiato di sangue non è quello dell'ufficio di Carboni cioè l'ufficio del delitto e non è quello che utilizzava Simonetta Cesaroni nel suo ufficio il telefono trovato macchiato di sangue è un telefono che stava nella stanza adiacente a quella in cui lavorava Simonetta e che era molto nascosto cioè non si vedeva da fuori bisognava entrare nella stanza per vederlo di fatti nella stanza in cui si trova questo telefono ce n'erano altri due oltre a questo che erano più in vista questo telefono che viene trovato però macchiato di sangue riporta delle macchie di sangue numerose macchie di sangue vediamo ora l'immagine vedete il telefono tutto sporco perché la foto è stata fatta dopo che la polizia ha cercato con la polverina di trovare delle impronti digitali ebbene tutte quelle macchie di sangue che vedete sono molto evidenti nel lato basso della cornetta e nell'angolo in basso a destra del telefono ci sono proprio in quei punti delle strisciature di sangue quindi l'assassino si era ferito in maniera non gravissima da mandarlo in ospedale ma comunque perdeva sufficientemente sangue da lasciare numerose tracce e poi ci sono vistose tracce di sangue sui numeri 789 e sul tasto dell'autoparlante diciamo subito che il tasto dell'autoparlante di quei telefoni dell'epoca serviva per ascoltare senza alzare la cornetta e portarla all'orecchio si poteva ascoltare schiacciando quel tasto i messaggi della segreteria o una persona che parlava al telefono ma per rispondere a questa persona non essendo quei modelli ancora dotati di microfono esterno per parlarci bisognava alzare la cornetta e parlare nella cornetta quindi schiacciando quel tasto o si ascoltavano diciamo in viva voce i messaggi della segreteria o si ascoltava la persona che stava al di là dall'altro capo del telefono che parlava ma per risponderle bisognava sempre alzare la cornetta tutte queste macchie sono sangue di gruppo A maschile lo stesso trovato sulla maniglia al lato interno dell'ufficio la polizia quindi è sicura bisogna cercare a chi appartiene quel sangue di gruppo A perché è il sangue dell'assassino chiariamo subito un altro punto come vi dicevo all'inizio questo caso è molto complicato anche perché ho visto numerosi documentari e ho letto numerosi articoli in cui si faceva un po' confusione nel raccontare questa storia anche riguardo a tracce importanti come queste qua di sangue perché si parlava vedremo dopo quanto sarà importante appunto durante il processo di regno e robusco quello sbafo sulla porta sul lato esterno ma quando si parlava dello sbafo sulla porta veniva fatta vedere la porta al lato interno cioè quella con le numerose macchie di sangue di Simonetta e invece la maniglia insanguinata che presenta il sangue dell'assassino perché sono numerose macchioline piccole ma di sangue di gruppo A ebbene lo sbafo sulla porta veniva individuato in una di quelle macchie che stiamo vedendo adesso in realtà quelle sono tutte macchie abbiamo detto del sangue di Simonetta Cesaroni gruppo 0 il gruppo A di questa foto sta soltanto sulla maniglia lo sbafo sulla porta è quello che viene trovato nel lato esterno della porta che è di fatto l'unica macchia grossolana evidente di sangue che si trova quindi chiarito questo punto passiamo poi anche al telefono perché si sente spesso parlare della macchia sul telefono la macchia dell'assassino ma su quel telefono riguardiamolo sono numerose le macchie quindi non parlerei di macchia sul telefono ma di macchie tutto il sangue che vedete e che vi ho evidenziato prima quali sono i tasti e le zone in cui è presente è tutto sangue di gruppo A tutto non c'è qui traccia del sangue di Simonetta quindi l'assassino ha toccato quel telefono mentre era ferito quindi presumibilmente si era ferito alle mani questo assassino perché va a toccare quel telefono vedremo dopo alcune ipotesi che si possono fare risulta molto strano però che una persona che ha appena fatto effettuato un omicidio del genere poi vada a telefonare o a rispondere a un telefono lasciando anche le proprie tracce di DNA su quel apparecchio telefonico perché che cosa è successo non abbiamo parlato dell'arma del delitto abbiamo detto che probabilmente è stata trovata dall'assassino negli uffici dell'IAG di via Poma ebbene si ipotizza che l'arma del delitto sia un tagliacarte dell'ufficio ed in particolare il tagliacarte che stava sulla scrivania che apparteneva a Maria Luisa Sibiglia chi è Maria Luisa Sibiglia? Maria Luisa Sibiglia era un'impiegata dell'IAG che aveva la propostazione nell'ufficio accanto a quello dove stava Simonetta proprio quindi nella stanza in cui è stato ritrovato il telefono insanguinato e siccome proprio il medico legale Carella Prada che ha fatto l'autopsia ha ipotizzato e ora sentiremo da lui perché ha ipotizzato che l'arma del delitto fosse proprio un tagliacarte quindi la polizia avendo saputo questo dal medico legale cerca un tagliacarte reperta tutti quelli degli uffici e è soltanto di quel tipo lì quello che coinciderebbe di più con le ferite di Simonetta quello della Sibiglia e bene la Sibiglia dice guardate che io quella mattina del 7 agosto che ero lì al lavoro me ne sono andata alle 15 poco prima quindi che arrivassi Simonetta io quel taglierino non lo trovai quella mattina tant'è vero che ne chiesi uno alla mia collega il punto è che quel taglierino viene ritrovato proprio lì dove doveva stare e dove quindi non era la mattina del 7 chi l'ha riposto lì? è ipotizzabile che l'assassino l'abbia trovato in un altro punto dell'ufficio chiaramente non sulla scrivania della Sibiglia perché ci dice la Sibiglia con certezza che non era lì quel giorno professore mi dica gli inquirenti hanno ipotizzato che Simonetta sia stata colpita con un tagliacarte simile a questo insomma con una lama di circa 30 cm gli inquirenti hanno sequestrato questo tagliacarte questo tagliacarte con cui sarebbe stata colpita Simonetta è stato messo a sua disposizione per verificare la corrispondenza fra la forma della lama e le ferite sul corpo di Simonetta io non ho la questione del tagliacarte penso di averla proposta io al momento io sono uno degli inquirenti quindi l'ho proposta io nell'ambito inquirente e l'ho proposta sulla base dello studio molto attento mi creda di tutte queste lezioni ho letto da studiato la sua felice lo so esatto e perché mi sono orientato su un tagliacarte perché perché non su un mezzo diciamo da punta di taglio generico ecco lo dedussi dal fatto che in genere i tagliacarte hanno una hanno una lama non progressivamente che si allarga ma vede hanno una punta e poi si raggiunge il massimo della lama vede il massimo ecco studiando il il tramite delle lesioni io io vidi e notai che il tramite aveva la stessa la stessa diciamo omogeneità di larghezza cosa diciamo molto abbastanza caratteristica di molti tagliacarte la simiglia infatti non l'ha trovato perché stava da qualche altra parte nell'ufficio magari proprio nell'ufficio di Carboni che l'aveva preso in prestito ed è lì dove è stata trovata morta Simonetta che l'ha trovato l'assassino ma perché è stato riposto allora sulla scrivania della Sibiglia la polizia analizza quel tagliacarte della Sibiglia alla ricerca di tracce e rimane sorpresa perché su quel tagliacarte non solo non c'è sangue ma non ci sono nemmeno impronti digitali è stato ripulito alla perfezione perché? perché è l'arma del delitto altrimenti non si spiegherebbe l'assenza su un tagliacarte di impronti digitali quel tagliacarte è pulito in tonso e noi sappiamo con certezza che quella mattina non era dove è stato ritrovato nel sopralluogo effettuato quella notte successiva all'omicidio di Simonetta Cesarone chi lo ha riposto lì pulito? perché? sicuramente qualcuno che conosceva con esattezza la disposizione degli oggetti in quell'ufficio che sapeva che quello era il tagliacarte della Sibiglia non sapeva però che la Sibiglia non l'aveva lasciato sulla sua scrivania perché era sparito da qualche parte c'è un'altra stranezza legata a quel tagliacarte guardiamo infatti le fotografie del sopralluogo della polizia di quella notte questa fotografia mostra il momento in cui il tagliacarte è stato ritrovato ebbene il tagliacarte si trova in una posizione A vedete che la pinzatrice invece è sulla posizione B quella è la scrivania della Sibiglia il tagliacarte e la pinzatrice sono in posizioni diverse non sono vicini ebbene nella foto successiva che è allegata agli atti il tagliacarte è poggiato vicino alla pinzatrice cioè sono entrambi in posizione B sopra quel caderno azzurro con la scritta Mediolanum lo vedete in questa foto perché è stato spostato il tagliacarte? non si doveva fare qualche poliziotto un po' sprovveduto lo ha fatto perché lo ha controllato ha guardato qualcosa alcuni addirittura ipotizzano che il tagliacarte è stato sostituito e per questo è stato analizzato ed è stato trovato totalmente privo di tracce ma che motivazione ci sarebbe chi si sarebbe infiltrato quella notte tra i poliziotti per sostituire il tagliacarte e per quale motivo io ritengo che sia invece più probabile che qualche poliziotto appunto non attento non ligio alle regole lo abbia preso in mano guardato con i guanti quindi non lasciato impronte almeno questo e lo ha appoggiato dimenticandosi dove l'aveva preso in una posizione leggermente diversa non è su un'altra scrivania però non era una cosa che si doveva fare tra le altre cose quello del tagliacarte non è l'unico errore che fece la polizia quella notte durante il sopralluogo infatti il computer di Simonetta che era acceso al momento del ritrovamento del corpo come ci ha detto la sorella Paola sarà spento inavvertitamente a luna e 26 del mattino dell'8 agosto la cosa più probabile è che qualche poliziotto inavvertitamente abbia staccato la spina perché l'analisi del computer riporta appunto che l'arresto è stato avvenuto in modo anomalo cioè non è stato spento il computer correttamente ma è stata tolta la corrente altro errore molto molto più grave di questo perché comunque la perizia sul computer si è potuta fare comunque altro errore molto molto più grave invece è che sempre per errore e io credo in questo ma sempre per errore qualche poliziotto anche qui sprovveduto e inadeguato al suo compito evidentemente ha cancellato la segreteria telefonica del telefono della scrivania di Simonetta Cesaroni cioè quella che lei utilizzava che ha usato per chiamare Berrettini per farsi dare il codice sul quale ha ricevuto la risposta della chiamata poi appunto ancora delle Berrettini che aveva ottenuto il codice dalla balde aveva richiamato Simonetta eccetera eccetera la segreteria telefonica la segreteria telefonica che conteneva messaggi è stata cancellata dirà la polizia è stato un errore dei nostri uomini che pensavano di riavvolgere il nastro per ascoltare i messaggi invece hanno premuto il tasto cancella sarebbe stato sicuramente molto interessante per il caso sapere che messaggi conteneva la segreteria di Simonetta dunque la polizia ha trovato queste tracce sulla porta e sul telefono è certa che l'assassino è quello che ha lasciato le tracce di sangue di tipo A ferendosi con il tagliacarte durante l'azione omicidiaria cioè mentre uccideva Simonetta Cesaroni con 29 colpi d'arma bianca quella notte tra il 7 e l'8 agosto vengono interrogati tutti quanti sia tutte le persone che hanno trovato il corpo quindi la sorella il finanziato della sorella Volponi il figlio di Volponi eccetera eccetera il portiere Pietrino Vannacore del palazzo di Via Poma 2 la moglie del portiere poi vedremo nei dettagli questi due personaggi così misteriosi e tutta la loro storia legata a questa vicenda e non solo e viene interrogato anche il fidanzato dell'epoca appunto di Simonetta Raniero Busco che si trovava a fare il turno di notte all'Alitalia viene prelevato da lì viene portato in questura e viene interrogato per 12 ore il colpo di scena arriva il 10 agosto tre giorni dopo l'omicidio la polizia pensa di aver trovato l'assassino di Simonetta e arresta trasferisce in carcere momentaneamente Pietrino Vannacore appunto il portiere del complesso di Via Poma 2 perché la polizia il 10 agosto del 1990 arresta Pietrino Vannacore e chi era Pietrino Vannacore all'anagrafe Pietro Vannacore chiariamo adesso com'era composto lo stabile di Via Poma perché ci sarà utile anche nel proseguo del racconto che stiamo facendo ebbene allora Via Poma era strutturata in sei palazzine indicate con le lettere dell'alfabeto dalla A alla F lo stabile in cui avvenne il delitto di Simonetta Cesaroni era lo stabile B che comunicava direttamente con lo stabile F l'intero complesso di Via Poma era quindi formato da sei palazzine tra loro comunicanti a due a due e i portieri di tutto il complesso di Via Poma erano due uno di questi due era appunto Pietrino Vannacore come avevo detto all'inizio tutti i soggetti presenti in Via Poma quella tragica notte e i familiari e il fidanzato e i conoscenti gli amici di Simonetta vengono interrogati quella stessa notte in procura ovviamente viene interrogato anche il portiere dello stabile e sua moglie i sospetti della polizia nei confronti di Petrino Vannacore iniziano proprio subito quella notte durante gli interrogatori perché i poliziotti come ammetterà lo stesso capo della squadra mobile del greco si aspettavano che il portiere del palazzo ok Petrino Vannacore fungesse appunto da risorsa molto utile cioè facesse dei nomi dicesse se ha visto qualcosa di strano quel pomeriggio raccontasse qualcosa di interessante su Simonetta magari aveva visto qualcosa anche nei giorni precedenti che era accaduto e poteva quindi riferire ad essere un testimone importantissimo perché insomma si sa i portieri sono un po' portati anche in virtù del loro lavoro a farsi gli affari degli altri ebbene Petrino Vannacore attira su di sé numerosi sospetti proprio perché fa l'esatto opposto risponde soltanto ad alcune delle domande che gli fa la polizia e risponde sempre in modo molto frettoloso e vago non vede l'ora di andarsene a casa non fornisce alcuna informazione utile soprattutto alla polizia non racconta nulla anzi afferma di non aver mai visto Simonetta Cesaroni Vannacore era una figura un po' anomala di portiere portiere generalmente quando c'è un'indagine da parte della polizia o comunque un'attività informativa da parte della polizia è uno che collabora i primi sospetti su Vannacore avvengono quasi quasi a pelle perché il fatto che lui neghi addirittura di aver mai visto questa ragazza ci risulta un po' strano questa ragazza che era lì da qualche settimana quindi andava avanti e dietro questa cosa fa subito insospettire la polizia è possibile che il portiere non ha mai visto e nemmeno sua moglie la portiera lo dichiarerà nessuno dei due portieri ha mai visto Simonetta entrare in quel palazzo durante uno di quei pomeriggi sembra davvero molto strano perché o per un motivo o per l'altro il portiere è sempre lì ad osservare proprio l'ingresso e quindi certamente pensa la polizia avrà visto Simonetta perché ci dice di no ma insospettite ancora di più che non per il fatto che dica di non aver mai visto Simonetta appunto proprio dal fatto che Vannacore non è collaborativo per nulla i poliziotti approfondiscono le indagini su di lui gli chiedono subito che cosa ha fatto quel pomeriggio e quella sera del 7 agosto Vannacore afferma che intorno alle 17.30 del 7 agosto andò da un ferramenta a comprare un frullino da caffè questo è provato da uno scontrino che consegna alla polizia poi afferma di essere stato dalle 17.30 in poi sempre lì nel cortile centrale a chiacchierare con l'altro portiere perché il complesso di via Poma è appunto formato da sei palazzine e tutte queste sei palazzine convergono poi al centro nel cosiddetto cortile in cui era situata una grossa vasca in cui erano presenti anche i pesci teniamo presente che quel complesso di via Poma era formato per lo più da appartamenti occupati da uffici quindi da posti di lavoro e invece c'erano poche abitazioni diciamo di persone che proprio vivevano in quel complesso e alcune di quelle poche persone inoltre essendo il 7 agosto erano in vacanza quindi ci sono pochi testimoni e poche persone che possono dire qualcosa di utile quindi Petrino dice dopo che ho comprato il frullino da caffè sono stato un po' nel cortile centrale con l'altro portiere e poi sono andato ad innaffiare le piante di questi appartamenti di queste persone che erano in vacanza io avevo le chiavi e mi hanno chiesto di tenerli bagnate le piante la polizia controlla l'alibi di Vanacore se è vero perché c'è lo scontrino che ha comprato il frullino di caffè alle 17.25 non è altrettanto vero che si è intrattenuto nel cortile centrale con l'altro portiere del complesso perché infatti l'altro portiere dirà di non aver assolutamente mai visto Petrino Vanacore in cortile dalle 17.30 in poi continuano quindi ad aumentare i sospetti sul portiere la polizia va a controllare le piante che dice di aver annaffiato il portiere va a controllare quindi i vasi di quelle abitazioni e la polizia nota che rileva che le piante sembrano non essere state bagnate da giorni quindi non è assolutamente vero che Petrino le bagnò il pomeriggio del 7 agosto perché la terra è asciuttissima fanno questo controllo la mattina subito alla mattina alle prime ore dell'8 agosto perché insospettiti appunto da tutti questi fatti e quindi è praticamente impossibile anche se era ad agosto che Petrino bagnò quelle piante intorno alle 18 poi Vanacore dice che mentre annaffiava le piante vide arrivare esattamente alle 18 un ragazzo un abitante di via Poma con il suo motorino la polizia va a interrogare questo ragazzo e Petrino Vanacore si è un po' fregato da solo perché la polizia gli chiede è vero che lei quel giorno è rientrato alle 18 col motorino gli dice guardi io sono uno molto abitudinario rientro tutti i giorni alle 18 col mio motorino ma al 7 agosto ho bucato in strada e sono rientrato molto dopo quindi Vanacore era sicuro di diciamo crearsi un alibi dicendo di aver visto quel ragazzo arrivare in motorino alle 18 perché era convinto di questo Vanacore perché effettivamente quel ragazzo arrivava tutti i giorni preciso come un orologio svizzero alle 18 ma per sfortuna di Vanacore quel giorno non arrivò alle 18 quindi la polizia ha la conferma che il portiere nasconde qualcosa e ha mentito sui suoi alibi il portiere non aveva diciamo detto la verità fondamentalmente il portiere disse che lui era rimasto per tutto il tempo seduto insieme alla moglie e all'altro portiere nel comprensorio ce ne erano due e che si era allontanato solamente per un'oretta ad annaffiare le piante la verità è che gli inquirenti andarono a controllare e scoprirono che non era vero perché la terra degli appartamenti che lui aveva indicato nei vasi era secca quindi non era assolutamente stata annaffiata quel ragazzo che tornava tutti i pomeriggi e torna a quell'ora col motorino proprio quel pomeriggio non era tornato perché aveva bugato in strada Vanacore dovete inoltre sapere che la notte la passava dormendo a casa dell'architetto Cesare Valle chi era? era colui che progettò l'intero complesso di via Poma e vi abitava ormai in pensione da molti anni avendo bisogno di cure di assistenza costante soprattutto la notte Vanacore faceva tutti gli effetti da badante appunto dormendo a casa di questo anziano signore l'architetto Valle interrogato sull'orario di arrivo di Vanacore quella sera dice Vanacore arrivò a casa mia alle 11 intorno alle 11 Petrino Vanacore invece riferì alla polizia di essere certo di essere entrato in casa di Cesare Valle e di restarci tutta la notte finché sarà svegliato dalla moglie per l'arrivo della polizia avendo trovato il corpo di Simonetta ebbene dice di essere arrivato a casa Valle alle 22.30 invece l'architetto dice mezz'ora dopo la moglie Giuseppa De Luca telefona a casa degli ingegneri Cesare Valle per sapere come deve comportarsi con quelle persone che chiedono di entrare ma l'ingegnere dichiara agli inquirenti che quando arriva alla telefonata Petrino Vanacore non si trova nel suo appartamento una dichiarazione che poi ha tentato di correggere per il dispiacere che questa dichiarazione potesse portare danno al portiere ulteriore quindi elemento di sospetto nei confronti del portiere che non sa dire con esattezza fornire un alibi certo che dica appunto alla polizia dove si trovava dalle 17.30 alle 23 un tempo molto molto lungo ma soprattutto un tempo come abbiamo detto durante il quale è probabilmente avvenuto l'omicidio di Simonetta successivamente emergono due elementi fondamentali per la nostra indagine il primo che lui non riesce a dare una presenza tra le 17.30 alle 18.30 orario in cui noi ormai siamo quasi certi di essere avvenuto l'omicidio l'altro quello serale quando lui ci riferisce di essere andato a casa dei Valle e non coincidono gli orari attraverso anche la testimonianza dell'ingegner Cesare Valle vengono sequestrati gli abiti che indossavano a Core il 7 agosto e la polizia trova sui suoi pantaloni due macchie di sangue o meglio due macchie di quello che pensa di essere sangue e trova invece una macchia di sangue sul letto sul materasso del letto a casa di Valle il letto dove dormiva ovviamente Vanacore per tutti questi motivi la polizia esegue immediatamente il fermo di Pedrino Vanacore e lo trasferisce in carcere in attesa alla decisione del giudice forse ad una svolta le indagini per l'atroce a diritto di Roma la ragazza uccisa in un ufficio con decine di coltellate sentiamo uno spiraglio si è aperto nel caso della ragazza uccisa con 29 coltellati in un ufficio a Roma alle 14 circa la squadra mobile ha eseguito un fermo giudiziario per omicidio volontario è stato fermato il portiere dello stabile dove è avvenuto il delitto si chiama Pietrino Vanacore la polizia ha tenuto a sottolineare che l'uomo è stato fermato sulla scorta di una serie di indizi due gli elementi che hanno attirato gravi sospetti sul portiere il primo non sa spiegare cosa abbia fatto tra le 17.30 e le 18.30 e l'ora in cui è accaduto il delitto il secondo elemento è che sono stati trovati degli schizzi che sembrerebbero essere di sangue su una delle sue tute di lavoro la polizia analizza quelle macchie e mentre si aspetta il risultato delle analisi che la polizia ritiene ormai certamente restituiranno il profilo di Simonetta cioè quello il sangue di Simonetta Cesaroni prova che inchioda Vanacore ebbene mentre si aspetta il risultato di quelle analisi Pietrino Vanacore inizia a parlare a fare ciò che non aveva mai fatto fino a quel momento e riferisce un fatto molto interessante cioè dice intorno alle 18 io ho visto nel cortile centrale del complesso uscire un uomo con un cappellino che portava sotto la scella un sacco una busta nera perché Vanacore si ha davvero visto questo individuo molto sospetto con una busta nera sotto la scella al pomeriggio dell'omicidio non lo ha riferito subito agli inquirenti la spiegazione la dà la moglie di Vanacore Giuseppa De Luca infatti la portiera dice sì confermo quanto ha detto mio marito perché anch'io vidi quell'uomo uscire da via Poma era un signore sulla quarantina con un cappellino ho visto soltanto i suoi capelli dietro perché l'ho visto solo di schiena ed aveva i capelli biondi qua dietro aveva una camminata molto strana quasi zoppo il che mi ha fatto pensare di aver visto un geometra che ha il suo studio proprio lì nel complesso di via Poma e che cammina in questo modo perché appunto zoppo la polizia corre subito a casa di questo geometra per fare le opportune verifiche peccato che si trovi in vacanza già da giorni in Turchiglia quindi non può essere un sospettato dopo che fu associato al carcere di Regina Celi Pietrino Vanacore che aveva taciuto per tutto il tempo durante gli interrogatori in questura qui ci tira fuori una storia che probabilmente era una storia che ci metteva sulla strada buona per risolvere il caso Pietrino Vanacore dice di aver visto una persona attorno alle 18 orario in cui viene uccisa Simonetta Cesaroni e lui è puntuale nel ricordarsi alle 18 quindi l'accusa è precisa ore 18 questa persona che ha un fagotto sotto braccio e la moglie di Vanacore ci conferma la storia del marito quindi quasi fossero d'accordo entrambi sia nel raccontarci la storia sia sugli orari sia sul fagotto quindi tutte e due conoscevano molto bene questa storia con nostra invece somma sorpresa e stupore veniamo messi a conoscenza dalla mamma del tizio che questo è in vacanza dal primo di agosto quindi da circa una settimana in Turchia con altre persone cosa che poi accerteremo effettivamente essere andata essere andata così quello che ci si viene da chiedere è Petrino e la moglie hanno davvero visto quell'uomo oppure si sono inventati tutto di comune accordo e hanno deciso insieme di tirare fuori questa storia nel caso in cui Petrino fosse finito nei guai come appunto in realtà avvenne sembrerebbe proprio così perché altrimenti non si spiega perché non riferirono questo avvistamento subito appena vennero interrogati Giuseppa De Luca si giustifica dicendo non volevo gettare sospetti su una persona il geometra senza avere la prova certa che fosse lui perché infatti io l'ho visto solo di spalle ed era un po' il suo portamento che mi ha portato a credere di aver visto lui ma adesso che mio marito è un po' nei guai voglio dire tutto quello che ho visto la polizia però non sembra convinta del tutto di questa spiegazione anche perché ha appena appurato che quel geometra era da tutt'altra parte arrivano però il risultato dell'analisi del sangue trovato sui pantaloni e sul materasso di Petrino Vanacore ebbene delle due macchie sui pantaloni una è ruggine e l'altra è sangue emorroidale Petrino Vanacore infatti aveva subito riferito all'autorità che nel caso in cui avessero trovato sangue sui suoi pantaloni era dovuto alle emorroidi e così infatti è quello è sangue di Petrino Vanacore stessa cosa dicasi per la macchia sul materasso il giudice quindi decide che non ci sono prove sufficienti per tenere Petrino Vanacore in carcere e viene scarcerato 30 agosto dopo 20 giorni di carcere il tribunale della libertà il 30 agosto 1990 nonostante la sussistenza di indizi a carico di Petrino Vanacore dispone la sua immediata scarcerazione signor Vanacore volevo chiedere una cosa lei ha detto credo ieri ad un giornalista che appena sarebbe uscito di prigione appena uscito di prigione aveva intenzione di mettersi in contatto con la famiglia certo ecco l'ha fatto? certo non ho avuto il minimo tempo ecco noi gli diamo l'occasione qui da questa platea in qualche modo certo di dire qualche cosa di dirgli come padre come padre io che ho figli mi medesimo al loro dolore perché so cosa significa figli e quindi sono partecipe partecipe dal primo momento sono stato partecipe nel nel dolore grosso avuto la cronaca il tribunale della libertà ha deciso Petrino Vanacore è stato scarcerato il giorno della della sentenza del tribunale della libertà è un'immensa un'gioia è un'immensa ecco di quel giorno cosa è la cosa che ricorda di più la cosa che le ha fatto più piacere certo tornare in libertà ma qualche segno d'affetto di attiva riabbracciare i miei scontato riabbracciare i condomini che sono molto molto solidari e abbracci veri ma veri inoltre analizzando sangue di Petrino Vanacore la polizia si rende conto che è di gruppo zero quindi non può essere lui l'assassino come era stato pensato perché l'assassino abbiamo detto in base alle macchie di sangue trovate sulla scena del crimine ha sangue di gruppo A e la polizia ovviamente è continuamente insospettita dai numerosi alibi falsi dati da Petrino e da tutto il suo comportamento e quindi pensa che se non è lui l'assassino però certamente sa qualcosa e nasconde qualcosa forse è stato complice dell'assassino inizia a pensare questo Vanacore è scarcerato rilascia alcune interviste parla in televisione e si dice volenteroso di collaborare per trovare l'assassino di Simonetta che appunto non è certamente lui e il suo problema dice che però non ha davvero visto nulla e non sa nulla ma come abbiamo visto questo non convince assolutamente gli inquirenti e nemmeno me se devo essere sincero che sensazioni prove di nuovo a casa? come aver risuscitato quindi una gioia immensa quella di mia e dei familiari però come ripeto non cessa l'amaro di non ancora non aver scoperto il malfattore insomma dal quello che ha scommesso il fattato ecco e quindi io lo spero che al più presto venga fatta giustizia la polizia se continua a sospettare che Vanacore nasconda qualcosa però deve trovare l'assassino di Simonetta quel Mr. X che possiede sangue di gruppo A il secondo sospettato di aver ucciso Simonetta dopo Vanacore fu il soldatore di lavoro cioè abbiamo detto Salvatore Volponi colui che scoprì corpo della povera Simonetta quella sera insieme a suo figlio la sorella di Simonetta Paola e il fidanzato di Paola perché la polizia sospetta adesso di Volponi perché è scartato Petrino Vanacore come assassino rimangono molti sospetti sui Volponi perché ritiene la polizia che abbia mentito dicendo di non sapere dove si trovavano gli uffici di via Poma e lo avrebbe fatto per evitare di andare lì perché sapeva che cosa era successo forse perché era stato lui ad uccidere Simonetta la polizia appunto è certa che Volponi sapeva che quel pomeriggio Simonetta si sarebbe trovata in via Poma avendogli lui dato quelli in carico Volponi viene gettato nell'agonia mediatica e questo lo irritò moltissimo tant'è che deciderà negli anni successivi di scrivere un libro intitolato Io, Via Poma e Simonetta tutta la verità che io ho letto e vi dirò un particolare molto interessante più avanti che ho trovato in questo libro scritto da Salvatore Volponi che appunto si lamenta molto di essere messo al centro delle accuse i sospetti vanno sul datore di lavoro di Simonetta Salvatore Volponi questo perché la sera del ritrovamento del cadavere aveva mostrato stranezze nel suo comportamento era stato titubante nell'accompagnare la sorella Paola in Via Poma da lì si è accesero i primi col senno del poi i primi elementi di sospetto della famiglia Cesaroni proprio nei confronti del ritrovamento di lavoro perché dice ma perché non ci hanno portato subito lì perché Volponi ha preso tempo secondo loro Volponi ha detto che non sapeva dove era andata ma come ce l'ha mandata lui possibile che non sappia l'indirizzo non sappia poi quando la sorella Paola insieme al fidanzato andò da Volponi con Volponi e il figlio di Volponi si recarono verso Prati a loro sembrò sospetto che mentre prima dicevano che non sapevano dove era andata in realtà ci arrivarono anche troppo velocemente Paola alla sorella di Simonetta punta il dito contro Salvatore Volponi il datore di lavoro della giovane denunciandone alcune stranezze quando Paola Cesaroni va a cercarlo a casa Volponi dice ma mi doveva telefonare lei io non sono mai stato in Via Poma non so neanche che numero di telefono abbia questo ufficio di Via Poma lei sapeva qualcosa conosceva? no guardi assolutamente non conoscevo nessuno ne sapevo dove stava e allora perché si chiede Paola Cesaroni Volponi sembrava muoversi con tanta sicurezza nell'ufficio in fondo è stato lui a trovare il cadavere il 25 settembre viene ufficialmente indagato per l'omicidio di Via Poma per l'uomo è un brutto shock talmente brutto che già prima denuncia ai giornalisti un clima da caccia alle streghe nei suoi confronti è furioso per questa gogna mediatica nella quale viene sottoposto si sente perseguitato Salvatore Volponi scrive perfino un libro nel quale racconta la sua verità Volponi viene però scartato per due motivi non può essere lui l'assassino uno perché la polizia compie ovviamente anche l'analisi sul suo sangue e non è di gruppo A due Salvatore Volponi ha un alibi di ferro perché rimase tutto quel pomeriggio a lavorare nella tabaccheria di famiglia e ci sono un numero di testimoni ovviamente che lo confermarono ma alla fine del mese di settembre 1990 l'esito delle analisi sul sangue di Volponi vale più di mille parole L'uomo esce dalle indagini perché il suo sangue è del gruppo 0 RH positivo proprio come quello di Vanacore e di Simonetta non è suo insomma il sangue sulla porta A questo punto la polizia brancola veramente nel buio non sa più che pesci pigliare non trova nuovi indizi non trova nuovi testimoni non arrivano nuove segnalazioni finché quando tutto sembrava ormai avviato verso la conclusione del caso senza dare un vero colpevole proprio quando ormai le televisioni e i telegiornali smettevano di parlare del delitto di via Poma ecco che spuntò quello che venne definito all'epoca il super testimone chi era? che cosa disse? era un venditore di auto austriaco o per meglio dire un truffatore austriaco perché si scoprirà poi che aveva numerosi processi in Austria in corso e per altre cose era stato invece già condannato per truffa questo fantomatico venditore d'auto austriaco si chiama Roman Fuller perché è un super testimone perché a un certo punto saltò fuori dal nulla e disse alla polizia io so chi è l'assassino di Simonetta Cesaroni la polizia chiaramente lo convoca in procura e gli dice di dire tutto quello che sa ebbene Roman Fuller dice quella sera del 7 agosto io stavo parlando al telefono con una mia amica questa amica si rivelerà essere la madre di Federico Valle come avrete intuito dal cognome Federico Valle è parente di Cesare Valle l'architetto che progettò il palazzo e a cui faceva da balanza abbiamo detto Petrino Vanacore Federico Valle era infatti il nipote dell'architetto Federico Valle nel 1990 era un ragazzo che soffriva moltissimo era anoressico e soffriva moltissimo soprattutto per la separazione imminente dei suoi genitori suo padre infatti che aveva l'ufficio di avvocato anche lui nel complesso di Via Poma aveva deciso da poco di lasciare la moglie chiedendo la separazione per la sua amante quindi per un'altra donna e Federico soffriva moltissimo questo fatto tant'è che cercava affetto nel nonno e quindi si recava spesso in Via Poma a trovare il nonno quindi Federico Valle conosceva molto bene il palazzo di Via Poma e questo non è un elemento da poco ma perché appunto i sospetti vanno su Federico Valle perché questo super testimone Fuller dice io ero al telefono con la mamma di Federico che quella sera il 7 agosto disse di essere preoccupata perché Federico non rincasava tardava molto a rincasare terminata quella telefonata alcune ore dopo l'ho richiamata per sapere se era tutto a posto se il figlio fosse tornato la madre di Federico disse sì effettivamente è tornato ma era tutto scombussolato agitato bagnato e mi sembra che avesse anche la mano ferita era sporco di sangue la polizia ovviamente rimane sbicottita di fronte a queste dichiarazioni e gli chiede se ha altre prove come ha conosciuto la mamma di Federico Valle perché la conosceva ebbene Fuller racconta che conobbe per caso la mamma di Federico Valle sbagliando il numero di telefono cioè doveva telefonare una persona telefonò invece a lei che rispose e in seguito però a questo errore telefonico i due cominciarono a parlare e diventarono amici si videro anche alcune volte sempre prima però dell'omicidio la mamma di Federico ovviamente viene subito contattata e interrogata conferma l'amicizia con Fuller che è nata proprio in questo modo così strano ma conferma anche però di non avergli mai assolutamente raccontato una cosa del genere che non è vera perché quel giorno Federico rimase tutto il giorno a casa pomeriggio e sera chiuso in camera come spesso faceva perché appunto abbiamo detto era un periodo molto infelice per lui Roland Fuller un commerciante d'auto austriaco pregiudicato per truffa sostiene di sapere chi sia l'assassino di Simonetta Cesaro ma quali sono le importanti rivelazioni che Roland Fuller vuole fare di quale segreto è venuto in possesso perché un commerciante d'auto straniero dovrebbe conoscere qualcosa sull'omicidio di via Poma l'assassino secondo Fuller sarebbe un ragazzo il figlio di una sua amica si chiama Federico Valle un ragazzo che aveva dei problemi emotivi psicologici sul viso scavato di Federico Valle e negli occhi che sembrano persi nel vuoto i segni dell'anoressia e forse del dolore per la separazione dei genitori ed è forse per questo che Federico cerca l'affetto nel nonno Cesare Valle che va a trovare spesso in via Poma il 7 agosto del 1990 il giorno dell'omicidio Fuller riceve la telefonata di una sua amica Giuliana Ferrara la mamma di Federico in quella telefonata diceva che aveva trovato qualcosa di strano quella sera nel figlio che era tornato a casa più agitato del solito i vestiti sembravano essere stati lavati e fatti asciugare in fretta erano tutti stazionati ma aveva notato poi che l'interno dell'auto di Federico era stranamente ripulita effettivamente il ragazzo che per precauzione viene pedinato dalla polizia ha un comportamento strano si reca spesso in via Poma in auto poi senza scendere osserva a lungo il condominio continuava a andare a guardare senza neppure scendere dalla macchina la polizia però all'inizio si fida di Fuller e inizia a creare una sorta di ipotesi su come potrebbero essersi svolti i fatti mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle che gli ha dato Fuller ma che ha trovato anche dei riscontri diciamo nella realtà dei fatti infatti che cosa pensa il pubblico ministero che accusa Federico Valle dice Federico Valle è l'assassino di Simonetta Cesaroni e Petrino Vanacore in virtù dell'affetto che lo lega all'architetto Cesare Valle perché Federico è suo nipote avendo scoperto quello che aveva combinato lo ha coperto ripulendo la scena del crimine e cercando di nascondere tutto quello che era successo quindi secondo la pubblica accusa Petrino Vanacore scoprì che Federico Valle uccise Simonetta e lo aiutò nel coprire le tracce nel pulire la scena del crimine e probabilmente i due programmarono di portare via da lì il corpo di Simonetta magari quella stessa notte tra il 7 e l'8 agosto perché gli inquirenti pensano che ci sia stata una pulizia della scena del crimine? lo abbiamo detto all'inizio descrivendo il ritrovamento del corpo di Simonetta c'era veramente troppo poco sangue per 29 coltellate inoltre se osserviamo questa foto che vi faccio vedere adesso si nota una strisciatura proprio di sangue intorno al corpo di Simonetta molto probabilmente quello è stato fatto durante l'operazione di pulizia che gli inquirenti dicono è stata fatta da Petrino Vanacore ma che per qualche motivo è stato interrotto a un certo punto e non ha ultimato la pulizia completa è però riuscito a risistemare l'ufficio a mettere a posto il tagliacarte ecco la polizia si chiede come faceva però Petrino a sapere che quel tagliacarte andava sulla scrivania della Sibiglia visto che non era lì quel giorno la polizia dice Petrino Vanacore a differenza di quanto afferma si recava alcune volte negli uffici dell'AIAG per fare dei piccoli lavori di manutenzione quindi conosceva la disposizione dell'ufficio e probabilmente anche degli oggetti tra cui il tagliacarte oltre a tutto questo perché gli inquirenti pensano che ci sia stata pulizia del sangue e della scena del crimine perché gli stracci che vengono trovati nel bagno dell'ufficio dell'AIAG erano ancora umidi nella notte del 7 agosto siccome le pulizie negli uffici dell'AIAG venivano sempre svolte al mattino presto diranno le donne delle pulizie tra le 8 le 9 massimo è impossibile dicono gli inquirenti che gli stracci fossero ancora umidi come sono stati trovati molte ore dopo non dimentichiamoci che era in pieno agosto la polizia è davvero convinta di avere tra le mani l'assassino di Simonetta che è Federico Valle e anche il suo aiutante è colui che lo ha aiutato a ripulire a cercare di nascondere tutto quanto cioè il portiere Petrino Vanacore ecco perché nascose tutto quanto mentì sul suo alibi e non ci raccontò nulla se la polizia però pensa di aver capito chi è l'assassino e chi è il suo aiutante mancava però il movente cioè perché Federico Valle avrebbe dovuto uccidere Simonetta Cesaroni ed ecco che alla polizia viene in mente che anche il padre di Federico Valle l'avvocato che aveva il suo studio in Via Poma il figlio quindi di Cesare Valle si chiama Raniero lo stesso nome del fidanzato di Simonetta Cesaroni gli inquirenti dunque pensano ma non è che Simonetta qualche volta aveva parlato tra sé e sé o con qualcuno di Raniero dicendo l'altra sera sono stata con Raniero sono uscita con Raniero come mi trovo bene con Raniero sono innamorata di Raniero eccetera e non è che l'intorno c'era Federico Valle che stava andando a trovare il nonno o passava di lì come spesso gli capitava per Via Poma per il padre o per qualcun altro e ha sentito Simonetta dire di essere stata con Raniero ed ecco che quindi nella sua mente sarebbe potuto scattare questo collegamento cioè avrebbe pensato essendo un nome Raniero così raro infatti è incredibile che in questa storia ci siano due persone con questo nome ebbene Federico Valle avrebbe pensato ma ecco chi è l'amante di mio padre ecco per chi mio padre sta lasciando mia madre e sta distruggendo la mia famiglia per questa ragazzina quindi una volta che scoprì dove Simonetta lavorava cioè negli uffici dell'AIAG e scoprì che era da sola l'avrebbe uccisa per questo questa storia infatti manca ancora un pezzo il più importante di tutti il movente secondo il super testimone Roland Fuller Federico Valle ha agito per gelosia si sapeva che il padre aveva un amante che aveva deciso di lasciare la moglie perché si era messo con una ragazza giovane una bella ragazza molto più giovane incontrata sul posto di lavoro Raniero Valle e il papà di Federico ha lo studio legale proprio nella palazzina B di Via Poma crede che sia quella una delle donne per cui il padre ha ammollato la mamma eccetera e matura un sentimento di rivalza di odio incrocia questa ragazza e in preda un raptus di follia la uccide non dimentichiamoci che anche il fidanzato di Simonetta si chiama Raniero può darsi che Simonetta parlando affettuosamente con termini amorosi del suo fidanzato si sia trovata magari in presenza di Federico Valle che abbia equivocato magari sentendo il nome Raniero lo abbia associato al padre ma non ci sono riscontri per dirlo solo ipotesi anche molto intriganti per gli amanti del giallo allora sarebbe bastato che lui magari avesse sentito Simonetta dire ieri sono stata con Raniero per confondere nella sua fantasia il fatto che la ragazza fosse stata col padre ma ecco che dopo oltre due anni di indagini la procura di Roma si immagina un nuovo scenario e indaga Federico Valle e Pietrino Vanacore accusati rispettivamente di omicidio volontario e favoreggiamento uno si può immaginare Federico Valle che incontra questa ragazza succede quel che succede poi sale sale su dal nonno non si vedono sto ragazzo oddio che è successo scende giù con Vanacore che intanto che dormiva a casa oppure chiama Vanacore che Vanacore sale dalla portinia e lì entrano lo studente Federico Valle avrebbe ucciso Simonetta Cesaroni il portiere Pietrino Vanacore avrebbe cercato di aiutarlo facendo sparire alcune tracce dal luogo del delitto questa è la tesi del sostituto procuratore Pietro Catalani che dopo quasi tre anni di indagini ha chiesto il rinvio a giudizio per i due ancora lui Petrino Vanacore il sospettato numero uno l'uomo che nonostante sia fuori dall'inchiesta non ha mai convinto gli inquiretti dopo aver scampato l'accusa di omicidio nella prima fase è stato invece accusato di favoreggiamento se Valle ha ucciso Simonetta secondo il pubblico ministero colui che l'avrebbe aiutato a pulire e poi a spostare il cadavere è Vanacore non è preoccupato perché non c'è da preoccuparsi quando uno c'è la vocezza posto scuriamo solo che si finisce una volta per sempre però arrivano le analisi del sangue non è nemmeno suo cioè non appartiene a Federico Valle il sangue di gruppo A trovato sulla scena del crimine Federico Valle infatti è sì di gruppo A lui sì ma il suo sangue non è lo stesso non appartiene allo stesso genotipo di quello trovato sulla maniglia della porta e sul telefono dunque il giudice decide che Federico Valle non sarà processato il sangue però sia quello della tastiera sia quello della porta non corrisponde assolutamente non è di Simonetta e non è degli indagati il sangue sulla porta non c'ha niente a che fare con I Valle né Federico né il nonno né nessun altro né ha a che fare con Vanagore sarà fatta giustizia hai da dire qualcosa? sarà fatta giustizia pro scioglimento totale totale totale? una liberazione urlata dentro i microfoni che anche questa volta sono tutti per lui Federico Valle 21 anni segnati dall'anoressia e fino alle 4 di oggi pomeriggio dal sospetto di aver ucciso Simonetta Cesaroni la sera del 7 agosto di 3 anni fa con 29 colpi di tagliacarte inoltre viene poi scoperta la verità su Roman Foller perché con tutta probabilità aveva ragione la madre di Federico cioè sì era un suo conoscente un suo amico ma non gli ha mai detto una cosa del genere sul figlio cioè che la sera del 7 agosto Federico tornò insanguinato Foller si inventò tutto perché era venuto dopo a conoscenza che Federico Valle era il figlio di questa sua amica e che frequentava via Poma perché si scopre che invece Foller chiese qualcosa in cambio alla polizia in cambio della sua testimonianza infatti chiese di vedersi annullata l'estradizione che nel frattempo era arrivata dall'Austria per farlo tornare lì a scontare la sua pena nel suo paese in cambio Foller gli avrebbe detto chi era l'assassino di Simonetta Cesaroni quindi sicuramente possiamo ormai dirlo si inventò tutto quanto per ricavare qualcosa per sé cioè la possibilità di restare in Italia e di non tornare in Austria dove lo aspettava al carcere ovviamente ovviamente la mamma la mamma di Valle sconfessò ovviamente il Foller raccontò di essersi sentita qualche volta al telefono dopo lui ma di non aver mai parlato del figlio poi soprattutto lui era un confidente della polizia perché aveva l'obbligo di firma in Italia per dei reati commessi in Italia alla fine di quando avrebbe scontato questi reati sarebbe dovuto essere estradati in Austria per altri reati e lui sicuramente ha pensato bene che se fosse stato testimone qui o comunque utile alla giustizia italiana gli avrebbero bloccato l'estradizione poi però venne fuori dopo che in cambio della testimonianza aveva chiesto diciamo appianamenti dei suoi processi e ricompensa perché non sono sicuro ma mi sembra che ci fosse una ricompensa per chi avrebbe dato notizie sul caso di Vipoma concentriamoci adesso un attimo ancora su quelle macchie di sangue quelle macchie di sangue di gruppo A sulla maniglia della porta al lato interno dell'ufficio del delitto e sul telefono ebbene non sono tracce di sangue che hanno nulla a che fare con Federico Valle né con Petrino Vanacore né con Salvatore Volponi quelli che sono stati fino ad ora i sospettati i possibili sospettati di essere gli assassini di Simonetta ma perché il pubblico ministero Catalani che era convintissimo di aver trovato l'assassino di Simonetta in Federico Valle e in Petrino Vanacore il suo aiutante il ripulitore perché insistette così tanto nel chiedere rinvio giudizio per Federico Valle e per Petrino Vanacore è vero che addirittura per tre volte chiese al giudice di procedere nei confronti di Federico Valle per tre volte fu respinta la sua accusa perché era così convinto di aver trovato l'assassino e il suo aiutante perché secondo il pubblico ministero appunto quelle macchie di sangue non avevano restituito il profilo di Federico Valle perché erano delle macchie di sangue miste cioè quel sangue era parte sangue di Simonetta Cesaroni parte sangue del suo assassino che lui credeva essere Federico Valle tant'è vero che fu chiamata la scientifica americana degli Stati Uniti che nel 1990 era quella più all'avanguardia di tutti e gli fu chiesto ma è possibile che noi abbiamo dei risultati sbagliati degli errori perché la traccia di sangue è un misto cioè è frutto di un miscuglio di sangue di persone diverse e la scientifica americana statunitense risponde sì è possibile ma non vi è in alcun modo utile a fine delle indagini perché è possibile che il risultato sia alterato non sia quello reale perché la macchia di sangue è un misto ma questo non potrà mai essere provato scientificamente perché è appunto soltanto possibile e non sicuro e inoltre anche se fosse un dato di fatto che quella è una traccia mista quindi il risultato che è stato ottenuto dall'analisi è sbagliato perché non ci ha restituito il profilo dell'assassino perché il sangue dell'assassino è in qualche modo coperto dal sangue della vittima questo in sostanza diceva il PM ebbene anche se così fosse dicono licenziati in ogni caso non sarà mai possibile estrapolare il DNA dell'assassino perché ormai sarebbe la macchia comunque inutilizzabile perché è alterata cioè non darà mai il risultato che si spera Federico Valle appunto era di gruppo A e il suo sangue è di gruppo A e quindi il pubblico ministero riteneva che quelle macchie di sangue di gruppo A appartenessero a lui ma non avessero restituito il suo profilo genetico perché alterate dalla presenza del sangue anche di Simonetta vi ricorderete all'inizio quando abbiamo iniziato a parlare tutte le macchie di sangue ritrovate che vi dicevo che nel 1990 non era possibile scindere i due DNA che andavano a formare una macchia di sangue mista mentre oggi o meglio già da alcuni anni alcuni decenni è possibile farlo in quella circostanza furono fatti intervenire degli esperti dell'FBI americano che erano i maggiori esperti al mondo domandai loro se era possibile attraverso diciamo quei risultati che noi avevamo di poter dire che quel sangue era misto oppure era un sangue di una sola persona e loro ci confermarono che il sangue misto poteva portare a dei risultati diversi da quelli che praticamente avevamo quando parliamo di traccia mista una macchia di sangue può ricevere il contributo di più di un soggetto se riceve il contributo di più di un soggetto ovvero in quella traccia noi troviamo il DNA sia del soggetto A che del soggetto B in questo caso noi parliamo di traccia mista oggi è tecnicamente possibile scendere la parte di A dalla parte di B e quindi attribuire quella traccia ad entrambi i soggetti all'epoca questo non si poteva fare e parlando sempre delle macchie di sangue torniamo ora un attimo indietro ai giorni immediatamente successivi all'omicidio in particolare arriviamo al 27 di agosto 20 giorni dopo l'omicidio Petrino Vanacore è già stato accusato e si trova in carcere uscirà tre giorni dopo il 27 perché abbiamo detto uscirà il 30 di agosto il 27 però di agosto la polizia torna a fare un altro sopralluogo e trova altre macchie di sangue torna perché il figlio di Petrino Vanacore Mario Vanacore dice di aver trovato delle macchie di sangue nell'ascensore che fino ad allora non erano state viste ebbene guardiamo le macchie di sangue dell'ascensore che vengono trovate il 27 di agosto e non soltanto nell'ascensore perché in questo sopralluogo guardate bene che cosa trova la polizia trova una macchia di sangue all'esterno dell'ascensore in alto dove c'è il pulsante di arresto da premere in caso di emergenza il pulsante di arresto dell'ascensore ora guardiamo l'ingrandimento di quel pulsante che si trova appunto in alto a sinistra dell'ascensore al piano chiaramente dove è venuto l'omicidio ebbene quella è sicuramente una traccia di sangue ma quel sangue non è stato analizzato cioè non sappiamo dire a che gruppo appartenesse o a chi appartenesse non fu mai analizzato le tracce le tracce invece quelle viste da Mario Vanacore a cui ha richiamato l'attenzione della polizia sono all'interno dell'ascensore e sono queste qui sono due una indicata appunto con il numero 1 e l'altra con il numero 2 di queste due macchie di sangue fu analizzata soltanto quella con il numero 1 e risultò essere sangue di Simonetta Cesaroni di gruppo 0 considerando questo la polizia non valutò necessario non ritende necessario analizzare anche l'altra macchia di sangue quella evidenziata con il numero 2 che si trova sopra alla macchia numero 1 e non la lezzò perché riteneva fosse anche quello sangue di Simonetta sangue della vittima questa macchia la 2 sarà invece analizzata soltanto nel 2004 ora vedremo perché e vedremo appunto i particolari la polizia ritenne che anche quella infatti fosse macchia di Simonetta Cesaroni del sangue di Simonetta Cesaroni e quindi non l'analizzò riteneva le due macchie il frutto di una stessa di una stessa traccia lasciata dall'assassino che probabilmente portava via gli abiti insanguinati della vittima l'altra traccia che trova la polizia nel sopralluogo del 27 d'agosto molto interessante si trova nelle cantine dello stabile di via Poma dove è avvenuto l'omicidio infatti lì dove c'è appunto l'ascensore dove abbiamo visto la foto rivediamola dell'esterno dell'ascensore come vedete quell'ascensore era quella detta a vista cioè l'ascensore sale nei piani dove si deve fermare c'è una grata dove si ferma l'ascensore si apre la porta si apre la grata e si esce all'esterno diciamo sul perimetro dell'ascensore c'è il vuoto il vuoto che scende giù fino alle cantine ebbene sotto alle cantine nel sottosuolo diciamo nel palazzo appunto viene ritrovata nei pressi dell'ascensore cioè dove termina praticamente la corsa dell'ascensore viene trovata questa macchia che osservatela bene sembra proprio essere uno struscio cioè come se qualcuno avesse gettato un fagotto magari proprio dal terzo piano sopra la grata dell'ascensore ed ecco spiegata la traccia di sangue sul pulsante d'arresto che stava in alto quel fagotto immaginatevi che crolla giù fino alle cantine l'assassino sarebbe quindi sceso dall'ascensore poi lasciando le tracce di sangue e ha recuperato questo fagotto una volta sceso nelle cantine infatti la macchia sul terreno ve la rimostro sembra proprio uno struscio di un fagotto insanguinato come se qualcuno avesse recuperato un fagotto sporco di sangue trascinandolo per un breve tratto lasciando quella traccia ecco che allora la polizia è convinta che l'assassino sia un residenziale che conosceva bene il palazzo e le cantine oppure era convinta che Vanacore in qualche modo fosse l'aiutante di questo assassino e gli avesse indicato come fuggire e da dove fuggire nella ricostruzione che il PM Catarani fa contro Federico Valle appunto va a recuperare tutti questi elementi e dice che conosceva bene Federico Valle appunto lo stabilimento di Via Poma come abbiamo già detto prima e quindi probabilmente poteva essere fuggito dalle cantine facendo cadere questo fagotto recuperandolo e poi dandosi alla fuga perché lui sapeva bene di poter fuggire dalle cantine e sapeva bene probabilmente che quelle cantine del complesso della palazzina B di Via Poma erano collegate alle cantine del complesso F dal quale appunto sarebbe potuto fuggire senza farsi vedere dai portieri che stavano al complesso B non era infatti necessario avere le chiavi per attraversare quelle cantine ma come abbiamo visto non c'è la prova che collochi Federico Valle sul luogo del delitto e quindi non va nemmeno a processo la fine dell'incubo per Federico Valle sembra la fine dell'incubo anche per il portiere Petrino Vanacore che è uscito anche da questa accusa di favoreggiamento dopo essere stato sospettato prima di essere addirittura l'assassino dopo qualche anno se ne fa ritorno in Puglia al suo paesino natale lascia Roma e torna con la moglie in Puglia che cosa succede? il caso sembra purtroppo destinato a rimanere irrisolto per sempre fino al 2004 ecco vi dicevo prima che con la macchina dell'ascensore al numero 2 sarà analizzata soltanto nel 2004 perché? perché nel 2004 venne riaperto il caso di Via Poma per quale motivo? perché poco tempo prima del 2004 le nuove scoperte scientifiche gli avanzamenti scientifici nelle tecniche di indagini il lumino il crime scope eccetera che avevano permesso di trovare tracce anche a decenni di distanza erano risultate fondamentali per risolvere un altro omicidio avvenuto sempre a Roma il famoso omicidio dell'olgiata grazie appunto a queste novità tecnologiche un omicidio anche quello avvenuto nei primi anni 90 fu risolto negli anni 2000 all'inizio degli anni 2000 grazie alle nuove scoperte scientifiche che scoprirono la presenza del DNA dell'assassino sull'indumenti della vittima e a questo punto la procura di Roma si chiede ma non è che con le nuove scoperte tecnologiche scientifiche del RIS possiamo dare una svolta anche al diritto risolto di Simonetta da Cesaroni ed ecco che arriva a Roma il mitico colonnello dei RIS di Parma Garofano che abbiamo incontrato in praticamente tutti i casi che abbiamo analizzato fino ad ora sul mio canale Garofano arriva decidemmo anche di affidare accertamenti di carattere tecnico scientifico al reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri e al RIS di Parma cercamo di ripartire da zero dopo ovviamente aver letto tutti gli atti che riguardavano le indagini fatte in allora rendendoci conto che insomma l'analisi del DNA ha fatto dei progressi incredibili per prima cosa il RIS di Parma riparte da quella porta la porta dell'ufficio del capo ufficio Carboni dove fu uccisa Simonetta e rianalizza tutte quelle tracce di sangue quelle dal lato interno conferma che sono per la maggior parte quelle sulla porta di Simonetta Cesaroni e quelle sulla maniglia appartengono a qualcuno di sangue di gruppo A quindi questo viene confermato viene estrapolato il DNA del sangue finalmente si può fare del sangue sulla maniglia e sul telefono quello di gruppo A ma non coincide con nessuno degli indagati viene prelevato il DNA a tutte le persone che dal 1990 al 2004 erano state per qualche motivo coinvolte nel caso quindi tutti i colleghi di Simonetta che lavoravano in Via Poma il datore di lavoro Volponi il presidente dell'IAG Caracciolo a tutti viene prelevato il DNA e anche al fidanzato Raniero Busco che nel 2004 si è rifatto una vita a dei bambini e si è sposato ma quello che era nel 1990 appunto abbiamo detto il fidanzato di Simonetta Cesaroni il DNA del sangue di gruppo A non appartiene a nessuno di tutte le persone che sono entrate nella vicenda che sono state controllate mentre se vi ricordate quella traccia che vi avevo detto sarebbe diventata importantissima sull'esterno della porta dell'ufficio vi ricordate che il famoso sbafo era sangue di gruppo 0 e la scientifica aveva detto sicuramente è una traccia mista in cui è presente il sangue di Simonetta Cesaroni ma è presente anche il DNA di un uomo un DNA maschile appartenente ad un uomo vengono rianalizzate anche le tracce nell'ascensore e questa volta anche la traccia numero 2 quella che stava sopra la numero 1 che è sangue di Simonetta Cesaroni ebbene questa traccia finalmente nel 2004 viene analizzata e non è come aveva creduto la polizia nel 90 anche quello sangue di Simonetta Cesaroni ma è ancora il sangue di gruppo A inoltre i RIS ritornano sulla scena del crimine e oramai però chiaramente addirittura l'Iag non ha nemmeno più lì i suoi uffici e non pensano di trovare nulla di che insomma sul luogo del delitto e eventuali tracce che dovessero essere sfuggite alla polizia nel 90 non sarebbero certamente ancora presenti nel 2004 ma in realtà non è così perché i RIS di Parma vanno a cercare ovunque il sangue in quella palazzina e vanno anche sopra sul tetto dove stavano i lavatoi del complesso di Via Poma per accedere a quei lavatoi a differenza delle cantine era necessaria la chiave quindi potevano accedere solo i condomini o chi aveva le chiavi per qualche motivo certamente il portiere Vanacore le aveva in suo possesso ma anche alcuni ma non tutti dei condomini ebbene in quei lavatoi su dei rubinetti il RIS ritrova delle tracce di sangue molto vecchie se quello è il sangue di Simonetti Cesaroni o ancora il sangue di gruppo A dell'assassino il caso subirebbe una svolta clamorosa perché certamente il colpevole va cercato in qualcuno che nel 90 aveva le chiavi di quel lavatoio di quel cancello che dava l'accesso ai lavatoi sul tetto il RIS trova quel sangue lo analizza ma purtroppo la traccia è talmente esigua e si è comprensibilmente degradata rimanendo all'aperto per 14 anni e quindi il RIS ci può soltanto dire quello è sangue umano ma non vi posso dire né il gruppo né tantomeno a chi appartiene né tantomeno si può estrarre il DNA e quindi non si può ricollegare quel sangue al caso di Simonetta Cesaroni ma io reputo ma questa è la mia personal opinione che quello sia sangue certamente legato a questo delitto non so se di Simonetta o dell'assassino un particolare secondo me non da poco conto perché se quello fosse effettivamente sangue legato al delitto allora ecco che l'assassino o qualcuno che l'ha aiutato a ripulire per forza di cosa doveva conoscere molto bene la presenza dei lavatoi e quindi la possibilità di lavarsi la sangue o lavare gli abiti della vittima e doveva avere le chiavi per accedervi ma la vera svolta legata all'arrivo dei RIS e alla reanalisi di tutti i reperti del caso arriva quando il colonnello Garofano analizza gli unici indomenti ritrovati addosso a Simonetta cioè il corpetto e il reggiseno analizzando questi due indomenti ecco che il RIS trova delle tracce di DNA molto chiare e molto nette quindi abbondante presenze di DNA non di Simonetta sia sul corpetto sia sul reggiseno iniziamo subito col dire che questi indomenti nel 90 quando furono analizzati fu trovato soltanto il sangue perché nel 90 non si poteva trovare tracce di DNA diverso dal sangue non c'erano gli strumenti per trovare il DNA per trovare tracce di sperma di sudore di saliva non si poteva fu analizzato quindi solo il sangue e tutto il sangue in quel disastro che era il reggiseno e il corpetto che erano proprio impregnati di sangue era tutto sangue di Simonetta quindi la scientifica allora disse da questi reperti noi non otterremo mai nulla di utile per risolvere il caso furono messi in una busta il reggiseno il corpetto e i calzini bianchi quindi tutto quello che fu trovato addosso a Simonetta fu messo in una busta nemmeno sigillata e infilata in un armadio della sapienza di Roma i ris si fanno ridare tutto però ovviamente quando arrivano e anche questi reperti perché dicono guardiamo se col crime scope troviamo qualche traccia e come vi dicevo trovano abbondanti DNA sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta Cesaroni lo confrontano con il DNA di tutti come vi dicevo all'inizio i soggetti coinvolti nel caso e trovano una corrispondenza certa al 100% con Raniero Busco il fidanzato di Simonetta Cesaroni ed ecco che l'accusa vaglia un'ipotesi fino allora mai diciamo presa in considerazione Raniero Busco il fidanzato di Simonetta nel 90 è il suo assassino il corpetto e il reggiseno di Simonetta Cesaroni diventano reperti molto importanti perché appunto nessuno li aveva mai toccati noi ispezionando questi reperti con le luci forensi ci accorgemmo che in alcune zone queste queste zone ci davano una luminescenza maggiore quindi erano zone che richiamavano in noi l'attenzione di poterle campionare perché in ipotesi contenevano delle tracce biologiche commiste al sangue di Simonetta le tracce di quella che sembra saliva trovate sugli indumenti di Simonetta Cesaroni corrispondono solo al DNA di Raniero Busco Busco il fidanzato di Simonetta all'epoca dei fatti diventa ufficialmente un indiziato per il delitto di via Poma attenzione però precisiamo subito che il RIS trova tracce di DNA appartenente a Raniero Busco con certezza sul reggiseno di Simonetta in diverse zone mentre sul corpetto di Simonetta Cesaroni trova abbondante DNA ancora di Raniero Busco ma trova anche altri due DNA maschili sempre non riconducibili a soggetti conosciuti quindi noi abbiamo sul corpetto di Simonetta Cesaroni certamente Raniero Busco e altri due uomini sconosciuti mentre sul reggiseno di Simonetta abbiamo il solo Raniero Busco per Raniero Busco inizia un vero e proprio incubo 14 anni dopo deve spiegare cosa ci fa il suo DNA sul reggiseno della vittima Busco chiaramente si difende dicendo era la mia fidanzata è normale che il mio DNA si trovasse sui indumenti intimi tra l'altro eravamo stati insieme anche il sabato prima del delitto quindi tre giorni prima del delitto che avvenne di martedì il sabato precedente eravamo stati insieme avevamo fatto l'amore insomma quindi probabilmente io ho lasciato il mio DNA sul reggiseno in quel momento lì il punto è che la famiglia di Simonetta ci tiene invece a sottolineare che Simonetta era una ragazza estremamente pulita e si cambiava tutti i giorni il reggiseno tutti gli indumenti tutti i giorni considerando anche che era estate agosto quindi sudava molto e si cambiava tutti i giorni la zia indaga ufficialmente Busco e gli chiede Maraniero lei si ricorda che cosa fece quel pomeriggio quella sera del 7 agosto 1990 Busco dice mi sembra di essere stato con il mio amico Simone Palombi ma potrei ricordarmi male andate a controllare che cosa dissi il 7 agosto del 90 quando mi prelevarono la notte dal lavoro per interrogarmi 12 ore certamente gli avrò detto cosa ho fatto perché allora me lo ricordavo chiaramente essendo il giorno stesso e se non mi hanno mai detto nulla chiaramente fornei un alibi che fu riscontrato perché non mi hanno mai accusato di nulla Radio Busco non è mai stato preso in considerazione quale possibile assassino nonostante fosse il fidanzato di Simonetta all'epoca e tra poco vedremo anche perché questo il problema è che il PM prende per buono il fatto che Busco dica che quel pomeriggio dice nel 2004 però 2004-2005 dice che quel pomeriggio stava con Simone Palombi va a controllare chiedendo al diretto interessato e Simone Palombi dice no ricordo con esattezza che il giorno del diritto di Simonetta io ero a Frosinone rincasai a Roma soltanto verso la sera tardi e mi incontrai con Raniero non prima delle 19.45 la procura lancia un'accusa gravissima nei confronti di Busco e lì dice lei ha mentito sul suo alibi Raniero si difende dice no guardi che io non ho mai detto di essere sicuro di essere stato con Simone Palombi gli ho detto di andare a controllare cosa dissi nel 90 perché ad oggi non me lo ricordo più chiaramente sono passati tanti anni il problema è che il verbale dell'interrogatorio di Raniero Busco dell'alba dell'8 agosto del 90 è una paginetta e non c'è traccia di quale alibi fornì alla polizia possibile che 12 ore di interrogatorio si siano trasformati in una paginetta di verbale nel quale sostanzialmente Raniero descrive il suo rapporto con Simone Palombi senza dire nient'altro possibile soprattutto che la polizia non gli chiese l'alibi cioè che cosa fece al pomeriggio mi sembra molto strano probabilmente glielo chiese ma non c'è traccia nel verbale e altrettanto probabilmente la polizia controllò e verificò il suo alibi ma questo non se lo ricorda la polizia non se lo ricorda chi era capo delle operazioni di polizia all'epoca e non se lo ricorda nemmeno Raniero a questo punto questo buco nell'alibi di Raniero gli sarà fatale per la sentenza di primo grado che come avevamo detto all'inizio porterà a vederlo essere condannato a 24 anni di carcere dicembre 2004 lei ha fornito ai carabinieri un alibi falso guardi questa circostanza a me mi è stata chiesta nel 2005 se non ricordo la data 2004 e 4 quindi a distanza di 14 anni infatti io a distanza di 14 anni 15 anni avevo questo ricordo infatti al maresciallo dei carabinieri chiesi mi ricordo di essere stato con Simone non sono sicuro andate a verificare quello che ho dichiarato all'epoca e qui la risposta del maresciallo fu purtroppo il suo verbale del 90 non c'è non era sicuramente una persona su cui noi quella notte puntammo le nostre attenzioni ma era una persona ripeto che ci doveva aiutare a ricostruire la vita sentimentale non della ragazza ma fu accertato un alibi che lei ricorda e verificato si credo che nel colloquio oralmente ci furono delle diciamo domande attinenti a come aveva trascorso il pomeriggio e quant'altro abbiamo visto come la PM che accusò Raniero Busco Ilaria Calò lo accusa apertamente di aver fornito un alibi falso Raniero si giustifica dicendo no è successo tanti anni fa non mi ricordo sicuramente però nel 90 dissi qualcosa sul mio alibi che è stato verificato ma è sparito il verbale non è colpa mia dice comprensibilmente Raniero Busco tra l'altro ci si chiede ma possibile che il giorno in cui muore la tua fidanzata non ti rimanga impresso nella mente esattamente tutto quello che hai fatto quel giorno il criminologo Picozzi sorprendentemente anche dal mio punto di vista però io non sono un esperto e quindi prendo per buono quello che dice lui ebbene Picozzi dice no non è assolutamente vero che a distanza di molti anni da un evento seppur così tragico io mi debba ricordare tutto per forza con il maggior dettaglio possibile di quello che ho fatto quel giorno non è assolutamente detto e certo nemmeno per il fidanzato della vittima sentiamo Picozzi però se uno mi chiede dove ero 16 anni fa al momento in cui ci fu un determinato momento traumatico della mia vita o di un elemento fondamentale ecco forse qualcosa di più mi ricorderei o no? assolutamente no ci sono ormai esperimenti storici in cui si fa assistere un gruppo di soggetti a un incidente stradale basta semplicemente il modo con cui si porge la domanda per far sì che il ricordo sia completamente diverso per cui anche un ricordo caricato di emozioni con così tanti anni di distanza si perde in maniera inequivocabile certamente il buco dell'alibi è considerato dal PM una prova schiacciante contro Raniero Busco ma non è la prova regina perché la prova regina è la presenza del DNA di Raniero sul reggiseno di Simonetta quello è certamente il suo DNA ma soprattutto la cosa che interessa di più all'accusa e che secondo l'accusa dimostra che è Raniero l'assassino è che quel DNA è presente in corrispondenza della ferita riportata da Simonetta all'altezza del capezzolo sinistro del seno sinistro vi ricordate infatti quando abbiamo parlato dell'autopsia che fu rinvenuta una discontinuità sul seno di Simonetta Cesaroni ebbene secondo l'accusa quella discontinuità è dovuta ad un morso provocato dalla bocca di Raniero cioè Raniero avrebbe morso Simonetta sul seno prima di ucciderla l'accusa chiede al RIS di Parma e a Garofano di fare un confronto cioè gli chiede è compatibile l'arcata dentale di Raniero Busco con quel morso che si trova sul seno sinistro di Simonetta il RIS fa una comparazione basandosi soltanto su delle foto le foto che ha del seno dell'autopsia di Simonetta perché chiaramente il suo corpo non c'è più e le confronta con l'arcata dentale del 2004 di Raniero Busco di 14 anni dopo questo sarà chiaramente argomento di discussione dibattutissima tra licenziati e maggiori esperti cioè si può fare una perizia su un'arcata dentale di un morso che avrebbe dato 14 anni prima e basandosi soltanto su delle foto eppure per Garofano dice si è possibile quello è un morso compatibile con l'arcata inferiore attenzione di Raniero Busco il pubblico ministero quindi fa il collegamento se quello è un morso di Raniero la traccia di DNA trovata sul reggiseno è saliva cioè quella è saliva di Raniero Busco che ha lasciato quando morse Simonetta prima di ucciderla grazie a questa perizia del RIS che dice che quell'arcata dentale del morso è compatibile con Raniero Busco la pubblica accusa diciamo si divincola anche dal fatto che quel DNA può essere stata lasciata in qualsiasi occasione visto che Raniero era fidanzato di Simonetta dice non è stato lasciato quel DNA quando erano stati insieme i due l'ultima volta ma quel giorno perché è stata lasciata con il morso quel DNA quindi solo quel giorno può averglielo dato e cerca di farsi appoggiare anche ulteriormente dall'analisi di Garofano dal RIS gli chiede quella traccia può essere residuale cioè di qualche giorno prima e Garofano dice assolutamente no quella traccia non è residuale secondo me ed è stata lasciata per forza quel giorno in considerazione di tutti gli approfondimenti che abbiamo fatto mese estivo abitudini di Simonetta Cesaroni e quant'altro io credo che quella traccia di DNA ne sono convinto e ho cercato anche di ribadirlo in corte d'assese io sono convinto che quella traccia debba assolutamente legarsi all'aggressione cioè al morso e non possa invece essere interpretata come residuale rispetto al rapporto sessuale che i due fidanzati avevano avuto inoltre dice Garofano la mamma ha affermato che Simonetta certamente si è cambiata dal sabato al martedì con sicurezza e probabilmente anche se ha indossato lo stesso reggiseno lavato appunto il DNA sarebbe scomparso perché il DNA non resiste ai lavaggi su questo punto però il dibattito è tutt'altro che terminato perché secondo altri eminenti scienziati il lavaggio non è sufficiente a far scomparire il DNA soprattutto se era una traccia molto consistente ad esempio Raniero Busco dopo un rapporto sessuale con Simonetta ha appoggiato la testa sudata sul suo reggiseno quindi ha lasciato molto DNA molto sudore quindi quello può essere sudore e non saliva oppure poteva essere anche saliva lasciata in abbondante quantità durante il loro ultimo incontro amoroso e non è sufficiente il semplice lavaggio per far andare via il DNA dicono alcuni scienziati soprattutto perché la madre afferma che lavava i capi di Simonetta soprattutto quelli molto reggeri in pizzo come il reggiseno e il corpetto lo lavava con un semplice sapone quindi che non contiene in questo sapone elementi chimici sufficienti per far scomparire le tracce di DNA è stata fatta una grande sperimentazione per cercare di capire se i lavaggi degli indumenti avrebbero potuto cancellare interamente le tracce di DNA oppure no questa è una cosa che neanche oggi alla quale neanche oggi è possibile rispondere lei la lavava a mano con detersivo leuto si si detersivo sapone anche il sapone perché io uso molto il sapone il sapone da bugato il DNA sopravvive ad un lavaggio non al lavaggio radicale di una lavatrice quindi proprio usando quel tipo di lavaggio che per quanto abbiamo appreso non comporta la perdita del DNA assolutamente si infatti come sempre dobbiamo dare il giusto peso al DNA nel senso che è una prova del fatto che quell'oggetto è entrato in contatto con il DNA con un materiale biologico di Regno Robusco ma tutto ciò va inserito sempre in un ambito di investigazione per cui se esistono delle spiegazioni alternative per la presenza di un certo campione biologico sulla scena del crimine deve essere assolutamente valutato non dobbiamo dimenticare che questi due ragazzi erano fidanzati quindi avevano dei rapporti e quindi con tutta probabilità il campione potrebbe tranquillamente essere stato rilasciato in una circostanza totalmente diversa dalla scena del crimine dal momento del crimine ecco c'è l'ipotesi che secondo i familiari è quasi una certezza che il corpetto fosse stato lavato quindi questo crea problemi no non è detto perché se non è lavato con degli agenti molto forti può tranquillamente rimanere del DNA per cui non mi stupisce che sia stato trovato comunque insomma quindi le prove a carico di Busco sono tre ha detto di essere stato con Simone Palombi o almeno questo dice nel 2004 ed è risultato falso un alibi falso ha l'arcata dentale inferiore compatibile con i seni di discontinuità sul seno di Simonetta che quindi secondo l'accusa e secondo Riss sono un morso è presente il DNA di Raniero proprio in quel punto dove c'è il morso sul registro di Simonetta è presente il DNA di Raniero sul corpetto di Simonetta che secondo Riss non sono DNA residuali quindi può averli lasciati solo quel giorno dell'omicidio e può averli lasciati soltanto dando quel morso quindi perché corrisponde la zona e quindi Raniero è il suo assassino ma chiede la difesa perché mai Raniero Busco sarebbe dovuto andare da Simonetta in via Poma quando i due potevano vedersi quando volevano dobbiamo parlare a questo punto di com'era il rapporto da fidanzati di Simonetta e Raniero ebbene come ammise lo stesso Raniero già nel 90 era una relazione molto disequilibrata cioè lui non era molto preso da Simonetta ci stava insieme perché gli andava insomma di fare l'amore con Simonetta in alcune occasioni mentre Simonetta voleva la relazione seria voleva proprio avere un fidanzato che le dedicasse molte più attenzioni di quante le dedicava a Raniero quindi lo stesso Raniero ammette lei era molto coinvolta mi chiedeva di dirle ti amo io non mi sentivo di dirglielo per me era solo una relazione tra ragazzi di 20 anni tutte affermazioni confermate dalla famiglia di Simonetta che dice che la sorella in particolare Paola dice che Simonetta soffriva molto questa disparità di come vivevano il rapporto lei e Raniero lei voleva una storia seria un uomo che la amasse davvero che passasse con lei le vacanze che passasse con lei molto tempo molto più tempo di quello che le dedicava invece Raniero che gli amici dei due che uscivano nella stessa compagnia confermarono questa versione del loro rapporto e quindi la difesa dice ma perché mai Raniero non essendo per nulla geloso di Simonetta sarebbe dovuto andare in via Poma ad ucciderla quel giorno secondo l'accusa invece proprio perché Simonetta soffriva molto a causa di questo trattamento che le riservava a Raniero e soffriva molto in quel periodo soprattutto perché Raniero aveva scelto di andare in vacanza in Sardegna con i suoi amici e non con Simonetta cioè senza portarla ebbene Raniero sarebbe dovuto partire da lì a pochi giorni per la Sardegna e lei invece avrebbe passato le vacanze da sola un'altra volta e soffriva molto per questo proprio per questo chiese a Raniero di vedersi un'ultima volta prima che lui partisse in via Poma per stare insieme gli chiese un ultimo atto d'amore Raniero dunque sarebbe recato in via Poma quel pomeriggio sul chiesto di Simonetta che sapeva sarebbe stata sola in ufficio e i due iniziano a fare l'amore nell'ufficio di Carboni e Simonetta inizia a spogliarsi poi succede qualcosa Raniero ha un raptus la morde sul seno Simonetta lo vuole cacciare via vuole interrompere il rapporto Raniero non vuole ed ecco che inizia a picchiarla la fa cadere e poi la colpisce a morte con un'arma bianca ma la difesa dice a noi sembra una cosa totalmente assurda cioè Raniero Busco si sarebbe dovuto recare a 18 km da casa sua via Poma distanziava da casa di Busco appunto 18 km si sarebbe dovuto fare 18 km per incontrare e Simonetta una ragazza a quale abbiamo detto non era poi così legato e verso la quale non provava sentimenti forti di gelosia si sarebbe dovuto recare in quel luogo a lui totalmente sconosciuto in cui non era mai stato per fare l'amore con lei nei suoi uffici dove lavorava e sarebbe stato colto da un raptus senza mai averne mai avuto uno prima senza che i due avessero mai avuto una litigata questo lo dicono anche i testimoni e gli amici nemmeno lontanamente una litigata violenta ma il Raniero aveva alzato le mani nei confronti di Simonetta né di nessun altro e l'avrebbe uccisa in maniera quindi così inspiegabile per un motivo inspiegabile e tra l'altro sarebbe stato aiutato nel ripulire la scena del crimine e a fuggire dal portiere Petrino Vanacore sì perché anche l'accusa nel 2004 anche la PM Ilaria Calò non molla Petrino Vanacore dice fu il portiere poi a scoprire il corpo a scoprire ciò che aveva fatto Raniero e a ripulire la scena anche se non sappiamo perché ma ipotizziamo per evitare problemi all'Iag cioè per evitare problemi alle persone che lavoravano lì e che conoscevano il portiere dopo vedremo quali sono poi gli ulteriori elementi nuovi che l'accusa nei primi anni del 2000 trova scopre va a scovare per collocare il portiere sulla scena del crimine ma dobbiamo ora raccontare una storia veramente particolare e che ha dell'incredibile perché chiaramente Petrino Vanacore viene chiamato a testimoniare a dire la sua versione dei fatti un'altra volta l'incubo del delitto di via Poma non è finito per Petrino nonostante si trovi in Puglia abbiamo detto già da qualche anno del resto anche durante il suo soggiorno in Puglia Petrino non fu mai lasciato in pace dalla polizia che continuava ad indagarlo a sorvegliarlo e a intercettarlo ebbene viene chiamato al processo contro Agnero Busco a dare la sua versione dei fatti insieme alla moglie chiaramente ma qualche giorno prima della sua testimonianza qualche giorno prima di partire per Roma Petrino Vanacore viene trovato morto nel suo paese nel suo paesino monacizzo della Puglia viene trovato morto annegato e sembra essersi tolto la vita Petrino Vanacore si suicida il suo corpo viene trovato senza vita in mare nei pressi della scogliera di Torre Ovo non lontano da Monacizzo il piccolo paese dove si era ritirato ormai in pensione nella metà degli anni 90 il suo misterioso suicidio getta un cono d'ombra sull'intera vicenda nessuno saprà mai se Petrino Vanacore uomo sfortunato e fedele ha voluto portare con sé qualche inconfessabile segreto Petrino si suicida ingurgitando del veleno poi lega alla sua caviglia una corda che lega a sua volta una pietra sulla spiaggia dove decide di togliersi la vita si getta in acqua e si lascia annegare il veleno agisce Petrino perde conoscenza e quindi annega anche se l'acqua lì è molto bassa il medico legale affermerà che il veleno è stato sufficiente appunto per stordirlo e quindi Petrino Vanacore non poteva evitare di affogare anche in 60 cm d'acqua cioè viene trovato annegato proprio sulla riva del mare di quella costa di quella spiaggia e ha ingerito il veleno come testimoniano anche due boccone di pane che sono stati trovati nel suo stomaco e che sono stati mangiati poco dopo aver ingerito il veleno probabilmente per mandare via il sapore pessimo che aveva questo veleno Petrino lascia in auto numerosi cartelli con scritte veramente giganti e Petrino scrive vent'anni di sospetti e di accuse portano al suicidio non ce l'ha più fatta Petrino Vanacore perché anche se si era allontanato da Roma il suo nome era sempre collegato al delitto anche lì al paesino gli chiedevano di questo delitto la sua versione sulla morte di Simonetta Cesaroni se era vero che non la conoscesse se era vero che non l'aveva nemmeno mai vista e Petrino non ce l'ha più fatta quando gli è arrivata quella convocazione ancora un processo da affrontare ancora tornare a parlare davanti alle telecamere di quel brutto fatto ed ecco Petrino non ce l'ha più fatta e si è tolto la vita del resto i cartelli lasciati in auto non lascia il posto a dubbi sul perché lo fece e nonostante questo chiaramente quella morte è così strana perché è molto strana cioè suicidarsi in 60 cm d'acqua sembra davvero impossibile seppur ingerendo del veleno seppur legandosi ad una pietra e quindi ecco che iniziano i primi sospetti sulla morte di Vanacore cioè non è un suicidio ma è un omicidio l'hanno ucciso perché i veri colpevoli del delitto di Via Poma avevano paura che cedesse dopo oltre 14 anni siamo infatti nel 2010 quando inizia il processo contro Nero Busco quindi sono 20 anni esatti dopo 20 anni avevano paura i veri colpevoli che cedesse Petrino raccontasse delle verità scomode e quindi l'hanno ucciso e hanno inscenato il suicidio si è suicidato Petrino Vanacore l'ex portiere dello stabile di Via Poma dove nel 1990 fu trovata uccisa Simonetta Cesaroni Vanacore si è gettato in acqua in località Torreovo vicino Torricella in provincia di Taranto dove risiedeva ormai da anni nella sua auto parcheggiata a poca distanza dal luogo del suicidio avrebbe lasciato due o tre cartelli di addio con su scritto 20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio l'uomo è stato trovato in mare senza vita ancorato ad una corda allacciata intorno alla caviglia con una pietra avrebbe dovuto testimoniare il 12 marzo al processo che si sta celebrando a Roma per il delitto di Via Poma a carico di Rani Robusco ex fidanzato di Simonetta Cesaroni Scelle è un modo terribile per suicidarsi si annega in 60 cm d'acqua sostanzialmente facendosi trascinare da una corda portandosi giù con una corda però lascia un biglietto lascia un biglietto diversi biglietti in macchina ma uno più duro degli altri che dice vent'anni di sofferenza insomma dice non ce la faccio più a sopportarli perché perché Vanacore chiaramente è sempre rimasto determinante nell'inchiesta di Via Poma e anche questa volta naturalmente la sua morte per quanto abbia un effetto deflagrante all'interno del processo perché comunque muore una persona si suicida una persona chiaramente getta ancora nove ombre sulla figura di Vanacore invece purtroppo di risolvere la sua posizione perché Vanacore si è ucciso si è ucciso perché sostanzialmente avrebbe dovuto dire delle cose che non voleva dire perché ormai era anziano e non avrebbe sopportato la pressione perché forse doveva coinvolgere delle persone verso le quali aveva preso un impegno forte e insomma ci sono tutte cose che poi alleggiano nel processo e che in qualche modo però chiaramente spostano un po' l'attenzione da Reniero Busco perché Reniero Busco e Vanacore non hanno nessun punto di contatto Vanacore se copre o se ha mai coperto qualcuno certamente non era Reniero Busco strano che Pietrino Vanacore si sia suicidato proprio tre giorni prima della sua testimonianza avrebbe potuto fare scena muta avrebbe potuto dopo vent'anni guardare noi cronisti con disprezzo perché per vent'anni lo abbiamo inseguito lo abbiamo indicato come colpevole abbiamo insinuato dubbi sarebbe stata una sorta di lincita per lui e invece decide di uccidersi quando l'imputato era un altro quando il colpevole per tutti era Reniero Busco perché farlo perché aspettare vent'anni farlo in quel momento è stato forse strano questo in realtà non sono mai emersi elementi che potessero far pensare a questo fatto e abbiamo poi delle intercettazioni fatte a Petrino che appunto vi ho detto era sempre sorvegliato perché magari si sarebbe lasciato sfuggire qualcosa riguardante Simonetta Cesaroni quando ormai si trovava lì in Puglia e in una di queste intercettazioni quando si parlava della riapertura del caso perché erano uscite le nove scoperte l'accusa Busco eccetera e proprio Petrino parlando con la moglie diceva se mi richiamano in tribunale io non ci torno prima che io torno in tribunale mi ammazzo e lo diceva in modo molto serio tant'è vero che la moglie sentiamola è convinta che Petrino si è suicidato perché non ce lo faceva più dei sospetti nei suoi confronti non ce l'ha fatta più mio marito non che l'hanno ammazzato non l'ha ammazzato nessuno noi sappiamo oppure Vanacore ha coperto qualcuno non ha coperto proprio nessuno la disperazione si è portata via la disperazione bene come vi dicevo Petrino non fu lasciato in pace nemmeno nella sua Puglia non solo dalla polizia ma anche dai giornalisti e dalle persone del posto che gli chiedevano ma cosa sai ma cosa hai visto ma cosa non sai eccetera e sfogliando tra i vari giornali dell'epoca mi sono imbattuto in un'intervista che gli fece un giornalista di Repubblica nel 2000 quindi Petrino si trova già da qualche anno nel suo paesino della Puglia il giornalista va fino a lì per intervistarlo e chiedergli se ha qualcosa da dire magari dopo qualche anno e ve la leggo l'intervista che ho recuperato dal giornale di Repubblica del 2000 e gli chiede il giornalista cosa pensa di quella storia là non penso niente risponde avrà pensato qualcosa quanto ho dovuto soffrire messo alla gogna da voi giornalisti sempre piazzati davanti al portone sempre là a chiedere colpa dei giornalisti se è stato accusato dalla magistratura la stampa e la televisione sono stati implacabili con la mia famiglia guardi ora come sono ridotto ci sembra che se la cavi molto bene in realtà signor Vanacore ma che cosa vivere qui in un buco di casa lontano dai miei figli mai tornato nella sua terra le dice il giornalista cos'altro avrei dovuto fare ero stato esonerato il portierato era stato raccolto da mia moglie ma poi i condomini hanno sostenuto che una donna non poteva sopportare il carico di quel lavoro e via in un attimo ci siamo ritrovati per strada ecco quando vi dicevo all'inizio che quando ero pronto con la scaletta del mio video a raccontarvi questa storia venivo a scoprire dei fatti nuovi dei nuovi documenti ecco questa intervista che ora proseguo a leggervi è stata una di quelle perché si vede proprio come Petrino Vanacore non ne potesse più di parlare di questa storia come volesse che il suo nome smettesse di essere associato alla morte di Simonetta dice poi un fatto che io non non ero assolutamente a conoscenza perché come abbiamo sentito anche nel video precedente quando fu accusato e poi scarcerato nelle immediatezze dei fatti Petrino dice che i condomini lo riabbracciarono li volevano bene sapevano che era innocente ebbene forse però dopo le continue accuse anche quelle di essere l'aiutante di Federico Valle di averlo coperto forse il condomini aveva cambiato opinione sul portiere perché ci dice cosa che appunto io non sapevo che dopo poco tempo fu esonerato sollevato dal suo incarico di portiere che prese la moglie ma come vi dicevo lui faceva molti lavori anche del manutentore di piccola manutenzione in vari uffici e anche quelli dell'IAG e quindi la gente però pensava che una donna non era abile e non poteva sopportare il carico di quel lavoro come dice lo stesso Vanacore nell'intervista e quindi furono mandati via cioè via Poma manda via la famiglia Vanacore che torna in Puglia ha mai pensato prosegue il giornalista Simonetta in tutti questi anni ma che avrei dovuto pensare al killer che le aveva stroncato la vita in un modo così brutale la Cesaroni non la conoscevo e questo basta per sentirsi un estraneo a quell'omicidio io facevo il portiere stavo bene poi di colpo un pomeriggio è scoppiato l'inferno non sapeva del lavoro che faceva quella ragazza in quell'appartamento ma lì ci andava ogni giorno non la vedevo mai entrava e usciva dal palazzo in orare in cui il portierato era chiuso di che cosa ha paura di essere nuovamente coinvolto ho pagato abbastanza e qui veramente io ci leggo il suicidio di Vanacore ma qui si sente più sicuro più tranquillo cerco di rifarmi la mia vita il piccolo scorcio che mi rimane e vive facendo piccoli lavoretti impianti elettrici muri da riparare e poi penso al killer di Simonetta lei se ne è fatta un'idea è un giovane sconosciuto continua a pensare che non faceva parte del condominio questo lo tengo per me come fa a vivere con questo incubo mi adatto ma la situazione cambierà vedrà che cambierà che cosa vuol dire che attendo l'assassino in che senso aspetto che si faccia vivo e dica quello che ha da dire e se si fa vivo con lei sa dove vivo ecco quindi prima dice che non pensa assolutamente a Simonetta perché non la conosceva poi verso la fine dell'intervista dopo aver dimostrato il suo malessere per questa gogna mediatica che non è finita ancora dopo vent'anni ebbene dopo dice che però il killer si farà vivo prima o poi che secondo lui è un giovane sconosciuto che si farà vivo e non ha paura dice se si vuole far vivo con me sa dove abito forse da queste parole lascia trasparire che lui qualcosa sa di questo assassino ed ecco che quindi se all'inizio quando dice di essere stressato non è un po' più di questa situazione io ci vedo tutto il motivo di un suicidio e anche del suo stato d'animo così turbato ecco che nelle sue ultime parole di questa intervista che parla di questo assassino che dice che si farà vivo magari con lui ecco e se quell'assassino di Simonetta si fosse veramente fatto vivo con con Petrino sapendo che sarebbe dovuto andare a testimoniare che non ce la faceva più a reggere quelle pressioni e l'abbia quindi voluto messo a tacere per sempre quindi non fosse un suicidio non lo so sono combattuto su questa visione certo è che è un suicidio molto misterioso nel frattempo però il processo contro il Ragnaro Busco è iniziato il portiere non verrà mai a testimoniare verrà la moglie e ecco che c'è un altro colpo di scena mentre si svolge il processo arrivano le analisi di quella traccia di DNA di sangue sul lato esterno della porta dell'ufficio lo sbafo famoso sbafo che già all'epoca fu rivelato che era il risultato del contributo di due soggetti diversi il sangue di Simonetta e il sangue di qualcun altro di cui però non si poteva estrarre il DNA nel 90 ma che nel 2010 si può fare ebbene il RIS estrae il DNA è una traccia che ha 20 anni lo dice chiaramente Garofano ed era già esigua allora inoltre sono già state fatte delle analisi su quella macchia quindi il DNA è rimasto davvero pochissimo tant'è che non viene restituito un profilo completo dell'assassino cioè dell'altro DNA diverso da quello Simonetta Cesaroni probabilmente avendo dato la traccia al risultato di sangue di gruppo 0 lo abbiamo detto probabilmente dicono i RIS ma non è certo anche l'altro soggetto che ha contribuito la traccia è di sangue gruppo 0 e Ragnarobusco è di gruppo 0 come Simonetta ebbene il RIS dice non è un profilo completo ma per 8 alleli questo DNA può essere associato a Ragnarobusco cioè il RIS dice il profilo contenuto in questa traccia di sangue di DNA di maschio quindi diverso da quello di Simonetta è compatibile con Ragnarobusco cioè noi non possiamo dire che quello è il sangue di Busco ma non possiamo nemmeno escluderlo c'era una parte del DNA cioè c'erano degli alleli così si chiama quella parte del DNA legata a ciascuna di quei tratti di cui si parlava che in realtà corrispondevano con il signor Busco per quella che era l'esperienza di allora e la letteratura di allora per questo tipo di analisi noi concludemmo che il signor Busco non poteva essere escluso gli esperti chiamati dai magistrati comunicano questi risultati non trova conferma e non si esclude la presenza del profilo genetico dell'indagato la quantità di materiale genetico estrapolato è risultata esigua quel profilo genetico avrebbe potuto essere quello di Regnero Busco per un 66-70% ma dal punto di vista giuridico una prova biologica è tale quando la percentuale è superiore al 99% questo giallo è pieno di tracce di piccole tracce di sangue ognuna al momento è sembrata essere la soluzione di tutta la faccenda invece non l'è stata nessuna beh diciamo viene fuori che c'è un profilo comparabile di un soggetto di sesso maschile messo con Simonetta è stato molto criticato questo test perché la procedura eseguita utilizzata nell'esecuzione dell'analisi non è stata scientificamente corretta perché ad esempio uno fra tutti come bianco è stato utilizzato un altro punto della porta il bianco di solito dovrebbe essere un presidio che ci aiuta a capire che non ci sia contaminazione quindi se utilizziamo una parte dello stesso reperto è ovvio che diventa difficile poi avere la certezza del risultato ma comunque quei picchi che sono stati trovati negli elettoferogrammi sono dei picchi che comunque hanno dato un risultato valutabile ecco il generale che l'ofano dice in riferimento alla domanda se era di busco o meno lui dice è compatibile che cosa significa in non è un profilo completo quindi è compatibile fino a un certo punto nel senso che ci sono degli alleli che probabilmente sono presenti anche nel profilo di Regnero Busco c'è da dire che però se noi prendiamo tutti quelli che si chiamano baldi come me e analizziamo i loro codici fiscali se saltiamo il nome o saltiamo la data di nascita quindi mancano delle parti di questo codice fiscale probabilmente potremmo essere tutti indagati perché tutti quelli che si chiamano baldi avranno la sequenza BLD sul proprio codice fiscale ed è lo stesso concetto che c'è un po' con il DNA quindi un profilo che non è completo può contenere degli alleli di una persona ma se non è completo non abbiamo assolutamente la possibilità di fare il calcolo biostatistico di quant'è la random match probability quindi è assolutamente non utilizzabile dicendo che non si può escludere che sia il sangue di Raniero questo significa che può essere usata come prova questa contro Raniero come prova aggiuntiva questo secondo me no perché la scienza deve essere una scienza esatta certa e su questo fatto lo vedremo poi quando parleremo del processo di appello su questo fatto sono concordi anche la maggior parte dei periti chiamati a dare la loro testimonianza cioè molti di loro diranno noi quando abbiamo il dubbio non abbiamo la certezza di quello che stiamo analizzando perché c'è stata possibile contaminazione o perché possiamo soltanto ipotizzare che sia il DNA di qualcuno cioè non possiamo dire che è lui ma non possiamo nemmeno escluderlo per noi equivale a dire che non è lui ma l'accusa invece è convinta e dice no quello è compatibile per otto alleli quindi secondo noi è un altro indizio e molti indizi fanno una prova chiaramente la difesa di Raniero va a cercare dei testimoni che si ricordano di aver visto magari Raniero da qualche parte quel maledetto pomeriggio del 7 agosto 1990 perché se lui non si ricorda più che cosa dichiarò allora e che cosa fece allora magari qualche testimone se lo ricorda e così è due amiche della mamma di Raniero Busco vanno a testimoniare in tribunale la prima è Annalisa Pelucchini che dice di aver visto Raniero Busco riparare l'auto di famiglia nel pomeriggio quindi si trovava a casa sua perché era andata quel pomeriggio si ricorda bene quello dell'omicidio a casa della mamma di Raniero dove abitava ancora Raniero per farle lavare delle tende e aveva visto Raniero che lavorava all'auto posso dire di essere sicura di aver visto il Busco intento a trafficare con qualcosa di fronte all'officina sono sicura del giorno e della persona poiché dovendo far lavare le tende anche nel mese di agosto mi recai all'abitazione di Giuseppina Busco e chiesi a Raniero se la mamma fosse in casa mi disse di sì e salì in casa potevano essere le 17 17.30 la testimonianza di questa signora corrisponde a un'altra testimonianza quella di Maria di Giacomo altra amica della mamma di Raniero Busco che adesso sentiremo che cosa dichiarò in aula praticamente dichiarerà che quel pomeriggio passò in auto dalla casa di Raniero e lo vide tutto sporco di grasso d'auto che lavorava questa macchina quindi le due testimonianze corrispondono perfettamente nel pomeriggio tra le 17 e le 18 o anche oltre ora sentiremo le testimonianze Raniero Busco stava lavorando a casa sua all'auto sono due testimonianze che dicono che Raniero faceva la stessa cosa nello stesso luogo vuole sapere il giorno che ho visto Raniero Busco era il 7 di agosto ecco dica maggiori dettagli era il 7 di agosto perché il giorno 6 ricorriva l'onomastica di mio figlio era il San Salvatore e noi napoletani veramente abbiamo sempre festeggiato il nome ma il compleanno e datosi che il 6 agosto ricorreva anche l'onomastico di mio suocero deceduto e quando era quel giorno mio marito dialogava poco diciamo insomma era triste ecco e quindi quando è stato il giorno dopo che era il 7 per questo mi ricordo il 7 ho detto a mio marito sei tranquillo dice sì dice guarda che anche ieri era l'onomastico di nostro figlio non ci abbiamo comprato nulla parli più forte signora ci vogliamo comprare qualche cosa e mio marito mi ha risposto va bene quanto è oggi oggi pomeriggio usciamo e ci compriamo qualche cosa lui è tornato dal lavoro abbiamo pranzato si è riposato dice chiamami alle 6 meno un quarto le 6 meno un quarto l'ho chiamato lui si è alzato io ero già pronta è andato in bagno si è preparato e tutto quanto e dicevo mimo sono le 6 mimo sono le 7 finché alle 6 un quarto ho guardato che io appoggiato al tavolo l'orologio grande in cucina sono le 6 un quarto siamo usciti siamo saliti in macchina abbiamo percorso quel tratto di strada e io istintivamente ho guardato in casa di Busco perché sono amica della signora Giuseppina io ho visto Raniero seduto per terra unto di grasso con la mamma appoggiata al cancello che era aperto e parlava con sua madre e mio marito l'ha vista anche lui e mi ha detto vedi Maria quel ragazzo non stanno mai con le mani in mano ci hanno sempre da fare e sono andata via ma vorrei che lei si rendesse conto di quello che sta dicendo certo lei ci sta dicendo che sentita per la prima volta 17 anni dopo il fatto lei si è ricordata che alle 18 e 18 mi ricordo i 17 anni prima mi scusi aspetti perché questa alla fine sarà una domanda ma mi faccia finire di parlare lei alle 18 e 18 si ricordava 17 anni dopo di essere passata davanti a casa di una sua amica quindi evidentemente ci passava spesso mi faccia finire la domanda no ma se lei non mi fa se lei non sente lei deve dare una giustificazione plausibile a questa sua memoria formidabile che francamente è del tutto inverosimile quindi dia una spiegazione plausibile signor giudice non è inverosimile perché io gli sto dicendo questo dopo un paio di giorni sono passata per davanti a casa con la macchina io e ho visto delle persone dentro al giardino della Giuseppina e ho detto sono arrivati parenti dalle marche e quindi non mi sono fermata per non disturbare diciamo ecco e ho fatto passare una giornata due giorni sono passata ho visto che lei era da sola ho detto Giuseppina che sono andate via i tuoi parenti io gli dico la cosa com'è e lei mi ha fatto ma quali parenti e parenti vieni su vieni su mi ha detto ora ti dico io quello che è successo e mi ha detto questo ho fatto dice hanno cercato Raniero tutto quanto è successa questa disgrazia alla ragazza dico come dice pomeriggio è successo stupare dico ma se io al pomeriggio l'ho visto il tuo figlio lì per terra dico guarda non devi fare problemi perché se serve la mia testimonianza io l'ho visto non posso dire di non averlo visto la testimonianza della Maria di Giacomo irritata al punto la PM Calò che la reputa una chiara bugia ed evidente cioè dice questa signora sta mentendo perché è amica della famiglia e della mamma di Raniero la irrita talmente tanto che prima la intimorisce dicendo ma lei sa che il reato di falsa testimonianza è un reato molto grave e punibile col carcere dice sì lo so ma io sto dicendo la verità dice la di Giacomo ma il pubblico ministero vede sgretolarsi tutta la sua ricostruzione da questa testimonianza perché se sono già due le testimonianze che dicono Raniero era lì quel pomeriggio quindi tutta la storia la ricostruzione che ha fatto l'accusa non reggerebbe più ebbene ecco che il pubblico ministero si alza e informa il giudice che presenterà la richiesta di procedere sia contro la peluchini sia contro la di Giacomo per falsa testimonianza allora io le domando e poi non glielo domando più siete tutti consapevoli che si può procedere per falsa testimonianza che è un reato punito gravemente ma certamente a me io non rispondo degli altri posso sapere ciò che ho visto io non ciò che hanno fatto gli altri non ho altre domande ecco allora guardi signora in primo luogo non ho capito per quale motivo lei ricorda così con precisione il giorno cioè non ho capito la sequenza se me la puoi ripetere la sequenza dei compleanni degli onomastici dei funerali era la mia vita signor magistrato era la mia vita non era la mia vita degli altri relativi sia alle signore di Giacomo che alla signora Pelucchini per il reato di falsa testimonianza allora la informo che il pubblico ministero ha richiesto copia degli atti della sua testimonianza per procedere per falsa testimonianza nei suoi confronti nei miei confronti si non deve dire niente deve solo prendere atto di questa cosa che le non ci siamo le riferisco io posso dirgli una cosa signor giudice con dalle persone che sono venute qui a testimoniare non c'è stata una forma di verità io gli sto dicendo la verità e lei mi giunge a falsa testimonianza ma dov'è la verità allora per lei? per i giudici di primo grado del resto queste testimonianze non sono da ritenersi valide e tutti questi elementi che abbiamo visto il DNA di Raniero sul reggiseno che il ris dice è stato lasciato quel giorno il DNA ritrovato proprio in corrispondenza di quel segno che secondo l'accusa è un morso e che secondo Iris è compatibile con l'arcata inferiore di Raniero ebbene per il buco dell'alibi che non riesce a fornire Raniero ebbene perché il suo DNA è compatibile per soli otto alleli con il sangue dello sbafo della porta quindi non è possibile escludere che sia Raniero ma non si può dire con certezza che è lui ebbene ecco che i giudici entrano in aula e condannano Raniero a 24 anni di reclusione e Raniero collassa in aula sembrava fiducioso Raniero Busco mentre allacciato come non mai in queste udienze alla moglie Roberta aspettava l'ingresso della corte poi quando in aula è riecheggiata la parola condanna la sequenza è diventata drammatica dichiara Busco Raniero colpevole del delitto ha scritto e con attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante lo condanna alla pena di anni 24 di reclusione quando è arrivata la sentenza di condanna lui ha collassato l'ha sorretto il fratello l'ha liberato il fratello è un gigante alto quasi due vetri in realtà è altrettanto grosso l'ha liberato di quelli che andavano addosso e ha collassato completamente è quasi svenuto è stato portato fuori di peso Raniero però non entrerà mai in carcere non sarà arrestato si aspettano le sentenze d'appello di Cassazione ve le è lasciato in libertà il giudice non ritiene che un uomo in grado di pugnalare per 29 volte una ragazza di 21 anni non lo reputa pericoloso lo lascia in libertà pur avendolo condannato a 24 anni e inizia il processo d'appello ed ora vedremo come nei dettagli durante il processo d'appello con le super perizie dei periti emergeranno tutti quei dubbi tutto quello che non torna nella ricostruzione fatta nel processo di primo grado dall'accusa a partire proprio da questo morso che forse nemmeno è un morso dunque nel 2012 inizia il processo d'appello contro Raniero Busco e la difesa di Raniero Busco riparte come abbiamo detto proprio da quel morso ma siamo sicuri siamo così certi come sostiene l'accusa che quelle due piccole scoriazioni trovate sul seno di Simonetta all'altezza del capezzolo sinistro siano state causate da un morso e proprio quel giorno e proprio dalla bocca dall'arcata dentale inferiore di Raniero Busco viene fatta fare dalla corte d'appello una super perizia che ha coinvolto numerosi esperti scienziati e in particolare emerge durante il processo la perizia che fece il dottor Cipolla d'Abruzzo secondo Cipolla d'Abruzzo appunto adesso lo sentiremo quello non è assolutamente un morso primo perché manca l'opponente cioè c'è solo un'arcata dentale che sarebbe quella inferiore di Busco chiaramente spiega Cipolla d'Abruzzo se si trattasse davvero di un morso noi avremmo dovuto riscontrare entrambi i segni di entrambe le arcate dentali invece ce n'è soltanto una inoltre la cosa che spiega molto bene un altro perito che è stata affidata la super perizia su questo morso e cioè il professor il genetista forense Giardina dice esercizio assai pericoloso e inoltre non solo ritenere che quello sia un morso senza avere la prova ma anche attribuirlo a una persona tutta più 14 anni dopo ora come si può pensare da queste due piccole scoriazioni che dipendano da un morso qui non c'è l'opponente come si fa ipotizzare un morso su due piccole scoriazioni ma questo è un non senso non solo poi addirittura si vuole elaborare tutta una serie di indagini che non solo partono dal presupposto che quello è un morso ma addirittura elaborano tutta una teoria per dimostrare che non solo è un morso ma quanto è riferibile proprio alla dentatura badate bene arcata inferiore dell'imputato non poteva definirsi morso quel segno sul seno di Simonetta perché di fatto mancavano delle caratteristiche morfologiche tipiche del morso soprattutto la sua attribuzione a Ragnaro Busco era esercizio assai pericoloso perché noi andavamo a comparare un morso lasciato nel 90 con l'arcata dentaria di Busco dopo quasi 20 anni sento professore dunque lei ha escluso che si tratti di un che si tratti di un morso ma ammettendo che si tratti di un morso siamo d'accordo nel senso del dire che è comunque impossibile risalire non solo a Busco ma a qualsiasi altro autore sì ammettendo che si tratti di un morso non si può attribuire a nessuna persona identificabile mai dubbi che quello non fosse un morso ce li ha anche lo stesso medico legale vi ricordate Carella Prada che fece l'autopsia al corpo di Simonetta andando a riprendere infatti gli appunti del professor Carella Prada lui fece proprio un disegno del seno sinistro dove venne riscontrata quella discontinuazione è lui proprio a scrivere discontinuazioni da morso ma è sempre lui a mettere il punto di domanda al morso guardiamo infatti l'immagine Carella Prada infatti mette un punto di domanda cioè a lui viene in mente un morso ma così a guardarlo a prima vista ma non è assolutamente sicuro sarà l'accusa nei confronti di Raniero a dire che quel morso ipotizzato dal medico legale è effettivamente un morso perché? perché su quel punto da reggiseno abbiamo detto è stato ritrovato il DNA di Raniero Busco non è stato possibile stabilire la natura di quel DNA ma aveva detto l'accusa siccome è stato un morso in quel punto quella traccia di DNA non può essere altro che saliva è stato fatto anche il test questo è emerso in appello fu fatto però anche il test della saliva e risultò negativo cioè il test disse non è saliva l'accusa però disse quei test hanno un margine di errore certo quindi può essere comunque saliva anche se è uscito il test negativo però allora vale tutto diciamo non è che si può prendere per buono l'accusa può prendere per buono solo ciò che fa comodo all'accusa vediamo ora come il professore Cipolla d'Abruzzo in aula nuovamente interrogato dai giudici sostiene ancora la sua tesi cioè quello non è un morso e anche se fosse un morso ma non lo è ma mettiamo l'ipotesi che si trattasse di un morso non è in alcun modo scientificamente dimostrabile non è in alcun modo accettabile scientificamente è possibile farlo scientificamente di attribuire quel morso quella traccia a alcun soggetto non soltanto a busco ma non si potrebbe attribuire con certezza a nessuno la singolare lesività tutta affatto superficiale osservata il capezzolo sinistro di natura escogliativa superficiale sembra sembra poter denunciare in termini deterministici l'azione di un morso lui dice sembra non ha detto e ha detto sembra l'ha dedotto questa è una sua personale ipotesi sulle ipotesi non si possono costruire poi le certezze non facciamo commenti no non è il momento di fare commenti avrà tutto il tempo per farlo con il sede però prendo atto prendo atto non ho motivo di rifendere nessuno nessuno conosco non mi riguarda non lo fanno gli avvocati meno che mai lo deve fare proprio innanzitutto ribadisco quello non è un morso in secondo luogo ammesso pure che il morso lo vogliamo dichiarare esiste una letteratura moderna vastissima vastissima dove si nega ogni validità scientifica alla dimostrazione di un morso riferibile a una ben determinata persona e negli ultimi anni 2009 2010 2011 2012 tutta la letteratura più autorevole ma anche quella più modesta e via perfino quella in lingua italiana esclude la validità di indagini del genere tassativamente si possono identificare in queste espressioni figurazioni che rappresentano che possono essere ravvicinate ai denti no mi è stato chiesto un parere tecnico e inconscienza e io l'ho dato tecnico e inconscienza non è un morso non c'è il granulio mi scusi professore qui nessuno pone in discussione la coscienza nessua né mia né di nessun altro io faccio queste domande non perché voglia mettere in dubbio la sua buona fede e la sua coscienza immagino l'osservazione che mi ha fatto prima non mi è piaciuta se mi perdona anche la sua premessa non mi è piaciuta la verità è sempre tua da dire senta e il busco presenta smettetela non si applaude non c'è nulla da ridere mi sembra del tutto inopportuno fare queste risate riprende le posizioni di Cipolla d'Abruzzo che come vedete si difende anche vivacemente in aula provocando un po' l'astio dell'accusa che insomma non essendo la perizia del dottor Cipolla d'Abruzzo utile all'accusa ma tutt'altro cioè smonta la tesi del morso sulla stessa posizione di Cipolla d'Abruzzo non in aula ma intervistato un altro medico legale dice la sua su questo morso e dice la sua affermando che non solo non c'è certezza che sia un morso perché manca l'opponente ma innanzitutto nella relazione medico-legale originaria viene indicata la presenza di due escoriazioni fra di loro vicine a livello del capezzolo di sinistra che e anche nello schizzo nel disegno che fece il medico legale e quindi il professor Carella sono accompagnate da una didascalia morso con un punto interrogativo quindi era una interpretazione iniziale quindi una mera ipotesi di compatibilità e non certamente di certezza una lesione a morso viene effettuata evidentemente con ambedue le arcate mancano nella specie le lesioni dell'arcata opponente ma anche ammettendo che il morso sia stato effettuato in maniera incompleta e quindi con un'arcata opponente mascherata per esempio dalla lingua o dal labbro ci sarebbe anche un'azione a questo punto di per quanto minima attività di contusione e disuzione determinata sempre dalle strutture opponenti che in questo caso viene meno peraltro la posizione nel quadrante super esterno della reola dove si volesse ammettere ipotesi di un morso darebbe una posizione di chi quindi dell'aggressore che determina questo morso rispetto al corpo della ragazza francamente difficile da ipotizzare perché si troverebbe appunto con il corpo rivolto in alto e verso la spalla destra insomma pur nella generica stratta compatibilità direi che è un'ipotesi abbastanza remota e quindi tendenzialmente la escluderei discute poi anche sulla traccia di DNA il famoso DNA rinvenuto sul reggiseno di Simonetti sul corpetto insiste la difesa come del resto aveva già fatto in primo grado ma senza successo dicendo che sì certamente c'è il DNA di Busco sul corpetto e sul reggiseno ma sono state presenti anche altre 13 tracce perché in totale le tracce di DNA trovate tra corpetto e reggiseno sono state 16 di DNA diverso dalla vittima quindi 3 soltanto 3 su 16 sono state attribuite a Busco con certezza ma le altre 13 tracce non è stato possibile ricondurle ad alcun soggetto e come vi avevo già detto era emerso che in totale i DNA disconosciuti erano 3 cioè i DNA presenti sul corpetto di Simonetta Cesaroni erano 3 1 Raniero Busco e altri 2 soggetti uomini sconosciuti alle indagini sul reggiseno invece c'era il solo Raniero Busco ma dice la difesa quegli altri 2 DNA sul corpetto di chi sono perché possiamo ignorarli perché se va la regola che Simonetta si era cambiata di abiti se li faceva sempre lavare quindi Raniero lasciò il DNA per forza quel giorno perché questa regola non vale anche per gli altri 2 DNA cioè Simonetta Cesaroni ha incontrato quindi oltre a Raniero altri 2 uomini che hanno lasciato sul suo corpetto il loro DNA quello stesso giorno perché non viene messo in evidenza questo fatto chi sono quelle 2 persone quei 2 uomini i periti vengono interrogati anche sul fatto che i vestiti come vi avevo già detto erano stati conservati per molti anni in una busta non sigillata e tutti quanti insieme a contatto quindi è possibile inoltre che alcune parti di DNA alcune tracce di DNA magari proprio dal corpetto al reggiseno il DNA di Raniero Busco sia passato dal corpetto al reggiseno per contaminazione essendo stati tutti gli abiti di Simonetta tenuti a contatto in una busta ed ecco perché il DNA di Raniero è anche sul reggiseno potrebbe essere passato soltanto quello di Raniero per contaminazione dal corpetto al reggiseno e i periti dicono certamente non è un ottimale un metodo ottimale di conservazione quello di tenere i capi schiacciati insieme per così lungo tempo senza alcuna cura e i periti inoltre dicono ora li sentiremo se la scienza impone la scienza vorrebbe che se non si ha la certezza che non ci sia stata contaminazione cioè se non siamo certi che quello che stiamo analizzando è una traccia un capo di abitamento che contiene tracce totalmente esente dalla possibilità di contaminazione noi dovremmo fermarci e dire l'esame non può essere utilizzato in tribunale io vorrei sapere se è possibile quanti quanti di questi depetti sono effettivamente e sicuramente attribuibili al busco almeno tre tre sì perfetto la difesa non ha assolutamente niente da contrapporre a questa tesi perché le tre tracce le tre tracce del DNA isolate sono sicuramente di busco lo ammettiamo chiaramente anche noi non si sa invece dove siano le altre sedici che possono essere attribuite le altre sedici e gli altri sedici? o non esibivano un profilo completo o non esibivano proprio problemi riferibili all'imputato quindi al di fuori della vittima gli unici profili interpretabili attribuibili sono stati attribuiti all'imputato innanzitutto è risultato che i reperti erano conservati tutte e tre insieme calzini reggiseno e corpetto in una busta di plastica schiacciati insieme in una busta di plastica non sigillata i tre reperti erano mischiati tra di loro? assolutamente sì assolutamente sì adesso questo è un metodo corretto di conservazione dei reperti cioè è corretto non sigillare la busta la catena di conservazione è stata rispettata come procedimento o no? allora diciamo che non è ottimale sicuramente non è ottimale certamente vi sono state delle mancanze in tutta questa procedura di conservazione del materiale di mantenimento dello stato diciamo così più tranquillo per procedere ad avere risultati poi affidabili nel processo scientifico l'assunto iniziale è se non posso escludere le contaminazioni non posso continuare ad andare avanti ed è quello che noi stiamo dicendo visto che nessuno qui può dire che non ci sono state contaminazioni è chiaro che nessuno può dire che è quello che è stato visto davvero quando si cittra in presenza di contaminazione durante un procedimento analitico io personalmente e credo che ne ho fatti tanti di esami di questo genere mi fermo lo dichiaro lo comunica il PM lo comunica chi mi ha dato l'incarico e dico sono in presenza di una traccia contaminata e quindi non sono in grado di dare un risultato affidabile questa è l'onestà dell'investigatore nel senso che è oggettiva non è che posso dire posso cercare di vedere fare un altro prelievo però mi fermo lì queste posizioni dei periti chiaramente irritano molto l'accusa che vede a poco a poco sgretolarsi tutta la ricostruzione che aveva fatto e tutti i suoi capi di accusa nei confronti di Ragnarobusco inoltre l'accusa deve spiegare ancora una volta viene messa di fronte al fatto che Ragnarobusco è di sangue di gruppo 0 e sulla scena del crimine sono state trovate numerose tracce sul telefono e sulla maniglia di sangue di gruppo A e anche ora sappiamo sull'ascensore una traccia di gruppo A all'interno la traccia numero 2 finalmente analizzata nel 2004 di chi è quel sangue di tipo A dice la difesa non potete dire che Busco è l'assassino senza individuare i due DNA presenti sul corpetto di Simonetta che non sono di Busco e le tracce di sangue di tipo A che sicuramente non appartengono a Busco chi ha sanguinato sulla scena del crimine la difesa fa un vero e proprio tenta un vero e proprio colpo di magia un colpo di genio dice quelle tracce di sangue di gruppo A sulla maniglia e sul telefono in realtà non sono tracce di sangue di gruppo A dice l'accusa attenzione siccome sono state ritrovate su una maniglia di una porta e su un telefono oggetti che toccano tantissime persone continuamente tantissime persone diverse in continuazione la maniglia di una porta la tastiera del telefono noi siamo andati ad analizzare delle tracce che erano in realtà formate dal contributo di diverse tracce sia imati che sangue ma anche sudore eccetera eccetera saliva magari tutto quello che può contenere tracce di DNA perché sulla maniglia di una porta chissà quante tracce di DNA ci sono e anche su un telefono e quindi dice l'accusa quelle tracce di sangue è uscito fuori un profilo sconosciuto di gruppo A ma perché è il risultato di una commissione di tantissime tracce le tracce di sangue ma ne vogliamo parlare di queste tracce di sangue e stiamo parlando della maniglia di una porta e di un telefono un telefono che viene utilizzato non soltanto da una persona ma è stato utilizzato nel corso della giornata o nel corso dei giorni precedenti da tante altre persone tracce di sangue ritrovate sul luogo del delitto tracce di sangue non riconducibili a Busco non riconducibili a Simonetta tracce di sangue che depongono per la presenza di un'altra o di altre persone sul luogo del delitto persone diverse da Busco di conseguenza e le in quali tracce presenti sul telefono e presenti sulla maniglia non sono certamente un fatto ipotetico che può tirare in causa altri soggetti che abbiano operato in quel contesto nell'ufficio di Simonetta Cesaroni ma certamente sono fatti che possano essere verificati in momenti diversi e che non entrano in questo processo è stato trovato sangue innanzitutto sul lato interno e sul lato esterno della porta vi ricordate lato interno abbiamo una traccia di sangue che sicuramente è di un maschio ma non è l'imputato ma perché non parlate di questo perché non parlate di questo nella vostra requisitoria e nelle vostre ringue sangue che non è dell'imputato i feriti concludono che si tratta di sangue appartenente ad un soggetto maschile di gruppo A e genotipo 1.14 questo è un genotipo una complessità di dati ematologici e genetici che si esclude la attribuibilità di questa macchia all'imputato l'accusa deve cercare anche di divincolarsi da un altro problema e cioè che quello sbafo sulla porta che per otto a lei è stato ricondotto al profilo sarebbe riconducibile al profilo di Raniero Busco ma soltanto per una parte ebbene quella macchia quello sbafo come ha riconosciuto anche lo stesso RIS era una traccia veramente esigua tant'è vero lo abbiamo sentito anche prima dalla dottoressa Baldi che ha fatto un esempio chiaro per spiegarlo cioè da quella traccia qualche numero e qualche lettera del codice fiscale dell'assassino ebbene qualche numero e qualche lettera ha potuto estrarre che corrispondono per otto punti in particolare appunto a Raniero Busco ma tutti gli altri punti mancano è come dire appunto che abbiamo un pezzo del codice fiscale ma quel codice fiscale è condiviso da più persone non dal solo Busco e quindi non si può attribuire con certezza a Raniero Busco quella macchia e quindi secondo la difesa non ha alcuna validità di prova il DNA estratto ha queste caratteristiche ce n'è poco di DNA totale quindi il DNA ce n'è ben poco in più c'è una frazione praticamente neanche misurabile di DNA maschile la traccia come vedete è una traccia veramente incredibilmente limitata per di più era una macchia risalente al 1990 una traccia sicuramente degradata cioè in termini molto pratici un DNA estremamente frammentato che sapevamo che ci avrebbe creato non pochi problemi e che suggeriva quindi l'adozione di particolari protocolli abbiamo come osservato su questa traccia sbaffo non un codice fiscale cioè un elenco di numeri e lettere ma abbiamo solo visto qualche numero e qualche lettera non siamo in grado di dire c'è l'imputato come nell'altri reperti perché tutti i loci combaciavano però non siamo neanche in grado di escluderlo in realtà il coronello Garofano viene chiamato dall'accusa a difendere tutti i loro risultati che avevano ottenuto nel primo grado e Garofano dice in particolare rispetto al morso dice no noi siamo sicuri che quello sia un morso e che è sicuramente attribuibile all'arcata inferiore di Raniero Busco non c'è stato possibile però dalla corte d'appello di dimostrarlo magari anche con una controperizia noi avevamo chiesto di poter utilizzare un seno di silicone farlo mordere da Raniero Busco e dimostrare come le tracce che sarebbero i risultati da questo esperimento erano perfettamente compatibili con le fotografie sempre perché abbiamo solo quelle del seno sinistro di Simonetta ma qui adesso soffermiamoci un attimo Garofano dice noi siamo certi che quello era il morso arcata inferiore lasciato da Raniero Busco ma abbiamo parlato a lungo appunto di questo morso il medico legale dell'autopsia lo mette tra parentesi quel punto di domanda forse sembra un morso la perizia lo renderebbe compatibile con la sola arcata inferiore di Raniero Busco i periti dicono se fosse un morso avremmo dovuto avere sicuramente anche l'arcata opponente cioè quella superiore in questo caso ma non vi è traccia gli viene chiesto a Cipolla d'Abruzzo l'abbiamo visto ma non è che non c'è traccia dell'altra arcata perché era protetta la zona dal regiseno Cipolla d'Abruzzo dice assolutamente no era un regiseno di pizzo non imbottito e avremmo dovuto sicuramente avere anche una minima traccia che non c'è ma appunto soffermiamoci su questo fatto l'arcata inferiore di Raniero Busco avrebbe morso il capezzolo di Simonetta Cesaroni nella parte alta del seno questo significa ci hanno spiegato i periti che Raniero Busco avrebbe dovuto mordere Simonetta essendogli alle spalle ok? chiaramente quindi per lasciare il morso in quella posizione con l'arcata inferiore Raniero Busco non avrebbe dovuto mordere Simonetta sul seno avendola di fronte ma essendogli alle spalle e mordendola sul seno sinistro quindi da dietro anche riguardo alla macchia dello sbafo Garofano rispinge le accuse della difesa e dice no assolutamente noi siamo assolutamente certi che quella traccia per quanto esigua contenesse materiale sufficiente per farla ricondurre almeno in parte all'imputato in realtà le nostre conclusioni erano chiare su quella genesi quello era un morso peraltro noi ritenevamo anche che si potesse confrontare col signor Busco il problema è che non ci fu data la possibilità di dimostrare ma perché anche attraverso delle prove sperimentali con dei calchi fatti su modelli di seno non ci fu data la possibilità di documentare quanto effettivamente quella lesione fosse effettivamente un morso ma diciamo il punto il punto principale è questo ci troviamo di fronte ad una traccia che era veramente di dimensioni molto piccola uno zero virgola seguito dodici zero quindi siamo una quantità veramente piccola in queste condizioni è realisticamente difficile per cui tutti noi quando ci troviamo in condizioni del genere cerchiamo di apportare modifiche tecniche che naturalmente diciamo tra virgolette forzano ma il forzare il presidente non significa ovviamente insiste significa spingere le macchine gli strumenti le reazioni ad avere un risultato quanto meno possibile in condizioni limite questa è la condizione in realtà il DNA era poco ma era assolutamente sufficiente per poi procedere all'amplificazione e quindi alla separazione e all'interpretazione del dato questo naturalmente ha dei vantaggi perché può portare a qualcosa ma degli enormi svantaggi che il fatto che quando uno più forza si rischia poi di avere delle contaminazioni quelle che noi chiamiamo artefatti di reazione che ce le portiamo dietro a questo punto però l'accusa si vede un po' messa con le spalle al muro dai periti e dal fatto che non riesce a dimostrare la certezza delle sue tesi allora va a cercare degli elementi nuovi che portassero a confermare la condanna nei confronti di Daniero Busco come primo elemento vanno a riprendere la testimonianza che vi ricordate fecero i due portieri nei giorni immediatamente successivi all'arresto di Petrino Vanacore nell'agosto del 90 vi ricordate dissero di aver visto un uomo intorno alle 18 un po' zoppo allontanarsi uscendo da via Poma 2 tenendo un fagotto nero sotto il braccio la portiera in particolare disse di aver visto che quest'uomo che portava un cappellino una berretta era biondo perché gli aveva visto soltanto però i capelli qua dietro il pezzo di testa insomma che il cappello lasciava libero vi ricordate che in base all'andamento la portiera e anche alla corporatura indicò un geometra che lavorava in via Poma che all'epoca dei fatti però era in vacanza e quindi che cosa fa l'accusa nel processo d'appello contro Ragnarobusco va a prendere la foto dell'uomo del geometra nel 1990 e lo confronta con la foto di Ragnarobusco nel 1990 e dice che i due si somigliano molto erano entrambi biondi e quindi la portiera Giuseppa De Luca può aver benissimo visto Ragnarobusco alle 18 di quel giorno e non il geometra che chiaramente era in vacanza riguardo all'andatura a Zoppa ora sentiremo la PM Calò la giustificherebbe dicendo che Ragnarobusco pur essendo giovane e non Zoppo camminava in modo un po' strano perché portava gli abiti della vittima nel fagotto sotto la spalla e cercava di allontanarsi tutto agitato per quello che aveva appena fatto quindi la sua camminata era chiaramente condizionata da ciò che aveva fatto io ero seduta sul bordo della vasca dell'entrata del giardino un attimo mi sono distratta nel rigirarmi ho guardato così che usciva uno però l'ho visto di dietro e portava un spolverino verde con una berretta in testa io ho visto da qui a qui ed era biondo però io lì per lì ho pensato che fosse quello che avevo detto io prima l'architetto il geometra il geometra Forza il confronto tra le fotografie dell'epoca dell'architetto Forza e di Raniero Busco che è stato effettuato in aula lo ricorderete all'udienza del 7 giugno 2010 evidenzia una significativa affinità somatica tra i due volti però insomma se uno non l'ha visto dal viso come può dire che era lui quando è stata sentita nel 90 aveva fatto un riferimento al modo di camminare rispetto al fatto di tenere o meno qualcosa in mano si ricorda? una busta come? una busta nera ecco quindi questa figura che usciva che cosa aveva? una busta nera aveva in mano senta signora la persona che lei questa persona bionda che ha visto di spalle aveva un'andatura così elastica da persona giovane o da persona anziana? ma non le posso io insomma non era tra 18 e 80 anni no no la differenza c'è da una certa età non era giovane l'andatura non era da giovane ad avviso del pubblico ministero questa osservazione sull'andatura non vale affatto ad escludere il busco all'epoca 24enne dovendosi osservare come sulla base di valutazione di ragionevolezza appaia del tutto naturale che l'andatura di un soggetto poco prima resosi autore di un omicidio tra l'altro così efferato fosse dimessa non certo elastica e baldanzosa a dispetto dell'età vuole dimostrare quindi che la portiera vide Raniero Busco vuole dimostrare che le testimonianze delle due amiche della madre di Busco sono false non è vero che lo videro a casa sua quel pomeriggio e vuole dimostrare la colpevolezza di Busco andando anche a riprendere il fatto della relazione sbilanciata che c'era tra Raniero e Simonetta vi ricordate ne abbiamo parlato e per fare questo l'accusa va a prendere a Simonetta Simonetta Cisarone scrisse in quel periodo in cui stava con Raniero in cui soffriva per quella relazione così sbilanciata scrisse delle lettere una ad una sua amica ed una addirittura a Babbo Natale nella lettera di Babbo Natale ora sentiremo queste lettere lette da un giornalista di Matrix in quella Babbo Natale appunto chiedeva l'amore di Raniero come regalo di Natale e in quella l'amica invece molto più dura e cruda dice di essere schifata da Raniero perché la usava solo come oggetto sessuale cioè a lui interessava solo il sesso mentre lei lo amava e l'accusa dice da queste lettere traspare proprio la sofferenza di Simonetta e dalle sue parole così dure emerge come secondo l'accusa Raniero si comportasse anche in maniera sgradevole a volte magari violenta durante i rapporti che avevano il che sarebbe compatibile con la dinamica dell'omicidio lo stesso sono rimasto molto sorpreso nell'ascoltare queste lettere scritte di Simonetta perché non me l'aspettavo insomma da una ragazza di 21 anni con ancora tutta la vita davanti non me l'aspettavo insomma una visione così devastante del rapporto con Raniero del resto lo dice anche la sorella glielo dicevo anch'io ma sei giovane sei bella lascia stare Raniero cercati qualcuno che ti voglia bene davvero hai molto tempo e ce la farai sicuramente invece lei soffriva veramente molto lo si evince anche da queste lettere ma non ha mai detto Simonetta Cesaroni che Raniero l'avesse picchiato le avesse usato violenza era schifata dal suo comportamento ma non dalle sue azioni o da lui in generale caro Babbo Natale quanto tempo è passato da quando ti ho scritto l'ultima volta tanto tempo forse troppo per una persona come me piena di sogni di speranze e dovrei dire illusioni è la vigilia del Natale dell'89 otto mesi prima di essere uccisa Simonetta scrive questa lettera di getto spontanea in cui affiorano i suoi problemi nei rapporti col fidanzato in cui chiede un solo dono ho sempre sognato di essere una donna ma per fare una donna ci vuole un uomo e non so se riuscirò a trovarlo ho imparato a mie spese che amare qualcuno non significa necessariamente essere felici perché amare senza essere riamati è sinonimo di sofferenza solitudine continua e incessante l'amore è fatto di tante piccole cose un sorriso una carezza invece io l'unica cosa che ho ricevuto in cambio è indifferenza e sesso tutto è così squallido mi fa sentire un oggetto nelle mani di una persona e la cosa brutta è che sono cosciente del fatto che un giorno quando si sarà stufato di me mi lascerà e sarà fiero di se stesso vorrei che almeno una volta mi dicesse ti amo toccherei il cielo con un dito quest'anno caro babbo natale vorrei una cosa forse l'unica che mi manca il suo amore è l'unica cosa che mi importi ora agli atti vagliati dalla procura c'è anche una lettera scritta a un'amica donatella ancora più dura soprattutto con se stessa sono sempre più in basso e la cosa peggiore è che non riesco ad uscirne tante volte mi sono alzata la mattina convinta che l'avrei fatta subito finita ma una volta davanti a lui non ne ho avuto la forza se amarlo significa star male annullare se stessa allora no deve finire ieri sera per l'ennesima volta mi ha preso in giro voglio odiarlo odiarlo più di quanto lo amo sono nauseata disgustata da tutto questo non solo di lui anche di me stessa perché non ho abbastanza rispetto di me per dire basta una volta per tutte hai ragione tu io merito qualcosa di più qualcosa di vero e pulito è stato trovato anche un suo appunto insieme alle lettere una bella frase di Lucio Dalla che oggi a rivederla trascritta proprio da lei che non c'è più fa male o quantomeno riflettere e per cosa mi dovrei pentire di giocare con la vita e di prenderla per la coda tanto un giorno dovrà finire e poi all'eterno ci ho già pensato è eterno anche un minuto ogni bacio ricevuto dalla gente che ho amato e quindi i giudici diciamo reputano quelle lettere appunto soltanto la prova che il rapporto era sbilanciato ma che Raniero non aveva molto interesse nei confronti di Simonetta lo reputano tutt'altro che un aggravante ma anzi un attenuante per Raniero perché infatti nel 2012 quando viene letta la sentenza d'appello Raniero viene scagionato da ogni accusa viene ritenuto innocente e se quando la corte pronunciò la sentenza di condanna si elevarono nell'aula dei no no ma come di dispiacere dalle persone presenti quando viene letta la sentenza di assoluzione nel 2012 che sarà confermata anche dalla Cassazione nel 2014 ebbene nell'aula si alza un boato di esultanza tutti sono convinti dell'innocenza e felici dell'innocenza di Raniero che da quel momento uscirà dall'incubo profitto della presenza in quest'aula di tanti amici che rappresentano la stampa i mezzi di informazione per pregarli di una cosa se la sentenza sarà come dovrà essere di assoluzione non scrivete che ancora una volta c'è un delitto senza un colpevole il colpevole c'è annidato da qualche parte c'è voi dovete solo scrivere che il colpevole non era Raniero Busco ed è proprio in questa ansia di verità e di giustizia in questa speranza di verità e di giustizia che noi vi chiediamo con profonda convenzione la riforma della sentenza di primo grado e l'assoluzione di Raniero Busco per non aver commesso il fatto che gli è stato addebitato buongiorno signor Giugno naturalmente scusate la mia emozione se riesco a essere chiaro sento però il bisogno arrivati a questo al termine di questo giudizio di avere il mio cuore a voi che vi apprestate a giudicarmi io voglio riaffermare che io volevo bene a Simonetta naturalmente non posso sapere come la nostra storia si avrebbe potuto concludersi ma mai avrei pensato di poter far del mare alla mia compagna e non redisco al solo pensiero che qualcuno possa pensare che abbia io provocato la morte di Simonetta con questo voglio dire che ho provato il dolore più grande della mia vita quando ho saputo che Simonetta è stata uccisa questo dolore l'ho provato solamente quando è morto mio padre e anche quando sono stato condannato in primo grado non tanto per la condanna in sé anche se per me è mostruosa ma quanto per il fatto che i giudici mi abbiano ritenuto capace di un delitto così incredibile grazie in nome del popolo italiano visto l'articolo 605 del codice di procedura penale in riforma della sentenza emessa dalla corte di assise di Roma in data 26 gennaio 2011 appellata dai difensori dell'imputato assolve Busco Raniero assolve Busco Raniero dal reato ascritto di non aver commesso il fatto silenzio per favore fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione piense il top di non aver commesso di riforma di riforma di riforma di riforma di riforma di riforma durante il processo di appello però la difesa ha fatto emergere anche tutti quegli elementi quelle stranezze che avevano alleggiato a lungo su tutti gli altri soggetti coinvolti nella storia non soltanto la famiglia Vanacore ma anche il datore di lavoro Volponi e l'avvocato il presidente allora dell'IAG Caracciolo che fu chiamato a rendere conto di alcuni fatti molto strani ora ne parleremo nei dettagli cioè andiamo a vedere tutte quelle stranezze messe in evidenza dalla difesa di Raniero che non erano mai state spiegate e incomprensibilmente ignorate nella ricerca del vero colpevole cominciamo proprio da Vanacore e non solo da Petrino ma anche dalla moglie perché come vi ricorderete quando il gruppetto formato da Volponi e suo figlio dalla sorella di Simonetta Paola e dal suo fidanzato andò a cercare Simonetta in via Poma si imbattè per prima proprio nella portiera ora racconteremo che cosa accadde in quei primi attimi di incontro tra la portiera e Salvatore Volponi il datore di lavoro perché parleremo anche di lui ma prima parliamo un attimo appunto dei Vanacore abbiamo detto all'inizio la polizia pensava che Petrino Vanacore essendo il portiere gli avrebbe detto che cosa aveva visto come erano andati i fatti perché il portiere è così per natura ma poi emersi invece che Petrino era un portiere una figura del portiere un po' anomala riservato sempre sulle sue molto schivo anche se molto gentile è collaborativo a detta dei condomini perché Petrino Vanacore era così molto riservato molto chiuso pur essendo un portiere ce lo racconta forse la storia della sua vita perché Petrino Vanacore prima di sposarsi con Giuseppa De Luca anch'essa vedova era appunto rimasto vedovo cioè Petrino Vanacore aveva avuto tre figli sposandosi molto giovane dalla sua moglie dalla sua defunta moglie che era morta molto giovane a causa di una malattia molto grave aveva una tubercolosi renale e aveva avuto aveva passato molti anni di sofferenza una malattia lunga 11 anni che le aveva strappato via la moglie a poco a poco e Petrino Vanacore quindi messo a dura prova dalla vita poi aveva ritrovato l'amore in Giuseppa De Luca anch'essa vedova anch'essa pugliese come lui i due si erano sposati e trasferiti a Roma dove si era realizzato il suo sogno cioè ottenere un portierato problemi di salute complicano una vita già faticosa e sfortunata la moglie viene ricoverata per tre anni a Pietravigure per una tubercolosi renale e Petrino ogni fine settimana si sobbarca più di 400 km per poterla abbracciare guardavo solo il mio lato familiare la moglie che amavo tanto i figli la moglie che lei ha perso quanti anni fa? nel 73 quindi dopo una malattia lunga? lunghissima di 11 anni forse da tutte le disavventure avute la buonanima più il figlio il figlio mi è stato menomato quindi anche lui tre anni di malattie affetto da cancrena quindi mi ha marcato moltissimo forse è quello la sofferenza di tanti anni fa di tanti anni avuta perché Giuseppe De Luca deve dare giustificazione di numerose anomalie nella sua testimonianza e nei fatti che avvennero quella sera alle 23.20 23.30 quando arrivarono a cercare Simonetta in via Poma perché l'incontro appunto tra Salvatore Volponi le prime battute dell'incontro tra Salvatore Volponi e la portiera non sono note al resto del gruppetto vi ricordate come vi dicevo all'inizio che appena entrarono nel giardino di via Poma gli altri non poi spaisati non sapendo nulla di quel posto mentre Salvatore Volponi si diresse staccandosi dagli altri alla casa della portiera e del portiere quasi come si sapesse appunto dove andare a chiedere si chinò alla finestrella della cucina della casa che aveva la luce accesa e chiamò la portiera e adesso ci spiegherà bene anche la dinamica il giornalista che ha seguito a lungo il caso Radice si consuma un dialogo breve tra la portiera e Volponi del quale le prime battute di questo dialogo non sono assolutamente testimoni di altre persone presenti poi si sposta nel cortile mentre 3 su 4 consumano un attimo di incertezza nel cortile Salvatore il dottor Salvatore Volponi entra nel vano della scala Volponi sempre il datore di lavoro il datore di lavoro di Simonetta entra nel vano dalla scala B alla ricerca della portineria ecco e a questo punto io apro il plastico che è apribile che ci permette così aperto di seguire i movimenti delle persone all'interno della entra da quel portone lì quindi Volponi entra passa davanti alla guardiola che è chiusa e entra poi in questo cortile un secondo cortile e poi superando queste scalette questa piccola rampa di scala dell'uscita di servizio arriva a questa finestrella dove vedete la luce accesa che corrisponde alla cucina dell'abitazione di Vanacore qui chiama la portiera e si consuma fra Salvatore Volponi il datore di lavoro di Simonetta e la portiera si consuma un breve dialogo di cui nelle prime battute gli altri non sono testimoni e su che cose si sono detti la portiera Giuseppa e Salvatore Volponi in quei primi momenti esistono due versioni contrastanti proprio una di Volponi e l'altra di Giuseppa De Luca perché Giuseppa De Luca dice che Volponi le avrebbe detto signora siamo qui per cercare una ragazza che lavora su negli uffici dell'AIAG ci può accompagnare su si ricorda di me sono già stato qui altre volte quindi versione che contrasterebbe totalmente con ciò che ha detto Volponi che non sapeva assolutamente dove fossero gli uffici di Via Poma e non vi era mai andato quindi sarebbe stato Volponi secondo Giuseppa De Luca a convincerla facendosi riconoscere di accompagnare il gruppetto su invece Volponi smentisce categoricamente quanto dice la portiera perché lui non l'aveva mai vista non la conosceva e non era mai stato lì Volponi ha avvicinato la mia mattina e ha detto si ricorda di me io sono stato qui altre volte perché lei non era tanto convinta di andare su e io l'ho visto erano lì di fronte gli altri erano un po' più distanti e la mia mattina ha detto sì adesso che la vedo mi ricordo di lei io non posso che ribadire il fatto che praticamente io in mia pova non c'ero mai stato per la semplice ragione che si interessava tutto il mio amico Vizzocchi che poi la portiera ebbe detto che mi conosceva non lo so perché lo dica ho aperto la guardione e mi ha detto signora sono Volponi si ricordi di me e basta lei ha detto questo io non ho detto assolutamente questo non ho detto assolutamente questo e praticamente rivolgermi alla portiera dicendo sono Volponi mi riconosce che senso ha questa è una dichiarazione che ha fatto la signora De Luca la signora ha fatto ciò che vuole vuol dire ciò che vuole ma non certo io lo so uno dei due certamente dice una cosa non vera ovviamente certo e lei si è ricordata di conoscerlo? lo vedevo lì e veniva lì e veniva spesso ogni quanto ah e vedevo quando facevano le riunioni che so che facevano delle riunioni e venivano tutti assieme è chiaro quindi che uno dei due mente sputuratamente bisogna chiedersi chi dei due dovrebbe mentire e perché chi avrebbe più interesse a raccontare questa versione dei fatti mentendo che cosa succede poi? attenzione vi ricordate quando la portiera non senza qualche resistenza si convince ad accompagnare il gruppetto su agli uffici dell'Iag viene convinta alla fine dopo aver ripetuto che non aveva le chiavi che non poteva perché non aveva l'autorizzazione ad aprire eccetera tira fuori un mazzo di chiavi alla fine ormai messa con le spalle al muro e decide di aprire quella porta quella maledetta porta ebbene vi ricordate poi che vi raccontavo lei dice però entrate voi perché mi avete messo paura si può interpretare questo fatto come se in realtà lei sapesse benissimo che cosa avrebbero trovato quelle persone cioè il corpo della povera Simonetta ebbene poi la portiera scompare dopo che viene trovato il cadavere il gruppo esce la portiera non è più lì il gruppo chiama la polizia e arriva la polizia quando arriva la polizia sul posto la portiera non c'è appunto ancora scenderà dal piano superiore dove stava all'appartamento dell'architetto valle dove dormiva Petrino Manacore e scenderà da lì seguita proprio da Petrino Manacore che è ancora intento a mettersi i vestiti o almeno così sembrava e la portiera si trova di fronte quindi ancora quelle persone e il poliziotto che aprirà quella porta per andare a vedere il cadavere che cosa testimonia quel poliziotto che la portiera ha opposto ancora resistenza anche a lui anche a un poliziotto dicendo prima di non avere le chiavi poi di tirarle fuori da dietro la schiena e di consegnagliele quindi non senza qualche resistenza anche a dare alla polizia le chiavi è una cosa veramente assurda perché la portiera afferma di non avere le chiavi quando ha appena aperto la porta al gruppetto che è andato a cercare Simonetta ebbene quindi ripetiamo che cosa è successo arriva la polizia il poliziotto sale su la sorella di Simonetta Paola chiaramente sconvolta viene consolata dagli altri presenti ma il poliziotto torna indietro dice ma guardate che su la porta è chiusa sì perché quando il gruppetto si è allontanato dall'ufficio dell'Iag per chiamare la polizia la portiera con tutta probabilità e quasi certezza ha richiuso la porta con quattro mandate quattro mandate proprio come era chiusa quando l'ha riaperta prima quindi il poliziotto dice ma guardate che su è chiuso il gruppetto dice ma come siamo appena stati noi dentro e non abbiamo chiuso chiaramente perché non abbiamo le chiavi ma comunque le chiavi le ha la portiera magari ha chiuso lei ecco quindi che il poliziotto va a cercare questa portiera la trova che scende giù dalle scale seguita dal marito e gli dice signora ci apre la porta ci hanno detto che c'è un cadavere e la signora dice ma come cosa sta succedendo non so nulla fa finta di cadere dal pero e dice ma poi io non ho le chiavi per aprire quell'ufficio a questo punto chiaramente con grande stupore di tutti i presenti la sorella Paola dice ma come ci ha appena aperto lei certo che c'era le chiavi le tiri fuori forza e anche si avvicina alla portiera quasi chiaramente comprensibilmente nervosita per questa non collaborazione e chiaramente sta mentendo la portiera ed ecco che quindi la portiera ormai con le spalle al muro tira fuori da dietro la schina queste chiavi e le consegna al poliziotto sentiamo proprio la testimonianza di tutti i presenti della sorella Paola e non solo della portiera che si difende e del poliziotto che dice assolutamente la portiera non voleva darmi le chiavi e ho dovuto strappagli io di mano ricordo che siamo saliti insieme ad altri due colleghi io e l'agente Piccinini e l'assistente Umena siamo saliti assieme siamo andati sul terzo piano abbiamo trovato questa porta chiusa però dopo un po' riscendono perché ci dicono ma scusate ma la porta è chiusa come facciamo a entrare e dico guardi a noi ci ha aperto la portiera le chiavi c'erano a lei solo che là non c'era insieme a noi quindi non gli ho saputo dare indicazioni dove fosse la portiera mi dispiace ma non lo so io lì mi sono risa conto che non c'era la portiera poi non so se il figlio qualcuno mi ha detto che era andata a cercare il marito proprio in quel mentre scende lei a piedi e gli dico signora c'è la polizia devi andare a aprire la porta dice ma io non ce l'ho le chiavi come non ce l'ho le chiavi ci ha aperto lei mi ricordo che notavo una signora scendere le scale appunto dello stabile e ce la indicavano come la portiera probabilmente le chiavi le aveva lei io l'ho contattata questa signora e lei mi disse inizialmente che non capiva cosa stesse succedendo dice ma che succede cos'è tutta questa confusione dico guardi signora mi sembra di capire che è successo qualcosa al terzo piano di questo stabile quindi se lei ha le chiavi ci mise un po' a darmi queste chiavi mi ricordo ce l'ha dietro non so se Paola a quel punto gli dice ma ce l'ha dietro sono quelle le chiavi era davanti a me con le chiavi in mano dietro la schiena e io ero dietro di lei e io dicevo ma ce l'ha la signora la signora le dava le chiavi dice ma ma ce l'ha le chiavi diceva di no nega di avere le chiavi rifiuta di considerare i poliziotti tanto che i poliziotti sono costretti a trappegli di mano ma come dico ma ce l'ha qui ho dovuto quasi prenderla io e insistere poi le ha dato queste chiavi a questi due poliziotti e niente poi sono saliti tutti quanti su gli agenti del servizio volanti della polizia intervenuti sul posto hanno riferito che lei pur avendo poco prima aperto alla sorella della vittima non voleva consegnare loro le chiavi ora io le chiedo perché bugia non è vero no tutto bugia perché io scendevo da sopra quinto piano quando sono andata a chiamare mio marito che dormiva su al professor Valle mio marito immediatamente si è vestito man mano che si scendeva al penultimo gradino si è presentato uno che non aveva solo aveva la divisa la camicia e il pantalone insomma celeste aveva la camicia e mi ha chiesto le chiavi io le avevo in mano le chiavi dietro la schiena non vedevo il motivo di averla di portarle dietro la schiena ma ha chiesto la signora mi dia le chiavi io come ignorante pensavo che fosse qualcun autoritario insomma uno del commissario e chiesi non che non l'avevo conosciuto chiesi chi era lei disse sono un poliziotto e le lette le chiavi basta non che io avevo che motivo avevo io di mettere le mani dietro la schiena non avevo nessun motivo quando lei ha preso le chiavi dalle mani della portiera sono state consegnate spontaneamente o ha dovuto prenderle con una certa forza no non sono state consegnate spontaneamente al momento perché la signora continuava a chiedere che cosa che cosa succedesse cos'era tutta quella confusione effettivamente io dovetti prendere io le chiavi dalle sue mani ma non è finita qua perché dietro a quel mazzo di chiavi proprio quel mazzo di chiavi che la portiera usa per aprire la porta che consegna la polizia su quel mazzo di chiavi c'è un giallo nel giallo un mistero nei mille misteri di questo caso perché quelle chiavi in possesso della portiera sono le chiavi di scorta degli uffici dell'Iag che sarebbero dovute essere appese all'interno degli uffici erano le chiavi di scorta da che cosa sappiamo che erano le chiavi di scorta perché erano contrassegnate da un nastrino giallo cosa ci facevano le chiavi di scorta degli uffici dell'Iag nelle mani della portiera i portieri avevano già una copia delle chiavi che infatti fu sequestrata il 27 di agosto quando vi ricordate la polizia tornò a fare un sopralluogo e trovò nel corso di quel sopralluogo la macchia di sangue nell'ascensore e quella nelle cantine lo struscio nelle cantine sequestra anche le chiavi dei portieri relative agli uffici dell'Iag e ne sequestra appunto due mazzi uno era quello del portierato la copia che gli serviva nel caso in cui avesse dovuto aprire gli uffici l'altra è quella con il nastrino giallo che era la copia di scorta degli uffici dell'Iag che doveva stare dentro gli uffici dell'Iag la portiera si difende e dice quel mazzo dell'Iag di scorta me l'hanno data qualche dipendente non mi ricordo esattamente chi scese giù un giorno e me la diede avevano lasciato come ogni tanto me li lasciavano il mazzo di chiavi con il nastrino giallo non era il mazzo già in uso alla portineria perché i portieri avevano altre chiavi ma era il mazzo di scorta degli ostelli le chiavi con il nastrino giallo erano appese mi pare in uno stipito della porta in linea di massima sono state riconosciute da una delle dipendenti degli ostelli come le chiavi di scorta degli ostelli il mazzo in più ossia il mazzo che si trovava attaccato ad un chiodino a fianco del portoncino degli ostelli dal lato interno di scorta dunque non vi era alcuna giustificazione del possesso di tale mazzo da parte dei portieri è a sua conoscenza che dietro la porta di ingresso dell'appartamento dove c'era il corpo di Simonetta erano appese delle chiavi no non le ha mai viste quando le dovevo vedere io e lei conferma che le chiavi in suo possesso si erano avevano un nastrino giallo che le contraddistingueva si e chi gliel'ha date quelle chiavi beh dopo vent'anni io non ricordo è sceso un ragazzo uno che lavorava lì però non ricordo chi era il sequestro delle chiavi con il nastrino giallo quindi proprio di queste chiavi presso i portieri dimostrano che il portiere ha scoperto il cadavere prima dell'arrivo della sorella della vittima la portiera si difende dicendo quel mazzo di chiavi del nastrino giallo che avevo io me l'ha data un dipendente dell'IAG non ricordo esattamente chi e in che giorno ma venne da me e mi diede quella copia delle chiavi con tutta probabilità questo lo aggiungo io alla mia personale opinione se effettivamente andò così come dice la portiera probabilmente quel dipendente che doveva chiudere gli uffici dell'IAG prima di andare via si era dimenticato la sua copia delle chiavi e quindi usò quella di scorta che serviva proprio questo se qualcuno si dimenticava le chiavi quindi magari questa persona che doveva chiudere gli uffici non poteva portarsi via la copia di scorta e la diede quindi ai portieri dicendo se qualcuno viene a chiedere la copia delle chiavi la do a voi perché io ho le mie che ho dimenticato a casa ammettendo questo però si sarebbe poi dimenticata la portiera o il portiere vanacore di restituire la copia agli uffici dell'IAG il pubblico ministero invece l'accusa ricrea un'altra ricostruzione cioè dice la portiera aveva quella copia delle chiavi dell'IAG perché perché Petrino vanacore scoprì il cadavere di Simonetta trovando la porta aperta lasciata aperta dall'assassino scoprì il cadavere di Simonetta e dovendo chiudere dopo aver ripulito la scena dal sangue dovendo chiudere la porta chiaramente per non far entrare nessuno non aveva dietro le chiavi perché non pensava di trovare quello che ha trovato e ha usato le chiavi di scorta dell'IAG per chiuderla che poi gli sono rimaste nel portierato ritorniamo ora parlando di Salvatore Volponi al momento del ritrovamento come abbiamo raccontato all'inizio è lui ad andare nell'ufficio di Carboni ed è lui a scoprire il cadavere di Simonetta Salvatore Volponi e secondo i testimoni presenti in particolare il fidanzato di Paola Cesaroni Salvatore Volponi disse quando vide il cadavere di Simonetta prima di dire tieni Paola tieni Paola porta la via nell'immediatezza in cui scoprì il fattaccio disse queste parole bastardo che bastardo l'ha uccisa come se si riferisse a un uomo che sapeva essere l'assassino di Simonetta che sapeva che doveva vedersi in quegli uffici con Simonetta perché dice bastardo l'ha uccisa Volponi si giustifica dicendo allora io non ricordo esattamente se l'ho detto o non l'ho detto probabilmente l'ho detto davvero ma se l'ho detto era detto in generale perché è soltanto un bastardo aver ucciso una ragazza di 21 anni con 29 coltellate e dopo un po' è uscito dicendo oddio oddio bastardo qualcosa del genere bastardo non so a chi era riferito lo ha detto o non lo ha detto e se lo ha detto perché? essere sicurissimo di averlo detto non lo sono però posso dirle con molta franchezza che chi aveva fatto una cosa del genere poteva essere soltanto che un bastardo non c'erano altre parole il fatto di averlo detto al maschile è una questione uno si rivolge in senso generale non è che si rivolge bastardi bastardo bastarde bastardo una cosa del genere può farla solo un bastardo ha visto per terra un corpo o ha visto per terra Simonetta? io ho visto per terra questo corpo un corpo e poi ha detto anche fermate Paola sì esatto non è che per caso ricordando bene qualcuno gli aveva già detto che Simonetta era stata ammazzata? nessuno mi ha mai detto niente ma lei lo nota da solo questo contrasto? lì c'era un momento di travaglio il tempo passava la ragazza non si trovava è tutto qua ha mai pensato oltre che al bastardo se il bastardo si riferiva a qualcuno? assolutamente no bastardo era un termine generico per dire chi ha fatto una cosa del genere perché grida bastardo? forse perché sapeva che Simonetta inconsapevolmente andava ad un incontro che per lei poteva essere sgradevole e lui era conoscenza che sarebbe avuto questo incontro? questi dubbi e questi misteri pesano hanno pesato come macigni in tutta l'inchiesta da 1990 al 2008 e io ritengo che peseranno anche nella vostra decisione chiaramente siamo tutti d'accordo con Volponi solo un bastardo può aver ucciso Simonetta ma secondo me è molto molto strano questo fatto cioè Volponi dice bastardo l'ha uccisa non dice oddio cosa è successo chiamiamo la polizia oddio no Simonetta insomma io penso che una reazione normale sarebbe stata questa perché invece bastardo bastardo che cosa ne sa lui che è stato un uomo sono numerosi quindi i punti di domanda che riguardano anche la figura di Salvatore Volponi se sembra infatti molto strano che non sapesse dove fossero gli uffici dell'Ajag in via Poma sembra del tanto strano che non sapendolo come dichiara lui ci arrivò fin troppo velocemente che sapesse a differenza degli altri dove era la portineria chi rivolgersi per farsi aprire non sapremmo mai se effettivamente aveva già conosciuto la portiera come dice lei o se invece non era mai stato lì come dice lui e non sapremmo mai nemmeno se disse bastardo l'ha uccisa perché sapeva chi Simonetta avrebbe dovuto incontrare quel maledetto pomeriggio Salvatore Volponi vi dicevo all'inizio ha tirato su di sé molto i sospetti anche perché quando la sorella Paola andò a casa sua dicendo che non trovava la sorella fu lui stesso ad ammettere che d'accordo i presi con Simonetta avrebbe dovuto telefonargli intorno alle 18.30 per dirgli che era finito quel lavoro urgentissimo ebbene ci siamo chiesti tutti perché alle nove e mezza di sera non avendola ancora sentita non è Volponi a telefonare a Simonetta e dirgli scusa ma tutto bene hai finito il lavoro questo è molto molto sospetto secondo alcuni non lo fece perché sapeva che cosa era accaduto vi ricordate che la sorella Paola prima di recarsi a casa sua di Volponi tentò più volte di contattarlo telefonicamente e il telefono di Volponi era sempre occupato con chi stava parlando quella sera magari con qualcuno che lo aveva informato su cosa era successo in via Poma da cui si spiegherebbe la sua reticenza iniziale a voler aiutare Paola praticamente cercavo di di spingere Simonetta a chiudere questo 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 lavoro per la semplice ragione che che praticamente così avrebbe potuto consegnare tutto e non avere più nessuna grana con con Caraccio e quindi praticamente gli dissi praticamente senta se vuole posso anche venire ad aiutarla pur sapendo che non sarei mai andato perché non potevo andare perché lei nel libro dice che visto che Simonetta diceva non si preoccupi dottore perché me la sbrigo da sola lei ha detto mi chiami al 18 18 e 30 c'è il telefono così mi dice allora io le chiedo quale era la difficoltà di lavoro che avrebbe dovuto incontrare Simonetta quel poveriggio difficoltà di ordine di lavoro credo non ce n'era nessuna la difficoltà era chiudere chiudere praticamente la partita mi ricordo una cosa precisa quando io insistevo per dire ma vuole una mano che gli accompagnati così finiamo il lavoro la irremovibilità di Simonetta non farvi andare no non venga non si preoccupi faccio da solo faccio tutto da solo io dico ah cioè lo dicevo dal punto di vista che era sicuro di saper lavorare di saper lavorare e di chiudere il discorso la mia richiesta era semplicemente quella di sapere se aveva notizie di Simona e quantomeno se erano stati non so dati incarichi per cui lei poteva tardare c'era qualche motivo di ritardo io non ho ascoltato bene quello che rispondeva Volponi comunque riferito da Paola mi ha detto ma questo non sa nulla l'unica cosa è mi ha detto cioè Simonetta avrebbe dovuto chiamare alle 6 e mezzo 18 e 30 per confermarmi se alcuni problemi di lavoro l'avesse risolti e lui non ha saputo dire nulla all'infuori che alle 6 e mezzo Simonetta l'avrebbe dovuto chiamare era d'accordo con Simonetta che lei la chiamasse si a che ora avrebbe dovuto chiamarla guardi fra le 18 le 18 e 20 le 18 e 30 ma Simonetta non l'aveva chiamato poi però ripensandoci un attimo questa telefonata che non c'era stata ci siamo un po' preoccupati cioè lì è nata un po' la vera preoccupazione ragazza non si trova quest'ora ma com'è insomma e niente allora abbiamo deciso diciamo di andare diciamo abbiamo cercato dove sta mi ha detto mi è stato chiesto dove sta e l'ha risposto e dico io l'indirizzo non lo so per la semplice ragione che della questione non mi sono mai interessato io ma sarei interessato il mio socio vi ho anche detto che Salvatore Volponi alcuni anni dopo la vicenda scrisse un libro io via Poma e Simonetta tutta la verità io ho letto quel libro e oltre a difendersi da tutte queste accuse che abbiamo appena detto Salvatore Volponi dà la sua versione dei fatti dicendo di essere stato trascinato dentro dai giornalisti in un'agonia mediatica ma dice una cosa l'unica cosa veramente interessante di quel libro dice Salvatore Volponi a un certo punto Simonetta Cesaroni mi aveva confidato una confidenza personale che stava frequentando proprio in quel periodo un altro ragazzo diverso da Raniero è vero questo fatto o Volponi lo dice soltanto per allontanare da sei sospetti ed avvicinarsi a un ragazzo sconosciuto misterioso che era entrato nella vita di Simonetta vedremo tra poco come questo particolare spiegherebbe si ricollegherebbe ad un'altra faccenda parliamo ora di un altro superluogo che andò a fare la polizia sempre in via Poma e in particolare con riferimento al portierato e alla casa di Pedrino Vanacore andò nel mese di settembre perché ci andò? perché chiaramente le indagini erano stagnanti non si risolveva il caso ma i giornalisti erano quotidianamente in via Poma a cercare nuovi indizi e nuove testimonianze continuando ad andare anche da Pedrino Vanacore ebbene cercando Pedrino Vanacore due giornalisti milanesi andarono dove stava la portineria di Pedrino Vanacore e nel cercare il portiere scesero verso la cantina in dotazione al portiere e videro nello stipite della porta della cantina in alto sopra lo stipite in alto una macchia che loro dissero era certamente sangue che cosa fanno questi giornalisti? non lo dicono alla polizia subito ma lo dicono all'avvocato di Pedrino Vanacore quindi chiamano l'avvocato di Pedrino Vanacore questo non so perché ma andò così questi giornalisti e gli dicono che cosa hanno visto non avendo avuto riscontri nei giorni successivi però lo dicono anche alla polizia dicono guardate che noi abbiamo già detto all'avvocato noi abbiamo visto questa che sembra una macchia di sangue la polizia si precipita a casa di Pedrino Vanacore scende le scale verso le cantine e adesso vi mostro la foto al posto nel posto esatto in cui due giornalisti hanno indicato la presenza di una macchia di sangue la polizia trova due escavazioni nel muro quasi come se qualcuno avesse rimosso quei pezzi di muro macchiati di sangue e ha lasciato dei buchi vuoti non abbiamo motivo di dubitare della buona fede di questi giornalisti che videro con tutta probabilità quella macchia rossa e allora ci si chiede la rimossa Pedrino Vanacore su indicazioni del suo avvocato? non lo sappiamo la rimossa perché quella era veramente sangue che l'avrebbe incastrato oppure la rimossa perché voleva evitare ogni tipo di sospetto ma non sapeva nemmeno se fosse sangue o meno questo è un grandissimo mistero ancora nel mistero ma è del tutto palese che lì dove i giornalisti vedono il sangue proprio in quel punto è stato rimosso un pezzo di muro fu analizzata invece l'altra traccia rossa che si vede dalla foto sopra lo stipite ma quello non era sangue sembra sangue soltanto nella foto ma era anche di un altro colore comunque fu analizzato non conteneva assolutamente sangue la storia delle macchie di sangue nel portierato tra l'altro non finisce nemmeno qui perché ora sentiremo il giornalista Radice che afferma che quando la polizia fece questo sopralluogo nel settembre per cercare quella macchia di sangue sul muro che fu rimosso ebbene porta via la scrivania in dotazione alla Pedrino Vanacori nella portiereria perché porta via quella scrivania perché sulla scrivania vede una macchia rossa che pensa possa essere sangue e quindi i poliziotti la sequestrano abbiamo le immagini che adesso ci mostrerà lo stesso radice di questa scrivania che viene portata via però su quella traccia di sangue non abbiamo alcun tipo di notizia né se fu mai analizzata né che risultato diede l'analisi cioè se fosse sangue o meno io qui ho una fotografia che la polizia dice non conta nulla ma testimonio perché so come mostrarla alla camera questa fotografia sarà scattata il giorno in cui la polizia è entrata nell'appartamento del portiere Pietrino Vanacori alla ricerca di una macchia vista da un paio di giornalisti di una rivista milanese visto questi giornalisti il 2 settembre hanno raccontato due mesi dopo il 2 settembre sono andati a fare un'intervista a Pietrino Vanacori si rendono conto credono ad aver visto una macchia sul muro telefonano fanno via dopo l'intervista telefonano all'avvocato la stiamo vedendo il primo video di Pietrino Vanacori si ma adesso spiego telefono all'avvocato di Pietrino Vanacori Antonio Di Vita allora c'era soltanto lui non c'era ancora il dottor Spinelli lo avvertono di questo fatto un tempo dopo un mese dopo ripassano 20 giorni dopo ripassano questa macchia non ci sta più e poi vanno a raccontare tutto quanto alla polizia questa testimonianza c'è un pezzetto di muro asportato e dicono che lì c'è un posto un pezzo di muro asportato grattato questa testimonianza dei giornalisti viene considerata importante e qualificata perché sono giornalisti io ero lì il giorno del sopralluogo ma hanno allontanato sono entrato appena dopo è andata via la polizia però per la strada ha potuto c'era il fotografo con me ho potuto vedere quello che veniva portato via è stata portata via la scrivania che stava nella guardiola di Pietrino Vanacori e per me avrei giurato che la macchia Adriano ecco quella macchia sulla scrivania era sangue io sono tornato al giornale e ho detto io ho visto questa scrivania portata via per me era sangue invece sono un giornalista al pare di quegli altri che hanno visto una macchia su un muro visto che ci siamo occupati del portierato vediamo ora una foto molto interessante che mostra effettivamente dove stava il portiere nella sua portineria seduto a quella scrivania che sarà portata via appunto come vediamo da questa foto la visuale sul cortile di ingresso di via Poma non è assolutamente libera cioè se una persona è lì seduta che si fa i fatti suoi come fa il portiere che magari legge il giornale eccetera non è che ha lo sguardo libero sull'ingresso cioè non è assolutamente vero che una persona non potesse entrare senza essere vista perché come vedete la finestra è molto alta è una finestra stretta e non si ha la visuale soprattutto dalla finestra se si è seduti la porta è molto distante dalla scrivania ed è anche quella un po' oscurata soprattutto nella parte bassa quindi il portiere per essere sicuro di non aver visto nessuno entrare sarebbe dovuto stare tutto il pomeriggio rimanendo nella sua postazione lì in piedi a guardare fuori da quella finestra secondo me quindi ci sono elementi chiari che si vincono da questa foto che se il portiere fosse nel suo portierato quel pomeriggio potrebbe chiaramente non aver visto entrare l'assassino entriamo ora in quello che viene definito il giallo delle telefonate nel giallo di via Poma perché il giallo delle telefonate perché durante il processo a Raniero Busco cioè 20 anni dopo il delitto avviene un fatto importantissimo la polizia aveva da sempre avuto il sospetto che quella sera del 7 agosto del 90 poco dopo il ritrovamento del corpo di Simonetta o poco dopo l'omicidio di Simonetta qualcuno avesse telefonato dall'ufficio dell'AIAG di via Poma a qualcun altro e questo aspetto era sempre balenato ora vedremo perché succede che durante il processo a Raniero Busco viene interrogato perché si presenta lui di sua spontanea volontà dicendo che ha qualcosa da dire macinati chi è macinati il signor macinati era il fattore il factotum dell'avvocato caracciolo il presidente dell'AIAG che cosa viene a dire macinati viene a dire quella sera del 7 agosto del 90 io ricevetti due telefonate ok che provenivano da via Poma perché macinati avrebbe ricevuto quelle telefonate perché vi ricordate che l'avevo già detto all'inizio siccome quando si ritirava nella sua villa di campagna l'avvocato caracciolo non voleva essere disturbato da nessuno perché era in vacanza lasciava e non aveva il telefono nella sua villa di campagna lasciava come numero di riferimento come recapito solo per le emergenze quello del suo fattore del suo factotum macinati appunto la casa di macinati però distava 16 chilometri dalla villa di campagna di caracciolo e si recava infatti ogni tanto quando doveva fare dei lavori di manutenzione o per gestire il giardino durante il giorno chiaramente con la luce del sole perché erano strade di campagna dissestate quella sera infatti quando riceve quelle due telefonate macinati dice c'era una voce maschile dall'altro capo del telefono che mi diceva buonasera chiamo da via Poma e ho urgentemente bisogno di caracciolo lo vado a chiamare macinati dice vabbè vado domani mattina con la luce del sole perché io non mi faccio 16 chilometri al buio nella strada sterrata piena di buche il problema il problema è che poi questa persona richiamerà alcune ore dopo a macinati gli dirà ma allora ha contattato caracciolo sì o no quindi quest'uomo è convinto che macinati sia andato a chiamare caracciolo ma così non è chi è quell'uomo che telefona da via Poma per due volte a macinati cercando caracciolo perché chiama da via Poma quella sera è evidente che ha qualcosa a che fare questo fatto per forza di cose con l'omicidio perché altrimenti non si spiegherebbe perché quella sera avvengono queste telefonate di emergenza che cercano l'avvocato caracciolo macinati si presenta quindi nel 2010 dice io ho ricevuto queste due telefonate per l'esattezza la prima di queste due telefonate viene ricevuta dalla moglie di macinati cioè lei che risponde e poi passa al marito perché chiaramente non sapeva che cosa volesse quest'uomo ebbene l'avvocato caracciolo interrogato su questi fatti cioè se è vero che macinati il giorno dopo gli disse di aver ricevuto queste telefonate e gli disse che cosa voleva quest'uomo ebbene l'avvocato caracciolo fa qualcosa di incredibile cioè anziché negare come io mi sarei aspettato il fatto scredita macinati cioè non dice non è vero non ho nulla a che fare non sapevo nulla dell'omicidio finché mi è stato riferito e non sono assolutamente vere quelle telefonate e invece dice qualcos'altro cioè scredita macinati dice è un uomo ignorante in sostanza ha iniziato a lavorare a sette anni lasciando la scuola e quindi dice testuali parole ora lo sentiremo nessuno ha mai preso sul serio qualcosa detto da macinati cioè lo discredita in quanto ignorante in quale momento ha saputo del delitto cerchi di ricordarlo bene io non me lo ricordo io so che la mia sensazione è che è venuto da me in campagna il signor Sibilia la mattina dopo un altro giorno dopo non lo so e mi ha comunicato di questo fatto non conoscendo non essendo dipendente dell'associazione non altro a parte il naturale dolore non potevo esprimere altro nei confronti di una persona che riguardava interesse riguardava un'altra società che era dipendente di altri lei ricorda se qualcuno l'ha cercata la sera del 7 agosto 90 telefonicamente lei aveva il telefono nella tenuta di Tarano no io non l'avrei me ne ricorderei perché ecco quindi lei non aveva un'utenza fissa nella sua residenza di Tarano io quando andavo in campagna desideravo stare con la tranquillità io ho messo il telefono quando ho avuto mia madre che stava poco bene allora avevo necessità del telefono e come recapito aveva lasciato il numero fisso di casa del suo fattore Mario Macinati siccome Macinati era la persona che era più vicina a me in quel periodo sicuramente ho detto nel caso telefonata a Macinati Macinati ha lavorato da quando aveva 7 anni ha una vita difficile davanti a sé scusi io non cioè non non le prenderei cioè noi non le prendiamo ha avuto una vita difficile cioè voglio dire cioè noi intendo dire noi il paese questo tutti quanti non prenderebbero mai sul serio una frase di Mario Macinati in qualsiasi momenta detta davanti alla corte dica la verità dica la verità noi vogliamo sapere se lei la mattina successiva è andato ad avvertire l'avvocato sì 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 Macinati è venuto ad avvertirla no che la cercavano urgentemente dagli ostelli no lei vuole escludere in quest'aula che il signor Macinati le abbia riferito di aver ricevuto una telefonata da via Poma lo vuole escludere sotto giuramento eh lo escludo io non lo escludo lei sa quando poi è andato a riferire di queste telefonate la mattina dopo quando è andato al lavoro diciamo quando è salito sopra in villa è andato al lavoro ma lei non si sarebbe dovuto diciamo così arrabbiare se il suo factotum ricevute ben due telefonate in ora serale in cui si rappresentava l'urgenza di parlare con lei non l'avesse avvertita ma io non scusi se io non lo sapevo beh poi l'ha saputo ma non l'ho saputo mai no no prego prego dica è una cosa che so adesso nel 2010 chiaramente non è possibile andare a riprendere i tabulati nel 90 per vedere se effettivamente partirono due chiamate dagli uffici di via Poma verso la casa di Macinati e quelle chiamate quindi rimarranno sempre un mistero ci furono non ci furono Macinati rispose Macinati andò subito da Caracciolo ad avvertirlo o andò con tutta probabilità la mattina dopo a dirli che l'avranno cercato con urgenza dall'ufficio di via Poma ma perché cercano l'avvocato Caracciolo il presidente dell'IAG da via Poma se hanno trovato il corpo di Simonetta se qualcuno ha trovato il corpo oppure se l'assassino ha compiuto il delitto perché chiama Caracciolo perché non chiamano la polizia se hanno trovato il corpo è uno dei tanti misteri legati a queste appunto telefonate ma la polizia al pubblico ministero Calò fa un altro perché vi dicevo poco fa c'è un altro fatto molto importante legato alle telefonate il fatto è questo alcuni giorni dopo il delitto vengono restituiti gli effetti personali di Simonetta Cesaroni alla famiglia quando vengono restituiti questi effetti personali alla famiglia il padre di Simonetta trova un'agendina rossa con la scritta lavazza tra gli effetti personali che però non era un'agendina di Simonetta i genitori aprono l'agendina e guardano a chi apparteneva e il nome scritto del proprietario è Pietro Vanacore il portiere l'agendina venne riportata alla polizia e da lì poi non si sa più nulla cioè l'agendina scompare ora sentiremo anche un agente della polizia che dice non sappiamo più nulla di quella agendina quando è stata riportata dal padre di Simonetta è scomparsa non sappiamo più nulla il pubblico ministero fa questa ricostruzione l'agendina di Vanacore è stata ritrovata nell'ufficio di via Poma come testimonia al fatto che fu ridata ai genitori di Simonetta pensando che appartenesse alla vittima insieme a tutti gli altri oggetti ebbene Petrino Vanacore quindi era in quegli uffici quella maledetta sera e ha tirato fuori la sua agendina rossa per telefonare a Caracciolo cioè la voce maschile che telefona per due volte a Macinati era secondo il pubblico ministero Petrino Vanacore che scoperto il corpo non chiamò la polizia ma chiese al presidente dell'AIAG che cosa fare o meglio voleva chiedere a Caracciolo che cosa fare ma trova il solo Macinati che non lo va a avvertire e quindi Petrino Vanacore lo richiama una seconda volta alcune ore dopo aver trovato il corpo e probabilmente viene interrotto in questa seconda telefonata dice il pubblico ministero dall'arrivo della sorella Paola e del gruppetto di persone che cerca Simonetta forse è proprio per questo che la portiera prende tempo fa aspettare le persone che cercano Simonetta per dare la possibilità a Petrino di richiudere la casa e di tornare su a casa dell'architetto Valle che infatti disse che arrivò più tardi quella sera del solito Petrino Vanacore cosa vi è stato restituito? allora quando mio marito ha chiesto il dissequestro della borsa le sue agendine e c'era un'agendina dentro che non era sua me ne sono accorta io perché era un'agendina con la scritta Lavazza sì non era sua l'abbiamo aperta e c'erano scritti tutti i nomi di Vanacore a quel punto mio marito ha telefonato io non so se al dottor Gobbi al dottor Del Greco insomma ha chiamato alla polizia sì e l'ha riconsegnata tra Simonetta e Vanacore c'era un qualsiasi tipo di rapporto per cui lei potesse avere quella rubrica mai in borsa ma non credo assolutamente è entrato negli uffici degli ostelli dalla porta verosimilmente succhiusa ha scoperto il corpo della ragazza seminuda e coperta di sangue nell'ufficio del direttore del dottor Carboni ha pensato ad un incontro clandestino finito male non ha chiamato la polizia è andato nell'altra stanza ha telefonato dimenticando l'agendina Lavazza sul posto l'agenda di quella agendina rossa Lavazza c'erano i numeri di volponi bizzocchi il problema è che questa agendina non è stata trovata dunque è stata restituita è stata restituita da papà di Simonetta alla polizia e poi si sono perse le tracce va beh quindi il portiere è entrato ha scoperto il corpo prima della sorella della ragazza ha fatto quelle telefonate perché nessuno ci dice che fino hanno fatto queste telefonate e sarebbe interessante sapere qualcuno ha risposto nessuno ha risposto nell'uscire ha preso le chiavi e si è chiuso dietro la porta chiave con queste chiavi perché Vanacore è semplice portiere si assume la responsabilità di alternare la scena del crimine sottraendo le chiavi e criandosi la porta alle spalle e se qualcuno gli ha risposto perché non gli ha detto chiama la polizia perché noi non c'entriamo niente il punto è questo sulla base degli elementi di prova acquisiti vi è motivo di ritenere che suo marito avesse scoperto il corpo suo marito le ha mai confidato questo no se aveva qualcosa da dire me l'avrebbe detto mio marito mai niente mai niente neanche successivamente mai in occasione anche della perquisizione no 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 mai ma questa ricostruzione è interessante è logica ma io avrei preferito anche sapere il perché Vanacore si trova sulle scale siamo intorno a 2 ore 20 l'ora in cui tutti i portieri del mondo si godono un meritato riposo e allora che dobbiamo pensare che Vanacore facesse la ronda per le scale alle 20 del poveriggio alle 20 di sera in un accesso di zelo lavorativo mi pare fuori dalla realtà i giudici chiaramente dicono ma su quell'agendina di Petrino Vanacore c'erano i numeri di Caracciolo o di Volponi o di Macinati come referente di Caracciolo eccetera il problema è che non fu mai fatta questo approfondimento perché l'agendina scomparve quando fu restituita la polizia non sappiamo che numeri c'erano ma il pubblico ministero dice è ipotizzabile che se Petrino Vanacore la tirò fuori e la dimenticò lì magari perché messo in agitazione dall'arrivo di quelle persone che cercavano Simonetta e volevano salire su probabilmente l'aveva tirata fuori perché aveva il numero e se noi sappiamo da Macinati che telefonò un uomo due volte da Via Poma quella sera probabilmente era Petrino Vanacore parliamo ora delle piste alternative riguardanti il delitto di Simonetta Cesaroni piste alternative perché non furono mai approfondite benché fossero avvenuti dei fatti molto interessanti e molto strani che avrebbero invece portato alla possibilità dell'apertura di piste alternative veramente alternative cioè che coinvolgevano soggetti diversi da quelli fino ad ora comparsi in questo caso cioè non riguardavano Volponi non riguardavano Regnero Busco non riguardavano Caracciolo né Vanacore né Federico Valle la prima di queste piste alternative nasce proprio alle ore 16 del 7 agosto cioè qualche ora prima che Simonetta fu uccisa perché alle ore 16 del 7 agosto perché un maresciallo dei Carabinieri che era fuori da via Poma numero 4 però perché abitava lì e aspettava l'arrivo dell'auto di servizio che lo prelevasse questo maresciallo dei Carabinieri dice alle ore 16 mi si presenta davanti un giovanotto un giovane di circa 20 anni che mi chiedeva con fare molto agitato e maleducato dice testualmente il Carabiniere mi chiedeva dove fossero gli uffici dell'AIAG di via Poma noi eravamo fuori dal 4 che è il portone a fianco al 2 gli indicai il 2 e lui entrò in via Poma numero 2 questo ragazzo quindi chiede proprio dove stavano gli uffici in cui c'era Simonetta in quelle ore perché sono le 16 il punto è che a quell'ora dopo le 15 come sapete gli uffici chiudevano al pubblico arrivava Simonetta faceva il lavoro di contabilità ma nessun altro poteva entrare men che meno un estraneo probabilmente questo ragazzo arrivò lì e andò lui dice dalla portiera Giuseppa a chiedere dove fossero questi uffici rimase dice il maresciallo dei Carabinieri questo ragazzo dai 10 ai 15 minuti dentro lo stabile di via Poma 2 poi uscì e se ne andò venne fatto dal maresciallo dei Carabinieri l'identikit chiaramente di questo ragazzo perché venne cercato nell'emiliatezza dei fatti ovviamente l'identikit fu diffuso per la prima volta al pubblico durante la trasmissione della RAI telefono giallo ora vedremo lo spezzone viene diffuso questo identikit su esplicita richiesta della polizia perché la polizia vuole che questo ragazzo vada a dire che cosa ci faceva lì che cosa è successo se ha visto Simonetta chi era quel ragazzo perché chiedeva con tanta furia dove era la la sede dell'ufficio degli alberghi della gioventù quel giovanotto non si è mai più fatto vivo e dire che forse avrebbe tutta la sicurezza di farsi vivo perché questo incontro avviene alle 16.30 circa e cioè un'ora prima di quella telefonata 5.30 dalla quale nel momento nel quale sappiamo che Simonetta era sicuramente viva quella in cui telefona alla sua amica di questo di questo ragazzo di questo giovane uomo noi abbiamo oggi vi vogliamo mostrare per la prima volta l'identikit l'identikit che la polizia ha fatto eccolo qua e che dobbiamo alla cortesia della squadra mobile di Roma questo identikit non era ancora in circolazione fino a questo momento che d'intesa ce l'ha fornito d'intesa con l'autorità giudiziaria ed è un identikit ovviamente elaborato dalla polizia scientifica vedete l'ovale tondeggiante gli occhiali dalla montatura abbastanza caratteristica i capelli corti sono tutti elementi che ovviamente occhiali e capelli potrebbero essere cambiati oggi ma noi dobbiamo soprattutto rivolgerci alla coscienza di questo ragazzo che forse probabilmente è in ascolto in questo momento non si seppe più nulla di questo ragazzo di questo identikit fu mai trovato furono fatti gli accertamenti su di lui approfondimenti eccetera sono andato io a cercare delle notizie delle novità e l'ho trovate su Repubblica il giornale per cui scriveva Radice il giornalista che abbiamo trovato molte volte nel corso del nostro racconto con le sue testimonianze e la cosa che scopro sobbalzando sulla sede è che questo ragazzo non contattò la polizia o la trasmissione Telefono Giallo ma contattò proprio Radice perché è il giornalista più in voga che si occupava del caso probabilmente in quel periodo e perché anche lui era presente tra l'altro nella trasmissione come abbiamo visto di Telefono Giallo dedicata al diritto di Via Poma e c'è questo articolo di giornale che io trovo su un giornale dell'epoca una copia di Repubblica e Radice dice sono stato contattato mi ha telefonato il ragazzo dell'identikit delle ore 16 di Via Poma che cosa dice questo ragazzo Radice vuole chiarire la sua posizione e gli dice guarda scrivi un articolo in cui ti racconto quello che è successo quel pomeriggio è vero alle 16 circa mi sono recato presso l'ufficio della EG di Via Poma il carabiniere che mi ha visto a cui io ho chiesto davvero dove fossero gli uffici di Via Poma ha detto che ero agitato e maleducato ma perché avevo parcheggiato in doppia fila vicino ai cassonetti dell'immondizia e quindi volevo sbrigarmi perché non avevo trovato parcheggio non avevo molto tempo e avevo parcheggiato in doppia fila sono entrato in Via Poma 2 dove mi aveva indicato e ho cercato appunto la portiera gli ho chiesto degli uffici lei mi ha detto sono chiuso al pubblico a quest'ora e quindi me ne sono andato quello che dice di aver fatto il giovane contrasta un po' con ciò che ha detto però al maresciallo dei carabinieri perché il maresciallo dice almeno 10-15 minuti è stato dentro ma se il ragazzo effettivamente entrò andò dalla portiera chiese gli venne detto che non poteva salire perché era chiuso e quindi se ne andò ci avrebbe messo 5 minuti massimo quindi o non è vero che il ragazzo andò soltanto dalla portiera a chiedere oppure ci mise un po' più tempo per trovarla per trovare la portineria per chiedere magari la portiera era occupata eccetera eccetera questo non lo potremo sapere mai quello che sappiamo con certezza è che il ragazzo uscì non prima di 10 minuti da via Poma 2 un tempo comunque sicuramente troppo esiguo per commettere l'omicidio di Simonetta chiaramente ma magari questo ragazzo avrebbe potuto dire qualcosa di più magari è spaventato per quello che è successo dopo però magari in realtà salì negli uffici di via Poma e non incontrò per nulla la portiera suonò a Simonetta che andò ad aprire e gli dissi guarda io non posso aiutarti perché è chiuso torna domani mattina o nel primo pomeriggio e allora ecco che forse i tempi con tutto questo percorso l'incontro con Simonetta eccetera potrebbero stare negli 10 minuti e magari questo ragazzo non ha raccontato questa versione completa perché aveva paura di essere coinvolto in un diritto in cui non c'entra nulla la portiera di Luca tra l'altro interrogata sul fatto che se vide o no questo ragazzo gli chiese o no questa cosa dice che non lo ricorda chiaramente alcuni hanno creato così delle ricostruzioni un po' fantasiose su questo ragazzo che sarebbe stato invitato da Simonetta a raggiungerla in quegli uffici in quell'orario sapendo di essere sola ed ecco che il tutto si ricollegherebbe a ciò che ha detto a Volponi cioè Simonetta aveva un'altra relazione oltre a Raniero e si ricollega anche a quello che dice Volponi vi ricordate che prima nel video in cui viene interrogato diceva io posso dire solo una cosa certa su Simonetta la sua assoluta irremovibilità nel non farmi andare negli uffici perché io le chiedevo sapendo che il lavoro era lungo e andava consegnato quel pomeriggio finito per non avere grane con caracciolo io le chiesi ma vuoi una mano vuoi che vengo pur sapendo di non poter andare perché era molto impegnato quel pomeriggio ma allora perché chiede a Simonetta se vuole che vada ad aiutarla e soprattutto perché glielo chiede se non sa nemmeno dove stavano gli uffici di via Poma Volponi spiega dicendogli lo chiedevo per sapere se avesse bisogno di una mano di un aiuto ma lei era irremovibile nel dire no non si preoccupi non si disturbi finisco io il lavoro ci si potrebbe leggere qui però l'intenzione di Volponi anche di voler sottolineare che Simonetta in realtà voleva rimanere sola quel pomeriggio magari perché aspettava qualcuno e voleva assicurarsi di essere sola e che non sopraggiungesse nessuno altra pista alternativa ha secondo me ancora di più dell'incredibile perché questa storia è veramente pazzesca circa un mese dopo nel settembre del 90 un mese dopo l'omicidio arriva alla polizia un ristoratore e dice io ho visto le foto di Simonetta sui giornali e mi ricordo benissimo di averla notata perché è molto carina nel mio ristorante a cena con un uomo quell'uomo faceva il fotografo sono venuto da voi perché recentemente quindi nel settembre del 90 è tornato questo fotografo a cena da solo nel mio ristorante quindi quel fotografo dice il ristoratore era stato a cena con Simonetta più o meno nel luglio un mese prima dell'omicidio del 90 e ci è tornato nel settembre da solo mi ha insospettito molto perché mi ha chiesto lui di sua spontanea volontà senza che io gli chiedessi nulla se c'erano delle novità riguardanti il delitto di via Poma di Simonetta io gli dissi che insomma tutto quello che sta succedendo del portiere eccetera eccetera ma mi ha veramente sorpreso che lui mi avesse domandato di quel caso senza che tra l'altro io accennassi a nulla cioè non è che gli ho detto sai te l'avevo visto qua con la ragazza che è morta ha fatto tutto da solo questo fotografo io allora mi sono insospettito ho cercato di capire qualche informazione su di lui e mi ha detto gli ho chiesto che lavoro facesse insomma eccetera eccetera mi ha detto che era un fotografo di Repubblica e che era appena tornato dal Golfo Persico dove aveva fatto un servizio di fotografia la procura accertò subito che Repubblica non aveva collaboratori fotografi dispersi per il mondo perché per pubblicare fotografie dall'estero soprattutto da zone del genere come il Golfo si avvaleva delle grandi agenzie cioè acquistava le foto dalle agenzie quindi non aveva giornalisti fotografi del genere al libro paga e questo insospettì molto la polizia e il ristoratore quindi rilasciò queste dichiarazioni e perché questo fotografo sarebbe così interessante prima di tutto perché Simonetta sarebbe andata a cena con un altro ragazzo mentre stava con Raniero e qui ancora torna il ritornello di Salvatore Volponi che dice che Simonetta aveva un'altra relazione e la cosa che stupisce che mi ha stupito che mi ha fatto un'altra volta sobalzare sulla sedia come non vorreste volte vi ho detto cose nuove che scoprivo mi facevano riconsiderare tutto il caso ebbene questo fotografo appunto bisogna focalizzarsi sul fatto che era un fotografo perché? perché io vengo a scoprire a un certo punto che le fotografie le numerose fotografie che tutti voi avrete sicuramente visto se avete approfondito il diritto di via Poma o anche solo vi siete avvicinati al diritto di via Poma le fotografie che vengono sempre mostrate di cui una di quelle è anche la copertina del mio video sono le fotografie di Simonetta al mare io pensavo che quelle fotografie fossero state date dalla famiglia ai giornalisti invece no quelle fotografie di Simonetta al mare sono state sviluppate dalla polizia scientifica perché i negativi di quelle fotografie sono stati ritrovati nella borsetta di Simonetta chiaramente le aveva quindi nella borsetta il giorno che è stata uccisa perché nel 1990 si esce di casa con il rullino dei negativi delle fotografie perché si volevano farle sviluppare chiaramente altrimenti non si portavano con sé i negativi e se Simonetta avesse avuto un incontro quel pomeriggio proprio con quel fotografo e avevano le intenzioni di dargli i negativi da far sviluppare visto che era un fotografo quindi Simonetta avrebbe portato con sé quei negativi che voleva far sviluppare sono foto molto belle in cui si vede Simonetta al mare avrebbe avuto questo incontro negli uffici di Papoma con questo suo nuovo uomo che sarebbe un fotografo e avevano in piano di dare i negativi poi è successo qualcosa ed è successo quello che è successo la cosa incredibile appunto è che quei negativi se li era fatti dare pochi giorni prima del delitto Simonetta dal suo fidanzato dell'epoca che aveva quei rullini il suo fidanzato che mi pare si chiamasse Alessandro del 1989 quelle foto infatti risalgono all'estate dell'89 un anno prima del delitto per un anno li aveva tenuti il suo ex fidanzato perché non li avevano sviluppati Simonetta gli li chiede circa un anno dopo anche questo fa strano perché vuole farli sviluppare evidentemente e da chi se non da un fotografo questo fotografo tra l'altro viveva fu approfondito dalla procura che abitava nella zona Castelli di Roma e i genitori di Simonetta a un certo punto vengono insospettiti dal fatto che per due volte avevano trovato sulla tomba di Simonetta un mazzo di rose rosse molto vistoso molto grande anche avevano chiesto a tutti i suoi amici e nessuno era stato cosa fu chiaramente detta alla polizia perché era molto sospetta la polizia fece degli appostamenti al cemitero aspettando che qualcuno si presentasse con quei fiori per Simonetta ma una fuga di notizie insomma fece mangiare la foglia a colui o colei che portava le rose a Simonetta quindi non si presentò più perché era risaputo che la polizia aspettava appunto la persona che consegnasse queste rose e perché è importante e perché si ricollega la storia del fotografo perché la polizia andò a cercare il fiorista che aveva confezionato quei mazzi di rose e entrambi i mazzi di rose sono stati acquistati da un fiorista dei castelli proprio la zona dove stava questo fotografo furono fatti chiaramente tutti gli accertamenti del caso e la polizia ritenne che non c'erano elementi per approfondire le indagini su questo fotografo misterioso infine l'ultima pista alternativa è una pista che nasce ufficialmente nel 2000 quando arriva una telefonata anonima ascoltiamo la telefonata 113 113 che era questura si l'uncisore della cesarone di Roma come? l'uncisore della cesarone di Roma è stato il socio del padrone perché quella ragazza aveva scoperto un giro un giro di cosa come si chiama di strozzinaggio da parte del padrone che era registrato solo nel computer da quella telefonata anonima che a differenza di molte altre che ne sono arrivate è sembrata più credibile le indagini hanno ripreso un po' vigore allora perché lei non lo dicesse il socio l'ha uccisa facciano queste indagini ma lei chi è? eh non posso dirlo è troppo facile comunque facciano questa indagine già un'altra volta ho cercato una cosa se fate questa indagine voi altri scoprirete la verità arrivederci buonasera ebbene quindi questa persona che telefona e non dice nemmeno il suo nome dice di indagare sull'IAG in sostanza dice che Simonetta è stata uccisa da qualcuno per conto dell'IAG o qualcuno dell'IAG perché aveva scoperto dei giri strani dei fondi strani non legali chiaramente legati agli osteli della gioventù e per questo sarebbe stata uccisa chiaramente questo fa indirizzare tutti i sospetti o su Volponi o ancora di più su Caracciolo l'allora presidente dell'IAG la cosa però l'ho sempre ritenuta io a mio modo di vedere molto strana molto poco credibile perché prima di tutto Simonetta Cesaroni svolgeva in quegli uffici un lavoro saltuario cioè era lì da poche settimane che faceva questo inserimento di dati sì contabili però non è che avesse tutta questa conoscenza o questa esperienza per trovare qualcosa di strano nei conti soprattutto Simonetta essendo appena arrivata lì a fare quel lavoro non penso avesse l'intenzione di andare a ficcare il naso in cose che non la riguardavano o che comunque potevano essere dannose per il suo datore di lavoro per quello insomma che stava facendo perché innanzitutto ritengo che appunto non avesse nemmeno le competenze per trovare qualcosa di strano per notare qualcosa di strano e non aveva nemmeno avuto il tempo in realtà e nemmeno ritengo avrebbe avuto l'interesse a comunicare di aver trovato qualcosa di strano ai suoi datori di lavoro perché avrebbe dovuto farlo in realtà questa pista sono venuto a scoprire che è una delle più puntate anche dalla famiglia di Simonetta Cesaroni cioè la famiglia la sorella Paola aveva sempre indicato il lavoro il mondo del lavoro di Simonetta più che quello della sua vita privata come quel mondo in cui cercare ciò che era successo a Simonetta il padre di Simonetta infatti continuava ad andare dalla polizia a sapere se c'era novità e diceva ma guardate che secondo me la pista giusta è nelle carte che cosa intendesse però non è mai stato spiegato ulteriormente né lui ha mai fornito ulteriori dettagli bisogna del resto chiedere poi chi è questa persona che telefona se ha creato questa storia tanto per dire per depistare i sospetti magari davvero colpevole o se magari sa davvero qualcosa di più ma se sa qualcosa di più perché non va a dire tutto ciò che sa e a che cosa si riferisce in procura anche questo è molto sospetto e secondo me getta un po' di discredito su questa pista dei fondi neri dell'Iag vi voglio parlare adesso di alcune fotografie che ho visto e notato nel libro in un altro libro che vi consiglio di leggere se siete interessati a questo caso di Igor Patruno che si intitola La ragazza con l'ombrerino rosa e nel libro di Igor Patruno dedicato al diritto di Via Poma ho notato queste fotografie la prima fotografia che vi voglio far notare riguarda una molletta per i capelli che è stata fotografata accanto al corpo di Simonetta vicino alla testa della vittima guardiamo bene la foto e l'ingrandimento della foto quella molletta è una molletta di una molla per capelli la classica molla per capelli a morso che si usava molto in quegli anni è una molla per capelli nera che Simonetta Cisarone chiaramente indossava il giorno in cui è stata uccisa perché c'è questo ingrandimento della molla della molletta perché quella molla presenta innanzitutto uno schizzo di sangue che non so se è visibile dalla foto nel video però c'è un microscopico schizzo di sangue sulla molla il che sta ad indicare secondo me che Simonetta Cisarone aveva indossava la molla per i capelli quando fu aggredita e probabilmente la perse cioè si ruppe la molla per i capelli quando Simonetta fu sbattuta a terra quindi con grande violenza secondo me dal suo assassino quando la colpì alla tempia destra vedendo la foto di quella molla della molletta per capelli mi sono detto ma quindi c'era una molletta per capelli dove è finita sul luogo del delitto e guardando un'altra foto quella più completa del cadavere di Simonetta che ora vi mostro si vede a terra contrassegnata dalla lettera A dei reperti appunto la molla nera per i capelli di Simonetta fu trovata rotta in due pezzi e la molla di quella molletta quindi è stata ritrovata vicino ai capelli di Simonetta ma se Simonetta mi sono chiesto è stata sbattuta a terra così violentemente quando fu colpita la tempia e quindi probabilmente perde i sensi abbiamo detto e poi è stata accoltellata ecco che io ho ricollegato quella molla per capelli che si ruppe al momento dell'inizio dell'omicidio alla possibilità che Simonetta cadendo finì con il seno sinistro sulla dentatura di quella molla per capelli ed ecco che si spiegherebbero le due lesioni al seno quelle che l'accusa di controllo nero busco aveva fatto ricondurre appunto al morso di quest'ultimo ebbene e se il morso famoso sul seno di Simonetta non fosse che i segni della molla per capelli che appunto assomiglia tra l'altro ad un morso anche nella sua forma Simonetta è stata sbattuta a terra con grande violenza del resto perché il medico legale ci dice con tutta probabilità perse i sensi o comunque rimase fortemente estordita prima di essere pugnalata da quel colpo che la fece cadere a terra con grande violenza ebbene se si ruppe la molla per capelli in quell'occasione è probabile che Simonetta essendo appunto già a seno scoperto finì sulla molla e proseguendo nella lettura del libro di Igor Patruno poi mi imbatto anche in un'altra fotografia molto interessante che ci ricollega poi ad un altro discorso questa che vi mostro è la parete del bagno degli uffici di Via Poma degli uffici dell'Aiag io noto su quella parete del bagno una macchia che vi metto in evidenza e mi sembra essere probabilmente una macchia di sangue ma non è che allora l'assassino o chi ha ripulito la scena del crimine è andato in quel bagno a recuperare magari gli stracci per pulire la scena e quindi ha macchiato di sangue per la strada la parete vicino al bagno il problema è che quella macchia non fu ritenuta importante della polizia non fu repertata e non fu mai analizzata perché mi ricollego ad un altro discorso da questa macchia sulla parete del bagno perché il 10 di agosto soltanto tre giorni dopo un omicidio del genere che si svolge all'interno degli uffici dell'Aiag soltanto tre giorni dopo gli uffici dell'Aiag ritornano nella disponibilità appunto dei legittimi proprietari cioè la polizia dissequestra la scena del crimine il 10 di agosto il problema è che tutti erano convinti di aver trovato il colpevole il piedrillo Varacore e hanno trascurato tutte le altre possibili tracce e da lì diciamo da quell'errore ne sono derivate tutta una serie di errori per esempio tanto per dirmi una hanno fatto un esame superficiale del luogo dove è venuto l'ovicidio dell'appartamento lo hanno sequestrato a distanza di giorni sono accorti della macchia di sangue altri giorni l'altra macchia di sangue e subito dopo lo hanno riconsegnato a distanza di tre giorni lo hanno riconsegnato all'associazione e appena hanno avuto le chiavi in mano il presidente dell'associazione è mandato dietro una squadra di operai che ha rivoltato da cima a fondo l'appartamento e la prima cosa che fanno negli uffici dell'Aiag i proprietari dell'Aiag è pulire totalmente gli uffici questo del resto è comprensibile se c'è stato un omicidio del genere c'è bisogno di ristrutturazione di mettere un po' tutto a posto però la rapidità con cui viene fatto questo un po' ci sorprende e è stato chiaramente imbiancato riverniciato tutto quanto tutte le tracce sono praticamente scomparse tra cui anche quella su quel muro del bagno che avrebbe potuto essere sangue la cosa poi interessante è che gli uffici dell'Aiag vengono tirati a lucido ma non viene cambiata la serratura non risulta che fu cambiata la serratura della porta come sapete l'assassino ha portato via dalla borsetta di Simonetta la copia delle chiavi di Simonetta degli uffici dell'Aiag perché i proprietari dell'Aiag mettono a lucido l'ufficio e non si preoccupano di cambiare la serratura nonostante l'assassino una persona quindi pericolosa ha rubato un mazzo di chiavi di solito quando sparisce un mazzo di chiavi perché viene rubato la prima cosa che si fa è cambiare la serratura non risulta che l'Aiag cambiò la serratura perché? forse perché si sapeva chi prese quelle chiavi e quindi non c'era il pericolo che uno sconosciuto tornasse negli uffici concludiamo ora questo video parlando degli errori che secondo me sono stati fatti fin dall'inizio dagli inquirenti e da chi investigava il primo errore che io reputo gravissimo è che non esiste una fotografia e mi viene in soccorso anche Radice il giornalista Radice non esiste una fotografia del palazzo di quel giorno e di quelle ore di via Poma cioè noi non sappiamo la polizia non ha mai accertato quante persone e chi era presente nello stabile di via Poma 2 quel giorno nelle ore in cui fu uccisa Simonetta e nelle ore in cui fu trovata il suo corpo cioè la polizia non andò a interrogare tutti coloro che erano presenti in via Poma non andò a cercare in tutte le case qualche indizio chi ci dice che l'assassino al sopraggiungimento della sorella Paola e del gruppetto che cercava Simonetta non si nascose nella casa di qualcuno o da qualche parte nel palazzo nessuno ce lo dice perché non c'è una fotografia nessuno andò a vedere in tutte le abitazioni chi era presente era una cosa che la polizia poteva fare benissimo perché è stata uccisa una ragazza con 29 coltellate certamente non è entrata in tutti gli appartamenti di quel palazzo chi può escludere oggi del tutto che non ci fosse qualcuno dentro uno di quegli appartamenti c'era un ignoto ignoto è rimasto perché la polizia se n'è andata il palazzo è rimasto incontodito la polizia non cerca nell'immondizia la ragazza è stata trovata nuda dove sono i suoi vestiti questo successivamente come sappiamo la polizia ipotizzò che l'assassino tolse tutti i vestiti di Simonetta li portò via perché li usò per pulire un po' la scena del crimine e perché probabilmente ferendosi durante l'accoltellamento aveva sporcato con il suo sangue gli aveti di Simonetta e non poteva lasciarli lì ma chi non ci dice che per non portarseli dietro o per troppa strada non li buttò in uno dei cestini del palazzo o lì intorno la polizia non va a cercare nell'immondizia le tracce quando pensa di farlo ormai il camion della netezza urbana è passato già da un bel po' e quindi tanti saluti e poi un ritornello che purtroppo accompagna spesso i casi di questo genere la scena del crimine è stata inquinata non soltanto dal gruppetto di quattro persone che comprensibilmente entra a cercare Simonetta e quindi sporca sicuramente lascia delle tracce in giro ma sulla scena del crimine subito dopo il trovamento di Simonetta entra troppa gente persone anche sconosciute nessuno sa con esattezza chi entrò dentro quegli uffici probabilmente c'entrò anche Petrino Vanacore perché nell'immidiatezza dei fatti appunto Vanacore era lì presente e con tutta probabilità entrò anche lui a vedere che cosa era successo quando la polizia appunto arrivò e si fece aprire la porta e poi andò a chiamare i soccorsi se non sbaglio tra l'altro ho letto in uno degli articoli dell'epoca che proprio Petrino Vanacore fu visto entrare quella notte del ritrovamento negli uffici di via Poma quando c'era ancora la polizia lì a fare il sopralluogo a fare le prime fotografie quando fotografò il tagliacarte la postazione di Simonetta il corpo eccetera eccetera vi ricordate che rimasero dei poliziotti a sorbagliare la scena fecero degli errori imperdonabili di cui abbiamo già parlato prima spensero il computer accidentalmente cancellarono la segreteria telefonica del telefono di Simonetta eccetera e se non sbaglio avevano dichiarato che Petrino Vanacore entrò non proprio dentro ma almeno attraverso la soglia degli uffici di via Poma per guardare io ho fatto questo tipo di costruzione che però è soltanto un'ipotesi una mera ipotesi senza alcuna ovviamente prova è solo un mio pensiero ma non è che Petrino Vanacore si ricordò di aver dimenticato l'agendina e pensando che se la polizia l'avesse trovata per lui sarebbero stati guai sulla scena del crimine probabilmente Petrino Vanacore secondo me rientrò negli uffici ripensando di aver scordato l'agendina per cercare di recuperarla senza dare nell'occhio però la presenza di alcuni poliziotti era un po' un rischio troppo elevato per Petrino perché se lo avessero colto sul fatto mentre cercava di portarsi via l'agenda sarebbe stato per lui un grave problema a spiegarlo quindi alla fine penso che rinunciò a fare quello e si allontanò pensando che comunque anche se l'agendina fosse stata ritrovata e fosse ricondotta a lui perché c'era il suo nome si sarebbe potuto inventare qualcosa diciamo per giustificarlo mentre non si sarebbe potuto giustificare colto sul fatto mentre la recuperava è entrata quindi troppa gente su quella scena del crimine la scena del crimine è stata certamente inquinata magari altre tracce che potevano essere rinvenute sono state coperte dai soccorritori o dalle persone numerose persone che sono entrate che non dovevano entrare non c'erano gli accorgimenti lo dice già Garofano numerose volte nel 1990 certamente non c'erano gli accorgimenti che ci sono oggi per non inquinare la scena del crimine anche dagli stessi inquirenti dalle stesse poliziotti e un altro fattore importante un altro errore importante che è stato fatto è questo la polizia da subito abbiamo visto prima fu sorpresa dal fatto che non c'era sangue sulla scena del crimine se non quella gora dietro la nuca di Simonetta quindi ipotizzò subito anche da quello struscio di pulizia di sangue che abbiamo visto nella foto prima che ora vi rimostro sembra proprio che con degli stracci o con i vestiti di Simonetta l'assassino o chi ha ripulito la scena tolse il sangue la polizia quindi pensò subito che il sangue fosse stato lavato con degli stracci perché non va a sequestrare gli stracci subito degli uffici dell'aereo per analizzarli per cercare il sangue infatti come vi ho detto la polizia del greco che era il capo della squadra omicidi andò subito a controllare gli stracci e abbiamo visto prima di se erano umidi molto sospetto per la notte di agosto quando le pulizie vengono fatte al mattino ma perché non li sequestrano subito quelli stracci questo è un errore perché la polizia poi ci ripensa ma va a sequestrarli 13 giorni dopo il 20 di agosto e chi ci dice che quelli stracci non siano stati sostituiti anche comprensibilmente di fatti quelli stracci che saranno analizzati però 13 giorni dopo l'omicidio risulteranno privi di tracce di sangue che fosse umido a quell'ora di notte a me sembrò strano gli stracci per la la per terra durante i bagnati in terreno della scapuzzino ad un'analisi successiva non hanno rivelato tracce nematiche la raccomandazione è interessante soltanto che non è sicura perché gli stracci bagnati in notte del mattino siano ancora bagnati alle 2 di notte a distanza di 17 ore di agosto non servono bagnati neanche di inverno figuriamoci di agosto ma il discorso è ancora un altro gli stracci non sono stati sequestrati la notte del 7 sono stati sequestrati l'appartamento era già nella disponibilità dell'AIA ma siamo veramente sicuri che gli stracci esaminati fossero gli stessi presenti nella zona dell'omicidio siamo quindi giunti alla conclusione di questo video dedicato al diritto di via Poma che cosa possiamo dire che questo è uno dei cold case cioè dei casi risolti italiani che più fa parlare ancora ad oggi e che più avvolge un mistero all'interno di tantissimi altri misteri e di gialli secondo me per risolvere questo caso ormai 32 anni dopo è necessario che qualcuno che sa parli che qualcuno che sa che cosa è successo o possiede delle informazioni sull'omicidio di simonato cesaroni è ora che dica tutto ciò che sa speriamo che abbia veramente un sussulto di coscienza e vada dalla polizia a dire tutto quello che sa potrebbe farlo secondo me sicuramente la portiera Giuseppe De Luca Pedrino Vanacore purtroppo è deceduto non c'è più ma lei sicuramente ha conoscenza di qualcosa che non è mai stato rivelato deve andare a dire tutto quello che sa alla polizia anche se questo potrebbe gettare una qualche colpa sulla memoria del povero Pedrino Vanacore chissà potrebbe avvenire che qualcuno si ricorda qualcosa di quel giorno che potrebbe sembrare per lui o per lei chiunque sia indifferente e che per noi invece potrebbe aprire se non proprio spalancare aprirci una piccola fessura per poi lavorarci dentro inoltre sono altresì convinto che se quel caso quel delitto fosse avvenuto soltanto una decina di anni dopo all'inizio del 2000 o ancora qualche anno più tardi sicuramente il caso sarebbe stato risolto veramente nel giro di pochi giorni perché certamente gli sviluppi della scienza e della polizia scientifica che ci sono stati durante gli anni 2000 avrebbero consentito di trovare tracce che certamente non furono trovate negli anni 90 tracce che avrebbero potuto portare appunto all'identificazione dell'assassino già all'epoca essendo tracce più fresche tracce magari contenenti il DNA dell'assassino se avessimo potuto disporre degli strumenti che abbiamo adesso all'epoca di questo delitto probabilmente questo delitto lo avremmo risolto in 3-4 giorni concludiamo quindi facendo una ricostruzione legata proprio alle tracce che ci sono state l'assassino di Simonetta Cesaroni possiamo dire con certezza che possiedesse sangue di gruppo A quindi come rivelano le tracce sulla maniglia all'interno della porta e sul telefono degli uffici poi ci sono delle tracce di sangue nell'ascensore una è di Simonetta l'altra è di uno sconosciuto all'interno dell'ascensore c'è sangue sul pulsante di arresto in alto dell'ascensore il che indica potrebbe indicare come abbiamo detto prima che quel fagotto inzuppato di sangue di Simonetta che l'assassino si è portato via lo ha fatto cadere dall'alto verso il basso sul lato esterno dell'ascensore fin giù nelle cantine dove quello struscio sembra proprio indicare che qualcuno recuperò un fagotto insanguinato nelle cantine avendolo fatto cadere dal terzo piano ma se confidiamo in questa ricostruzione questo significa che l'assassino conosceva bene lo stabile di via Poma perché sapeva che da lì il fagotto sarebbe finito nelle cantine e che dalle cantine sarebbe potuto fuggire dall'edificio F senza avere necessità di alcun tipo di chiave ma questo avrebbe potuto saperlo soltanto qualcuno che conoscesse appunto la struttura di via Poma oppure qualcuno aiutato da qualcuno che conosceva la struttura di via Poma non dimentichiamoci però quella macchia di sangue nei lavatoi il riso ha detto è sangue umano ma la macchia è talmente degradata che non possiamo dire né il gruppo sanguigno né tantomeno che appartenesse quel sangue però secondo me quel sangue è legato al delitto di via Poma ebbene può darsi che l'assassino quindi si sia ripulito nelle lavatoi dopo e si è fuggito quindi dai tetti dei lavatoi ma lì avrebbe dovuto avere le chiavi e soltanto il portiere e alcuni condomini le avevano molte incertezze e molti dubbi legati poi al comportamento di Petrino Vanacore e di sua moglie quella macchia grattata via dal muro della cantina di Petrino Vanacore tutti elementi che hanno fatto sospettare molto e ancora oggi fanno sospettare molto che Petrino Vanacore non fu l'assassino ma aiutò coprì il colpevole probabilmente fu lui ad effettuare quelle telefonate se mai avvennero davvero quelle telefonate amacinati cercando l'avvocato Caracciolo quella sera per ben due volte oppure telefonò anche a Volponi ed ecco perché Volponi aveva il telefono sempre occupato quando la sorella Paola lo cercava una cosa poi molto molto sospetta e incredibile sono quelle elevatissime tracce di sangue che abbiamo visto sul telefono il sangue di gruppo A quindi dell'assassino che risultano notevoli sul perimetro del telefono sui tasti 789 ma anche sul tasto dell'autoparlante abbiamo detto già prima che quel tasto serviva soltanto per ascoltare o i messaggi della segreteria in viva voce o per ascoltare qualcuno che parlasse e dire dal telefono ma non si poteva interloquire senza alzare la cornetta però il sangue non c'è sull'impunatura della cornetta quindi o l'assassino ascoltò la segreteria e cancellò i messaggi cosa che può darsi perché magari aveva telefonato qualcuno aveva lasciato dei messaggi qualcuno che cercava Simonetta oppure pronuncia il nome dell'assassino perché sapeva che si sarebbe dovuto trovare lì in quelle ore e quindi cancella i messaggi l'assassino oppure effettivamente telefonò qualcuno l'assassino e lo ascoltò parlare per farsi dire che cosa fare in viva voce mentre agiva tutti i misteri veramente incredibili e poi quel tagliacarte sarà l'arma del diritto è stato ripulito così a fondo perché era l'arma del delitto e chi sapeva che quel tagliacarte andava riposizionato sulla scrivania della Sibiglia con questo è tutto vi ringrazio per la pazienza e la visualizzazione e vi do appuntamento al prossimo video viene dipinta come una persona dallo sguardo glaciale lei come si sente? non mi sento perché forse da tutte le disavventure avute allora forse a qualcuno no? do quell'impressione cosa si aspetta dal futuro di questa vicenda? spero che venga e sono convinto che la giustizia fa il suo dovere e che porti a termine e avere la soddisfazione di vedere in faccia chi ha commesso il mal fatto e per sé e per me arriverà la serenità grazie a tutti